Signore e signori, benvenuti al primo episodio del PoliQuiz Show. Non è il primo, non è il primo. È stato un errore, è l'emozione. Ho detto il primo episodio, siamo al terzo, ma questo è un altro discorso. Signori, buonasera, benvenuti a tutti quanti al terzo episodio della seconda stagione del PoliQuiz Show. Sì, è il terzo, sono un attimo confuso, l'emozione gioco brutti scherzi i primi minuti di ogni episodio. E siamo qua per vedere come andrà a finire. Come andrà a finire perché questo è il terzo episodio. Facciamo un riassunto per chi non sapesse che cos'è il PoliQuiz Show e che cosa si aspetta da oggi. Oggi vedrete, ragazzi, un quiz sui videogiochi. Tutto suo, cioè tutto fatto a modo suo. A modo mio più che a modo suo in realtà, però vabbè. È un quiz particolare. Io volevo prendermi un istante perché durante il pre-live io non so cosa vi sia successo, ma c'è qualcuno che è impazzito. Io purtroppo, dico purtroppo perché vorrei prendermi un secondo per ringraziarvi, come ogni episodio sarà coerente nonostante siate andate fuori di testa nel pre-live. Ovvero non ci saranno gli alert per gli abbonamenti né tantomeno pause per ringraziare abbonamenti sub e resab. Per questo motivo, quindi, tutti coloro che verranno, che sabberanno, faranno qualsiasi cosa, verranno ringraziati solamente domani. Quindi mi dispiace. Piccola premessa prima di cominciare, e poi spieghiamo anche che cos'è. Io ho, ve lo dico letteralmente, 11 minuti fa ho tagliato il mio contratto mensile con Twitch per le pubblicità. Perché avevo promesso, come è giusto che sia, che non ci siano pubblicità per chi non è sub. Perché è giusto che il prodotto sia fruibile a chiunque, da chi è sub e chi non. Io l'ho disabilitato, mi hanno tagliato anche questo mese i fondi. Il problema è che non so se funziona immediatamente. Spero che il prima possibile, insomma, non vediate più annunci. Sappiate che io li ho assolutamente annullati dalla mia dashboard. Dicevamo, il Polyquiz Show è un quiz sui videogiochi dove ogni volta tra i concorrenti, in questo caso streamer, si sfidano in gara di conoscenza videoludica. Ed è il terzo episodio. Nel primo episodio, spoiler, abbiamo visto come vincitore nel trio Atrix Power Marco Merrino, appunto Marco Merrino. Nel secondo episodio, che ha visto come concorrenti Dario Moccia, il Masseo e Kuro Lili, Sara, ha vinto Dario Moccia. E oggi si scoprirà quale sarà il terzo vincitore. Colui che, oltre al premio che avete sicuramente visto su Instagram e anche vedrete più tardi, sostanzialmente accederà alla finale di questa seconda stagione. Ovvero, chi sarà il terzo finalista di questa stagione del Polyquiz Show. Prima di cominciare è giusto ringraziare tutti voi, o comunque tutti quelli che durante l'episodio 2 hanno voluto supportare questo progetto col Kickstarter. Un ringraziamento perché sono stati raccolti quasi 4.000 euro in tre settimane. In tre settimane sono stati raccolti 4.000 euro dalle persone, ed è una cifra esorbitante. Sappiate quindi che adesso che l'episodio lo state vedendo, arriveranno nelle prossime settimane le ricompense che vi spettano, i copioni, insomma tutto ciò che è stato, che sono le ricompense Kickstarter, e che quindi avete reso possibile tutto ciò che vedete, cioè tutto quello che vedete l'avete reso voi. Anche solamente come spettatori avete reso possibile questo terzo episodio. Prima di cominciare e di presentarvi questi tre concorrenti, che sono assolutamente di livello incredibile, c'è da fare un piccolo annuncio. Avevo detto che avrei fatto un piccolo annuncio, in realtà ce ne sarà più di uno, ma vedrete. Ed è ragazzi una cosa alla quale sto lavorando, è molto inerente al Polyquiz Show, perché dopo settimane, mesi in realtà che ci stiamo lavorando, vi posso annunciare che da settembre ci sarà una cosa chiamata Polybeatdown, che non entrerò nei dettagli perché non voglio perdere tempo, sarà un programma settimanale di quiz di qualsiasi argomento, può essere cultura videoludica, generale, Twitch, YouTube e chi più ne ha più ne metta, dove i concorrenti non sono più persone incredibili, perché siete voi che siete incredibili in un altro modo, che salvataggio alla fine cazzo, e sarete proprio voi i concorrenti, chiunque, non è nemmeno necessario essere sub, ne parleremo meglio domani, ed è la seconda cosa che devo dire, ovvero durante la live di background, cioè il dietro le quinte del Polyquiz Show. Domani alle ore 18 ci sarà la live dove vi spiegheremo tutto quello che vedete oggi, del perché, delle domande, dei round e di molte altre scelte. A settembre invece inizierà ufficialmente questo programma, chiamato Polybeatdown, con delle regole e tutto quanto che spiegherò meglio nei prossimi giorni. Ci tenevo solamente a dirvi che anche questo è in cantiere. Bene, finito il momento rompimento di palle di Mattia, e possiamo cominciare con i concorrenti. Allora, io è bello perché mi sono preparato delle cose che non dirò mai, però quella di Viking la dirò, la dirò perché è bellissima. Vi leggo cosa ho scritto. Allora, il primo concorrente è stato chiamato al primo episodio, ma pur di non venire, ha deciso di spaccarsi tutto il corpo, le gambe, la schiena, tutto quanto. Poi ho detto, ok, senti, Simo, ti chiamo per il secondo episodio. Però nel secondo episodio non era abilitato a camminare, cioè non sapeva camminare, era completamente distrutto. Al che quando io ho iniziato il terzo episodio, ho detto, ma non è che forse sono io che gli porto sfiga, cioè non è che io ogni volta che lo invito lui decide di stare malissimo, e in realtà, fortunatamente, almeno tocco ferro per lui, al momento sta benissimo, e signore e signori, il primo concorrente, dopo due rimandi, è proprio lui, Simone, in arte, Viking. Ciao, Simo. Vabbè, ciao, ciao ragazzi, ciao Poli. Sì, no, ti sollevo da qualsiasi responsabilità, stai tranquillo, non è colpa tua, però sì, non ho passato il periodo migliore della mia vita dal punto di vista della salute, ma quante soddisfazioni mi sto togliendo su Twitch in un solo, quindi bellissimo. Ho visto che indirettamente, senza saperlo, ti sei preparato ad oggi, perché hai beccato qualcosa che ti aiuterà per l'episodio di oggi. Altro non ti posso dire. La saga di Resident Evil. Io non so niente. Sì, però l'ho appena iniziato, quindi in realtà, va bene, comunque. You will see. Va bene, va bene. Va bene, Simone, ti metto momentaneamente da parte, te, peraltro, storico, che ha partecipato alla finale dell'episodio 1, alla stagione 1, quindi ha visto tutto. Passiamo al secondo concorrente. Allora, dopo un concorrente, quindi sicuro, detto, eh, Viking, stavolta viene, perché sennò mi incazzo come una bestia, ci serviva, come ogni poliquizio, noi abbiamo un trio di tre elementi, no? Abbiamo quello serio, quello serissimo, e quello un po'... che non è non serio, però è un po'... è un po' strano, no? Chiamala in questo modo, in modo positivo, cioè... Ah, io, io quando... Pazzito. Quando io ho... abbiamo cercato chi chiamare, fatalità, sono finito nella sua stream, perché stavo studiando l'elemento, e io l'ho visto fare, e vi lo giuro, ragazzi, come fosse ieri, una clip su Hollow Knight, senza, non faccio spoiler, dello sfondo di Hollow Knight, per capire se la creatura, circa a distanza di un chilometro e mezzo, fosse tipo un insetto, un dio, un'entità, un... qualcosa. e appena io ho detto, boh, cioè... è un livello incredibile, ho detto, bene, abbiamo anche il secondo concorrente, e infatti, il secondo concorrente di questo terzo episodio è proprio lui, Francesco, in arte, Sidonia. Ciao ragazzi, è un piacere essere qua. Ciao a tutti. Bello, bello. Grazie, grazie, troppo gentile, ma io sono in famiglia, oggi c'è Viking, non si sa poi chi è il terzo, ma insomma... Sì, io questa cosa, però sono... Vabbè, sono cinque anni che noi mettiamo il nome già lì, però, non so, sa molto da televisione. Cazzo le so, no, 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 finché non vedo non credo potrebbe essere un troll, quindi sicuramente c'è Viking, poi... Quello è vero, quello è vero. Beh, si è capito dunque che le domande saranno tutte su Resident Evil, di conseguenza... No, 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 no. Googlare, sto già cominciando a googlare tutto per cercare di apprendere quanto di più su Resident Evil nel minor tempo possibile, perché la sportività prima di tutto, ma vincere è ancora più importante. Sì, 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 sono d'accordo. Bene, a proposito di vittoria, è colui che... Non dico... Allora, è quotato da tutti come vincitore, e mi dispiace dirlo agli altri, però non è un favorito, perché non c'è nessun favorito qua, ve lo giuro, io per la prima volta non so chi è messo meglio, ma è la persona che per due episodi abbiamo detto io e gli altri scrittori del Poliquizio, ok, lui non si può chiamare, cioè noi ci mettiamo d'accordo, non possiamo, perché noi non possiamo avere la presunzione di mettere in difficoltà questa persona. Sarebbe... Cioè, sarebbe elevarci a persone migliori di quello che siamo. Dopo un incredibile giro pindarico, però, di tempo, e appunto abbiamo detto, vabbè, senti, proviamoci, alla peggio, facciamo una figura di merda che ci fa fax checking in ogni domanda, immaginatevi invitare qualcuno che come soprannome titolo porta il maestro ed è proprio lui, Michele, in arte, Sabaku. Davvero? Eccoci. È davvero? Incredibile. È proprio lui. Un po' troppo, forse. Era necessario fare questa costruzione per la serata in cui distruggo la mia carriera, scusate. Era necessario, perché l'unica cosa dove potresti quindi perdere è la tensione. È l'unica, ho pensato che questo è l'unico elemento. Cioè, con un pregresso così io finisco con zero punti è finita così e quindi via. Sì, 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 sì. Hai giocato a Elden Ring? Guarda. No, no, dicevo Poli, dicevo Poli. Poli, Poli. Ti hai tirato addosso tipo 5-6 etter uniche con questa introduzione. Ah, ok. Sì, esatto, esatto. Adesso inciampo e così, sì, è il Poli che mi guarda fare il tuffo dagli scogli. Va bene. Guarda Poli! Cazzatissimo, Michele, prontissimo. È già carico come le pigne. Va bene. Allora, ragazzi, non voglio perdermi in altre introduzioni e direi di cominciare subito. Allora, prima di tutto vi dico che... Cazzo d'ansia, bro. Perfetto, ha funzionato. Allora, allora, vi dico che è necessario fare un piccolissimo riassunto di lore. Proprio piccolissimo. Ogni episodio è stato... Qui, Michele, si è gasato. È stato caratterizzato da dei piccoli elementi di una storia che ci siamo inventati per ficcarci dentro poi dei giochi tematici appunto che affronterete. L'idea base è che nel primo episodio si è scoperto che appunto tutti i nemici e tutti i villain del mondo dei videogiochi si sono alleati per fondere le dimensioni videoludiche e sostanzialmente dominarle contemporaneamente tutte. Ok? Quindi tutti i cattivi contro tutti i buoni. Incredibile. Mai vista questa cosa, peraltro, eh? Totalmente originale. No, no, no. È una delle idee più originali e mai ripetute della storia dei medium mondiali. Grazie mille. Un piccolo momento. Nel primo episodio, peraltro, venite a sapere che in realtà oltre a tutti i villain ci sono esattamente dei villain che hanno formato una sorta di concilio, ok? Quindi un consiglio di in questo caso cinque elementi che è prende quello operativo. Mentre tutti agiscono per dominare le varie dimensioni ci sono cinque elementi che proprio sono incazzati come delle pigne. Nello scorso episodio, nell'episodio 2, uno di questi cinque elementi è stato sconfitto, ovvero Pegasus, il cattivo della saga di Yu-Gi-Oh! Ok? Un villain, anche lui, storico per la sua saga che non è solamente videoludica e verso la fine di questo episodio, dell'episodio 2, lui se ne è andato sconfitto dicendo che nonostante la sua sconfitta gli altri membri, quindi gli altri quattro, hanno cominciato un'evocazione. Hanno cominciato un rituale. Mai vista questa cosa. Non alla Yu-Gi maniera, però, un'evocazione vera. Completamente ci prendiamo vista. Il che vuol dire anche che gli altri si sono scontrati contro un villain e noi tutti gli altri insieme. E però, così è spoiler di tutto e io butto via tutto quanto. Tre mesi di lavoro ma va bene, va bene, dico. Scherzato. Quindi, voi avete un alter ego videoludico, nel caso di Simone è Nero, nel caso di Saidonia è Dante, nel caso di Sabaku è V, e quindi nel vostro alter ego videoludico decide, quindi questo trio, decide quindi di indagare sull'unico villain che conoscono del loro mondo o comunque il più iconico del loro mondo, ovvero Vergil. Ok, che vedete qui. Peraltro spoiler perché siamo dimenticati di preparare questo, ma va bene. Vi spiego cosa succede. Vergil era stato anche lui invitato a far parte del Concilio delle Ombre, quindi essere il sesto membro del Concilio. Ma conosciamo bene... Sono ormi gli altri quattro? No. Non si sanno. Non si sanno. Sono inesistenti forse, addirittura moriranno tutti. però sappiamo come è Vergil, cioè Vergil è assolutamente un lupo solitario, lui non condivide il potere con nessuno, un po' un otronzo, che decide sempre di essere da solo, non vuole proprio condividere con nessuno. Vi rivela però, l'unica cosa che vi rivela è che lui è stato chiamato dal Concilio delle Ombre e quindi Dante, in questo caso quindi l'alter ego di Seidonia, decide di fare una scommessa con Vergil, ovvero, come sappiamo nell'Or di Devil May Cry, c'è un talisman, un amuleto che serve per andare nel mondo di demoni, sappiamo che ci sono due parti di questo amuleto, uno in possesso di Dante e uno di Vergil e quindi Dante dice oh, vecchio, perché direbbe così Dante, no? Vecchio? Io ti do la mia metà, io scommetto la mia metà se tu, in una sfida, se vinco, me la tengo e mi dai tutte le info di cui ho bisogno. Se perdo, te la do e abbiamo perso ed è finito qui il quiz. Quindi, se volete, bene. E quindi si inizia il round 1, che è un round d'aperitivo, che tutti conoscono, che è chiamato Polierino ed è molto semplice. Oh, il polierino anche qua. C'è sempre. Allora, spieghiamo come funziona questo round, è molto semplice. Non riesco a vedere le scritte, non so se sono importanti. Sì, è molto importante. Allargo leggermente. Potete andare a full screen. È proprio la definizione di Discord. Sì, è la definizione bassa. Addirittura la definizione di Discord è un problema questo. V-Lane Army Psy. Metti PS2. Metti PS2. Metti 30 FPS da noi, così almeno magari... Metti 30, almeno è definito, ma... Tanto i 60 non ci servono. Ok, stream quality 30. Ok, grazie. Ho fatto un click. È cambiato tutto. Vabbè. Michele, salva la serata. Incredibile. È fatta. Dai, puoi smerte di Discord. da sapere dei punti. Esatto. Dai lì dei punti. Allora, innanzitutto sì, ci sarà un punteggio che definirà poi il vincitore e vi spiego come funziona questo gioco. Allora, a turno, sceglierete una domanda. Questa è una piccola modifica a portata rispetto agli altri show. Sceglierete una domanda di una categoria e quindi di un livello a vostra scelta. Ogni categoria rappresenta appunto un insieme di videogiochi e vi vado a dire quali sono queste categorie. Allora, la categoria Villain ovviamente ha a che fare solo le risposte sono solo Villain di videogiochi. Quindi la risposta è il nome di un personaggio cattivo, prevalentemente cattivo. La seconda categoria è la categoria Armi. Quindi qui, abbastanza autoesplicativa, solamente Armi del mondo di videogiochi. Nel bene o nel male. Categoria PlayStation 2. Questa mi sembra una infamata cattiva. Sì, sì, sì. C'è di peggio. C'è di peggio. PS2 è autoesplicativo. L'importante è che esista un gioco PS2 della versione che vi stiamo chiedendo. Low Tech. Il cross-genning non era così frequente. infatti va bene, va bene. Multipiatta, sai, potrebbe esserci. E Low Tech è una categoria dove la tecnologia di questo videogioco specifico è ferma al medioevo indicativamente. Quindi non esistono... Non esistono... Non è vero. Non in quel senso. Dai, come viva questa... No, non è vero. No, è vero. No, è nel senso. A livello proprio narrazione del videogioco tipo non ci sono i motori, ci sono gli archi, le balestre, ma non le pistole, capito? Ok, narrativamente quindi. Esattamente. Ok, ok, pensavo che fosse davvero sulla bellezza del videogioco. Però mi è piaciuta questa cosa. Potevamo farla. Potevamo farla. E infine indie, ovvero semplicemente vi interroghiamo su giochi indie. Ci sono solo due regole, cioè a turno voi sceglierete una domanda, partirà Simone, di un livello che volete. se la azzeccate prendete quel punteggio. Ok. Se la sbagliate perdete la metà di quello che avete scelto. Quindi se voi volete sparare a bomba un 500, pensateci. Via, si parte in negativo, dai. Esatto, prima, si può andare in negativo. Quindi ve lo dico già. Ve lo preparo già che uno dice tanto non ho niente da perdere, invece avete da perdere. Simone, sarai tu ad aprire le danze? Allora, sì, prima una premessa innanzitutto, perché io non ho la chat di Twitch aperta, quindi vorrei dire a tutta la mia community se avete dei suggerimenti, Telegram, mi raccomando ragazzi, perché non posso la chat di Twitch aperta. Telegram, Telegram. Esatto, 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 ragazzi. Ragazzi, non è neanche lo smartwatch. Non volevo, non volevo assolutamente ricorrere a questi trucchetti, ma mi sa che Poli stasera fa lo stronzo, quindi evidentemente... No, ma secondo me lui ha seguito buona parte del lavoro sui nostri canali per dire, ah, quindi gli piace quel franchise? Niente su quello. Non lo chiederò, esatto. No, no, non così tanto, non siamo stati musicativi. È indicativamente così però. Quale armazio Cristiano Ronaldo in FIFA a 19? Esatto, poi il problema è sui nomi, tante volte sarà sui nomi, i nomi veramente non sono proprio. Simone ha un'idea di come funziona questo round. Francesco e Michele non hanno ancora capito come sono le domande, quindi sarà bello fra poco. Sì, adesso è peggio di come pensate, ragazzi, adesso vedrete. È peggio di quello che credete. Allora, faccio un esempio. parto io, parto io con Indie 200, dai, Indie 200, vediamo, dai. Vai, puoi piangere per commozione, puoi piangere per disperazione, ma in questo gioco piangi per vincere. E vabbè, se non è Binding of Isaac, mi ammazzo. È Binding of Isaac, non ti preoccupare, stai, non ci stai. Io ci penso sempre due volte, non perché non mi viene subito la risposta, ma perché la domanda è formulata in un modo bastardo. È certo, quindi, chiaramente, devo pensare delle alternative. C'è di peggio, c'è molto di peggio. Con calma. Francesco, tocca a te perché una alla volta, andate ciclo continuo. Ville in 300 e si perdono 150 punti, let's go. Gli Zerg hanno una versione baffata di Gesù. Lei, infatti, ci mette solo 60 secondi a respawnare. So che è StarCraft, ma non ho idea. Eh, anch'io ho pensato a quello, ma... Eh, non ho idea di... Hai beccato la cosa, devi essere... devi chiudere a cerchio, c'è un personaggio iconico su StarCraft. Giovanni Paolo II. Sto personaggio? Non la so. È Kerrigan. Kerrigan, Kerrigan. E peraltro, questa è una delle domande che alcuni Kickstarter hanno formulato insieme a noi, quindi, quando vedete, aperta varia ente, si bai, non insultate me, insultate loro. Ok, ok, va bene, va bene. Pulito, proprio paracolata a livello massimo. Via! E... Michele. Che ansia, allora... PS2 200. Pronto. Dire ad un bambino di non provarsi a casa non lo fermerà dallo spaccarsi di botte coi fratelli. Dire ad un bambino di non provarci a casa non lo fermerà dallo spaccarsi di botte coi fratelli. È pieno di multiplayer in cui ci si pesta. Ce n'è uno iconico della PlayStation 2 che, secondo me, guarda, il... Qui andrò sicuramente in negativo anche io, perché spaccarsi di botte coi fratelli e... Guarda, c'è uno proprio, è giusta, la domanda è proprio punta a un gioco solo, è massimo uno e mezzo, ma uno... Secondo me, un sacco in realtà, se è la ricerca che penso. Allora, sì, però, ovviamente parliamo della serie barra saga. Serie? Saga? È un po' esagerato, però... Ce n'è più di uno. Ok, ehm... Lascio ancora qualche secondo. Allora, lascio il time limit? Sì, beh, sì, se no finiamo alle 3 di mattina, ragazzi, insieme non potrà più. Il fatto è che potrei dirne tantissimi, di serie, di serie abbiamo i... fratelli, 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 il fatto è che il termine fratelli mi manda in bestia. Io rosico perché so entrambe le domande tranne la mia, cazzo. È un vestito di due, tranne la mia. C'è la dose di RNG anche qua, tutto sommato. È proprio andato a un livello superiore. Con i fratelli, con i bro. Siamo completamente rotto, sapacco, ragazzi. Vabbè, dirò un titolo di nicchia per fare il coatto perdendo punti, ma mantenendo perlomeno la dignità di conoscere quel videogioco. Team Buddies. Non è Team Buddies, sì. Lo so che non è Team Buddies, ma almeno ho detto Team Buddies. Sì, sì, è certo. È WWE, SmackDown, no? Che ci si pesta coi fratelli. Eh, vabbè, sì, ma non puoi arrabbiarti, però amiche, è la verità, ci si spacca di botte. Si è arrabbiato malissimo. Si è arrabbiato, si è arrabbiato. Aspetta, finita la puntata, ragazzi. Perché il wrestling ci si mela coi fratelli? Vabbè, chiunque abbia avuto un fratello, io ho avuto un sacco, due fratelli, ci si spaccava di botte, proprio. E poi è il Don't Try This Atom, è tradotto Don't Try This Atom. Don't Try This Atom. Quella era la versione smart della domanda, ma per me il wrestling è come FIFA. Ah, beh, ci sta, beh, non penso che ne sbaglio a dirvi un videogioco di wrestling e nessun... Tranquillo, ok, devo recuperare, non ti preoccupare, sarà così. 500 punti. Quelle da 500 sono difficilissime, ragazzi. Quindi vado armi, armi 300, dai, così anche se perdo, dai, armi 300, dai, armi 300, vediamo. La macchina da scrivere più mortale di videogiochi ad inchiostro infinito. Infinito. La macchina da scrivere più mortale di videogiochi ad inchiostro infinito. Cazzo, infinito. C'è una piccola informazione qui. Il giochetto è su Unlimited Ink, forse, ma... Sì. Infinite Ink è una cosa del genere. Posso dare un indizio che però non è un indizio? Probabilmente fra i tre sei quello che la possa per di più, questa... Infatti, io qua sono blank, ragazzi. Ma cazzo, ma... Infatti poi il sideo sei a posto poi. Siamo completamente fottuti. No, non so, non so onestamente perché a me viene da pensare Resident Evil per la macchinetta con cui si salva, ma non è un'arma? Non è mortale. Ma soprattutto è finito. L'inchiostro lo devi mettere tu? No, no, infatti. Eh, già. c'è un'arma così su Enter the Gungeon. C'è una macchina da scrivere è un'arma su Enter the Gungeon? C'è una spara soldi, fondamentalmente. Una spara soldi infinita. ti chiedo una risposta? Ah no, non la so ragazzi. Vabbè, ci sta, è un'arma di Resident Evil, si chiama Chicago Typewriter che è un Thompson. Ah minchia, questa però, minchia, queste domande sono, ho capito, è l'arma con le munizioni infinite che sblocchi, ho capito. Ehi, ma se vuoi? Ma poi non sono solo domande difficili, sono anche degli indovinelli, cioè, questa è la sfinge bastarda che mi sta facendo domande sui videogiochi. Perché al contrario, se uno mi avesse chiesto cos'è la Chicago Typewriter l'avrei saputa. Allora, voi siete, voi siete. e far arrivarci con sto ragionamento nel pool di tutte le armi di tutti i videogiochi. Io non so come sono gli altri polyquiz ma secondo qua ci sta trattando male. Malissimo, ma sì. Ma lì, 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 50 punti alla fine. Volevo fare il gentleman's agreement con voi, ragazzi, allora, siamo tutti d'accordo che vince chi ha meno punti in negativo. Esatto. nessuno sarà in positivo, cioè vincerà qualcuno a meno quanti cento. Io ci sto, Stato, io ci sto, Stato, ok, 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 vada, vai, allora, allora, proviamoci e così ne perdo altri 150 precisi in D300. Vai, minchia, un noto dinos, allora, un noto dinosauro eclettico relega tanti amalgami lamentosi erranti. Qua ti lascio qualche secondo, ma è, questa è così facile da essere impossibile. Un noto dinosauro eclettico. No, è noto. Qua vi incazzate come le bestie, ve lo dico. Ah, ma certo, ma certo, è Alphys Undertale. Ma non so se l'hai visto, ma l'acronimo, l'acronimo è Undertale. è UND, è Undertale. E sì, è perché Alphys è un dinosauro. È un dinosauro. Ma l'ho capito da amalgamation, perché i nemici si chiamano amalgamation. Esatto. Amalgamation, il laboratorio. L'ho capito solo dagli amalg... Il dinosauro era proprio da stronzi. Adesso è partito Francesco. Francesco è affinato. C'era scritto scienziato, era un secondo. È stato bravo a scrivere eclettico. E perché non c'è la S in Undertale Certo, certo Si torna da lei Ok, allora, io Vorrei provare a tornare a zero Quindi barerò, spero, con una domanda Di rara facilità, PS2 100 PS2 100 La saga che ha fatto nascere il termine Inumorata Vabbè, è da 100, è da 100, va bene, lo accetto Lo accetto, Kingdom Hearts, d'accordo Perfetto, ok, questa si torna in positivo Almeno sta a zero, dai Sarebbe stata Final Fantasy VII Remake No, lo so, no, no Certo, 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 però Guarda, vabbè, almeno quelle da 100 Di risposte offensive, però Ho cercato di essere, di tornare a zero Dai, Simone Allora Beh, sarebbe un peccato Andare in negativo, però, va bene Vorrei capire cosa vuol dire low tech Sono spaventate Mi infilo In low tech, rispiegami la categoria La categoria low tech, prima della domanda La categoria low tech sono giochi Adesso io ti dico indicativamente Dove la tecnologia nel videogioco Proprio nel videogioco, nella narrazione È nel passato E con passato intendo da medioevo In precedenza Quindi potrebbe essere un gioco egiziano Un gioco del medioevo Un gioco spaventato Capito Proprio quindi di tempo fa Vai Vai Da 100 100 Low tech da 100 Wolololow 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 Va bene, va bene Age of Empires 2 Nello specifico Wololoo Va benissimo anche Jeff Empire Perfetto Jeff Empire Hai capito un po' Il come è strutturata Va bene Francesco E proviamo Villa in 100 Dai Vai, via Mart Allora, qui Francesco è proprio per te Per alcune è un uomo Per altre è un demone Per Saidonia è un fratello Io ricordo chi siete nel Poliquid Show Non ho capito infatti Una domanda su di me Pensa chi sei nel Poliquid Show Ricordati chi sei il Poliquid Show Ah, vabbè, ok, ok, ok Quindi per Dante è un fratello E quindi è Vergil Ok, ok, ok C'è un po' di meta, no? C'è un po' di meta in tutto questo Mi stava confondendo per Saidonia è un fratello Dai Sì, sì, sì Porca troia Raga, mi stavano dicendo Mi stanno dicendo che parto le pubblicità Io, raga, vi giuro Ho tolto Ma non puoi No, no, no Non è che non possono partire Non credo Sì Sì, ma raga, ma ne stanno partendo Io sono parte, è chiaro Eh, no, no, sì Non puoi Non puoi tolglierle Non puoi Puoi dimimirle al massimo Io vi giuro Vi giuro Ho capito, tu hai tolto quella degli incentivi fondamentalmente No, no, da bene Simo, io ho tolto il mio contratto per sto mese Cioè, a me è stato scritto Ti verrà data una retribuzione In base a quante ore di l'hai fatto Tranquillo, non puoi evitarle Raga, veramente No, ma neanche da affiliato Per peccheristi comunque Chi può sentirci in questo momento Lo dica Io vi giuro Cioè, veramente Vi mando uno screen Easy Ho proprio cancellato il mio contratto con Twitch Per oggi Per il resto del mese di luglio Siamo colleghi Sappiamo tutti che è così Eh, no, ma mi piace per la gente Che magari sono i vostri Che giustamente Non hanno senso di essere abbonati E si vedono le pubblicità Vi chiedo veramente scusa A nome di Twitch Perché vi giuro che dal mio ho fatto tutto Anche perché è stato pagato da voi sto quiz Non ho motivo di monetizzarlo Ma, figurati Però sono cose da cui non si può sfuggire Vedrai che saranno so Che quando arrivano, arrivano Mi dispiace veramente Mi dispiace Io adesso Allora, ci sono due strade qua Il bivio del competitor di solito è Cercare di vincere Utilizzando una strategia Oppure cercare di avere un minimo di gloria Nei ricordi della propria vita Ok Quindi andare a consumare i cento E da vigliacco schifoso Quindi andrò Mi stai dando del vigliacco? No, lo punti io prima Certo Fa bene, fa bene È vero Villain 200 Si dice che le farfalle causino uragani E a quanto pare Le falene Infezioni Si dice che le farfalle causino uragani Vabbè, l'effetto Insomma, la teoria del caos E quindi, a quanto pare Le falene causano infezioni Ah, ma certo Allora L'unica cosa che mi viene in mente in questo caso Allora Nemici piccoli e pieno, ok? Visto che si citava Resident Evil C'è anche la falla in ora Ma non c'entra niente con gli uragani Né il fatto che ci metti anche le farfalle Guarda È un gioco importante Sì Beh, io non posso fare altre domande Però non posso dare altre risposte Ho capito Un po' troppo, forse Allora Allora, il fatto è questo C'è Ho un grosso dubbio Tra diverse infezioni videoludiche Solo che Le farfalle Le falene Non sono funghi Quindi direi Hollow Knight È un po' più specifico Perché Più specifico? Ah, perché è l'avversario? Devi dirmi il nome Vabbè Hai capito comunque Io Ma guarda Non ti ricordi il nome Ma mi dice esattamente chi è Va benissimo lo stesso Anche la fisionomia Che il nome ci sta Eh vabbè c'è la falenona infettiva Che crea tutta l'infezione Che Può andare bene? Può andare bene? Chiedo agli altri due Perché è giusto, no? Chiedo agli altri Per me va bene come risposta Diverse C'è solo diverse Volendo persino Persino lo splendore Una falena Però in realtà Non è una falena Perché Penso che tu parli Dello splendore Ah ok Ah sì sì L'ho detto L'ho detto Ok noi pensiamo Alla falena Michele devi stare C'è anche Margot Esatto Ma non solo C'è anche la falena madre Ha causato l'infezione E' stata Radia Diciamo Per Per gronse linee Se non andando E rompere il cazzo L'1% Esatto Esatto Ok Ok dai Simone Io vado Io vado Un secondo solo Michele Veramente Non over tinkare La risposta è Io non è vero Ma con che cazzo Che direi Non voglio dire questo Dico solo Vola posso La nostra intelligenza è qua Voi siete qua Abbassatevi a noi E le beccate tutte Proprio abbassatevi a noi Allora Allora Facciamo Un azzardo Che probabilmente Mi porterà in negativo Indy 400 Perché tanto prima o poi Dobbiamo andarci Ora ci spacca il culo Ora ci spacca il culo E la rappresentazione videoludica Del secondo emendamento americano Cazzo Ho qualche idea Ma Sparare a zero La rappresentazione videoludica Del secondo emendamento americano Si Simo Ma Mi sembra Enter the Gungeon Messa così Bonkers Enter the Gungeon Non l'avrei indovinata mai E' perché Tutto è a tema Proiette E' tutto a tema Armi Enter the Gun Armi Tema armi E quindi si Cioè I nemici Le armi I personaggi Le stanze Tutto è a forma di arma Perché ho pensato a delle alternative Tipo Nuclear Throne Blazing Bix Eccetera Però Sì Però va bene Francesco Enter the Gungeon A costo di perdere 200 punti Let's go Villain 400 Minchia Questa risposta puoi darmela ora O aspettare otto giorni E ricevere comunque i punti E' stronzo Oddio Villain Villain? Stai parlando di un cattivo È un cattivo che ci mette otto giorni a far qualcosa A me non è Samara perché non stiamo facendo un quiz sul genere Purtroppo dovrai dirmelo tu Io credo di sapere qual è Questa era per me Ci sono domande per alcuni voi 8 giorni in giro e comunque i punti Usare la parola punti è un po' crudele però Beh lo sai perché è il meta del nostro show insomma Dai No è giusto Cazzo ma ora mi sento come Francesco prima Non prendo i punti però 8 giorni vinci dopo 7 Non giocando The End Ma certo Che muore se mandi avanti il tempo Nella roggio della console Ma certo Io conosco The End Non ci sarei arrivato per la formulazione Ma non avevo capito Mamma mia Sono cattive queste domande Sono da pezzo di merda Polly Sì sì però ha senso Grazie In un certo senso grazie Bella bella No no mi piace Mi piace Michele si torna da lì Non voglio giocare Adesso perdo Allora Allora Adoro Nessuna Nessuna recalcitranza Sì Armi 200 Dai Armi 200 E venne il diamante Creato dal ferro Creato dalla pietra Creato dal legno E sempre però Un po' più specifico Mai non capisco una sega di Minecraft Vabbè Creato dal legno Creato col bastone Che mio padre craftò E Minecraft Prima di dare la risposta È importante il creato dal Perché potresti E venne il diamante Creato dal ferro Creato dalla pietra Creato dal legno Che col bastone Mio padre craftò Io Hai giocato Io ho fatto una live con un oggetto E' un'arma Cioè l'unica cosa con cui prendere Puoi prendere i materiali E' il piccone Oh madonna Fulita È piccone Perché con un'incertezza nel cuore Enorme Perché io ho detto Vabbè è persa Enorme Perché giustamente uno pensa L'unica cosa Il fatto è che io Temevo che tu Parlassi di armi craftabili Ma alla fine l'origine Vabbè A posto È passata Io pensi avrei sparato a caso La spada Perché la usa in smash Eh ma L'avrei detto anch'io Spada Se non fosse stato Spada Domanda Domanda Poli Domanda Ma tu so che hai fatto Una specie di beta No Con tre concorrenti Fake Per questa puntata È vero Sono andati tutti in terapia Allora Alla fine All'ultimo round Io sarò onesto All'ultimo round abbiamo regalato A ciascuno 2000 punti Per farli arrivare In positivo Porca troia Ma sarà una mattanza Puntate che Prima io ero 250 punti Ora sono a 50 Ma devo prendere un 500 E andare a fanculo adesso Però Sarò onesto Cioè loro Loro non le sapevano Ste cose Perché non avevano neanche l'età Per saperle Cioè voi avete l'esperienza Di aver giocato A determinate console Che loro non hanno giocato Stai continuando A rendere più sminosa La tomba Che ci si 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 Ma voi come fate A sbagliare Ma uno Infatti Ma uno pensa La prendo Pensa anche a voi Quindi siete Ok Provo low tech Da 300 Anche se non ho ancora ben capito Che cazzo vuol dire La categoria Low tech va schivata Con tutto il cuore Benvenuti al fast food panorama Come posso servirla? Allora Mi fa due galletti XXL Con pozione grande Senza ghiaccio Ma che cazzo è questa cosa? Non lo so My great diesel 2 Aspetta 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 Benvenuti a fast food panorama Fast food panorama Come posso servirla? Allora Mi fa due galletti XXL Galletti maiuscolo E mi ricordi la categoria? Low tech Sono sempre giochi Dove la tecnologia Non è Praticamente non esiste Cioè la tecnologia è la ruota Il mulino Non c'è il motore Non ci sono le pistole Non c'è l'elettricità Ci sono meccanismi E non automazioni Sai quanto costa Questo galletto Viking? 150 punti Questo galletto costa 150 punti A cantatillo Sono 75 galletti Cioè sono 75 punti a galletto Ci sono un sacco di indizi In questa domanda Però vanno letti Con pozione grande Senza ghiaccio Ma gli indizi sono utili Quando la risposta è in te A me viene in mente Un gioco che non c'entra niente Con low tech Ma appena mi parli di galletti Io penso a San Andreas Però lì finisce Capito? Non c'entra niente Con low tech Sono grande Senza ghiaccio Vai Simo Allora Dirò a caso Ma pur di dire qualcosa Dirò Diablo Ma pur di dire qualcosa Che non sia Diablo Però Se io ti dico Invece di panorama Ti dico panoramics Dico che ci sono due galli E non sono galletti E una pozione Asterix e Obelix Madonna mia Ma non dico indizio Vero era XXL Ma scusa Sono due galli E bevo la pozione Sono tre indizi Sta domanda Simo È su via Dai Guarda quanti Il panorama È iper confusionare Perché stavo pensando Una puttanata Alla Bioshock Inizialmente Poi mi si è spostato Il cervello Su tutt'altro Può capitare Che qualcuno sbagli Francesco E il ghiaccio Così Perché pozione grande Non era in maiuscolo Il ghiaccio Impossibile Esatto Non era maiuscolo Bravissimo Michele ha capito Tutto lo show Si ha capito Delle maiuscole Adesso tutto Allora Vai Francesco La faccio La cazzata Regà Gogo 500 Tanto dobbiamo farlo Prima o poi Vai Centello Io lo piglio Dobbiamo farlo Sido Proviamo Indy Proviamo Indy 500 Vediamo che succede Prego C'è scritto Adeschiare 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 Un dating sim Adeschiare Significa Adeschiare Secondo me Vabbè lo dico dopo Però Io credo Dove capito Ma se quello Che dico io È follia Adeschiare È un verbo Che esiste Adeschiare Magari va tardoso Esiste Adeschiare In un'altra lingua Esiste Adescare E noi abbiamo fatto Invitare Adeschiare Quindi Quella Adeschiare Con la C'entra La chi Diciamo che Il fatto che sia Chiare Invece che Care C'è È un indizio Più un altro Grande indizio Quindi è Chi Boh non lo so Eh sì Ma non posso dirtelo Francesco Dopo te lo dico Adeschiare Io mi guardo intorno Quando dicevo se qualcuno Mi possa incrociare No sì sì Adeschiare Che cazzo Ragazzi Adeschiare E posso dire Che questa non è La più difficile Grazie Dai così almeno Lo sapete È low tech La più difficile Ovviamente È un indizio E c'entra con Adeschiare Adeschiare Giandere simulator Sicuramente Allora Anche secondo Allora Non capisco Ades Ades È un gioco Ma che cazzo C'entra adeschiare Categorie indie Ricordati sempre Adescare Adeschiare È qualcosa con Che c'entra con Adescare qualcuno Ma con Chi Adescare chi O forse È solo Ades E sono dei deficienti Ma no Perché sarebbe Adescare È che Cioè non capisco La reference Va bene Ades ma non capisco La reference Ma non è Ades Allora Perché non conosco Ades Ah Ades Eh vabbè Su Ades Tu puoi pescare Nell'ostige Saprete no E il primo pesce Che peschi Che è la base Si chiama Peschio In italiano Il peschio Da pesce a peschio E peraltro Adescare Significa anche Attirare a sé Con un amo Quindi il fatto che peschi Qualcosa che è Con un peschio Quindi peschi E poi c'è scritto Ades Queste Queste Non c'è uscita Da questa Da questa Da questa Poliquizio Poliquizio Va bene E a questo punto Ok Non sento di meritare Questi 500 punti No 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 Scusa i miei colleghi Vediteli tu Vediteli tu Vediteli tu Tutte le volte Che voi date una risposta Prima che mi vengano Rimossi Ora diventa effettivamente Smart Andare a rubare Sperando che sia rubare Non farti prendere Per il culo Armi 100 Vai Ottimo per potare Gli alberi E le locuste Ah che bello Ok Ok Va bene Lo so Lo so Gli ho giocati adesso Se vuoi ricordarmi Il nome dell'arma Della motosega Di Gears of War Dio Va bene Aspetta fermo Scusa Fermo La chat La chat Mi diceva sempre Di raccogliere il Il Cazzo No La 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 Lancer 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 Oddio Forse si chiama Lancer No no Lancer Secondo me Senza la Non lo sbagliato Senza la Per fortuna che non lo raccoglievo Mai perché mi piaceva a sparare Attacate Ma male che non ho beccato sta domanda Perché c'è la motosega No Motosega per gli alberi O per le locuste Di Gears of War Ma io ho recuperato Gears of War Da un paio di mesi Loro lo sanno Loro lo sanno Sono pronti Sono carichi Guarda che noi studiamo un sacco Poi le quiccio Michele e Simone E Allora Vabbè Prendo un turno di pausa Perché mi sta venendo l'ansia Quindi faccio Indy 100 Bastardo Se non è fuoco E non è acqua Eh Vabbè giustamente Terraria Capita L'ho capita Interessante Ma questo era Questo era E gli elementi E gli elementi Non era 100 però Era molto Questa era da 200 Almeno 200 Ma gli elementi Sono 4 Aria, fuoco, terra L'ultimo Questa era cattiva Questa era cattiva Erraria Carina Comunque senza L'U-lancer Quindi abbiamo fatto un errore Grazie per il fax checking Della chat No perché nella Nella mia testa Per esempio Nella mia testa Io ero partito con Earth qualcosa Perché ce ne sono Mille di Indy Con Earth qualcosa Già ero fuori strada Francesco Senti proviamo sto PS2 300 Perché pur di non andare Su low tech Ronzo Murai vive una persona Questo è uno dei tanti modi Per sperimentare Torture su questo gioco Quello di Rockstar Come cazzo si chiama In questo gioco Cosa hai detto Ma non è detto Attento C'è un gioco sulle torture Esiste un gioco sulle torture Murai vive una persona Questo è uno dei tanti modi Per sperimentare Torture su questo gioco Cioè vuol dire Che in questo gioco Ma devono essere solo su PS2 Sti giochi Sì sì Devono essere esclusivi A PS2 Esiste No 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 Attenzione Esiste anche su PS2 Questo gioco Anche Esistere una versione Anche per questo gioco C'è esempio COD COD è C'è anche su Xbox No Quindi per esempio COD potrebbe essere buono Perché ne esiste una versione PS2 Murare viva una persona Quindi non è Necessariamente PS2 Cioè oddio Può essere un multipiatta Di quella generazione Può essere un gioco Che c'è su PS2 Poi hanno fatto una remastered Su PS3 Questo è difficile Perché su PS2 C'è poco Non lo so Se non è Menante Non ho idea di cosa sia Murare viva una persona Da ragazzini O almeno La mia generazione In 95 Si divertivano sicuramente A murare Su The Sims Le persone dentro Una casa E chiuderlo in uno scompartimento Aspetta Aspetta The Sims c'è su PS2 Esatto Sì C'è una versione Di The Sims Su PS2 Davvero Sì Ho fatto fax checking Di qualsiasi cosa La prima cosa Che ho pensato Io era The Sims E poi ho detto No perché è PlayStation 2 Ok Di The Sims 3 Escuso Ho tolto The Sims Dall'elenco Ho iniziato a pensare A tutto No infatti Avrei pensato a tutto Tranne che a The Sims Raga Io ho fatto fax checking Si poteva murare Vivo qualcuno Ma potevi fare Qualsiasi cosa Gli fai la stanza Mi muore di fame Di stenti Praticamente là dentro Mi chiede Comunque non si vede Che siete in ansia Vedendo cosa avete mancato Devo purtroppo cadere giù E andare nell'oblio Poliquid Show Esatto Esatto PS2 400 PS2 da 400 Vi ricordate Vi ricorderete Di questo giorno Come il giorno In cui avete Quasi acciuffato L'unico esemplare Di Furontra Allora Da una parte Mi fai pensare a Contra Dall'altra Purtroppo Conker Non è su Playstation Quindi sono Completamente 64 Vi ricordate Vi faccio notare Degli indizi Vi ricorderete Questo giorno Come il giorno In cui avete Quasi acciuffato L'unico esemplare Di Furontra Furontra Allora Mi dispiace Io faccio una figura Di merda Il fatto è questo Purtroppo Non conosco Non riesco a capire Le lontre Sono animali Estremamente Ti posso dire Tutto quello che penso E ne parliamo insieme Lontre Lontra Playstation 2 Abbiamo Crash Non è una lontra Dexter Potrebbe Dexter si Ma non viene acciuffato Qualcuno che scappa Per non essere catturato È un ladro Quindi Sly Cooper E che altro C'è Come lontra Un gioco che probabilmente Non conosco Che ciuff Maiuscolo Dai treni Figurati Allora Allora Il ciuff Mi frega Ma Fur Ma perché Fur Staccato Ontra Che mi fa pensare A Contra Magari è un unione Cioè Magari è un furetto E una lontra Non lo so Furetto Ma che cazzo Stai In questo genere Ma è un mix Stai un furetto E lo dico Che lo capire Magari Magari quando sappiamo Ok Allora Dio santo Allora Io qui Casco In un videogioco Che sicuramente Non ho giocato E che non conosco Eh non lo so Quindi Buttane uno Buttane uno Maic Quando è così Buttane uno Magari è buono Ne butto uno In maniera abbastanza Onorevole No non posso Gli ho già detti Quelli che conosco Quindi purtroppo Di Rosalie Cooper Ma non credo neanche Sia una lontra Ok allora Facciamo reverse Questa è una citazione A Capitan Jack Sparrow No Vi ricorderete di questo giorno Ok Sì 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 Non avevo qualcosa Quella io Quello sì Jack magari lo teniamo Furontra Vi ricorderete Un gioco dove esiste Un essere Chiamato Dexter Che è una furontra No È un furetto Unito a una lontra Scusami un secondo Caro E ciuff È Aspetta un secondo Ciuffo rosso Della canzone Ciuffo rosso Del laboratorio Ma che cazzo C'entra Jack Sparrow Che Pirata Che Jack Jack Il fatto C'è La Come on Ok va bene Queste domande Poli Sono delle domande Io definirò le domande Del Poli Quiz Show Come delle domande Di reverse engineering Si Cioè Si 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 Poi Allora Accetto la sconfitta Solo perché Dexter Era l'unica lontra Perfetto Però Non ci avevo pensato neanche io Va bene Zero proprio Pro Sono con te Non preoccuparti Viking Mono si scappa Oh che bello Ma che bello Ma che bello Ma che bello Dov'è che perdiamo punti Possiamo fare un secondo Gentleman's agreement Il 200 lo prendiamo per ultimo E facciamo Sì si no no Non lo tocco Non lo tocco Ok Va bene Facciamo Allora Provo Provo Un Villan da 500 Dai Poglia Poglia no Era mio Scusami Amanuense Che trascende Le leggi di Asimov Minchia Questa Ha un sacco di risposte Credo di aver capito il gioco Forse Ma non Il personaggio Minchia Le leggi di Asimov Amanuense Che trascende Le leggi di Asimov Io ho qualche idea Ho delle idee In testa Ma È un amanuense È un'idea Amanuense Che trascende Le leggi di Asimov Non posso dire cosa sono Ma se lo sapete Sì sì Io Anche il vocabolario È abbastanza Stronzo Però il vocabolario È veramente Molto 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 D'aiuto Sì è Tantissimo Cioè Tantissimissimo Lo dico per Simone Perché Tantissimo D'aiuto Ma guarda Onestamente Non mi sta aiutando Moltissimo Amanuense Che trascende Le leggi di Asimov So quali sono Le leggi Quindi Sul giro Ce ne sono alcuni Però Ho due nomi in mente Recenti Uno recente L'altro no Io metto il gioco Ma non è troppo recente No C'è ancora qualche secondo No no Non mi viene Ti metterei Quello di Come si chiama Quello di Elden Ring No State tranquilli È spoiler free Tutto l'episodio Se abbiamo citato qualcosa Di un gioco Veramente Qui Vent'anni fa Cioè Non preoccupatevi Di avere di spoiler No no Allora Simone Sì io ti dicono Un altro modo Evito di fare Figuraccio Con un tiro a caso Un altro modo Di dire Amanuense Scriba Scriba Sì Non mi dire No No Dai Inscription Oh Smart È il nemico Di inscription No È il robot Che trascende Le leggi di Asimov Sono quelle Diciamo a tutela Dell'umanità Perché lui In realtà Vuole sterminare Diciamo Non ci sarei Non ci sarei Arrivato a quello Non ci sarei Arrivato a quello Questa però In effetti È una delle domande Migliori Che hai fatto Allora io Sottolineo Non sono mai da solo Quando io dico Scriba Lo estendo A chi mi aiuta Ovviamente Però è anche vero Che Pensavo a Detroit Become Human Ma anche a Portal Volendo Io stavo pensando Più a Portal Bravo Sabato Stavo pensando Assolutamente a Portal Non preoccupatevi Era Detroit Ma Detroit Non ha un villain Robotico Ok No Invece stavo pensando A Portal Era l'unica Che avevo in testa Ma non mi sembrava Proprio Il titolo del gioco Il titolo del gioco È esattamente Quello che ti viene voglia Di fare Sulla tastiera Giocandoci Alt F4 Cazzato nero Esatto Questa era smart Questa era smart E poi Questa è te So che hai fatto Qualcosa Quindi Questa sapete Perché la so Perché mi ha raccontato Il gioco Viking Una settimana fa Non lo conoscevo Sì Io da lì abbiamo detto Cazzo lo sa Quindi possiamo farla Anche a lui Easy Francesco salvo Si torna Michele PS2 500 Pronti Uh baby Gli facevano Così tanto schifo Le giornate nubolose Da arrivare A cambiare Ma dai È facilissimo Del capitolo successivo No Scusami Qual è la categoria? PS2 Gioco PS2 PS2 Gli facevano così Tanto schifo No sto No Allora fate questo Io mi diverto Perché ho pensato subito A Skull Che came l'home in Leon Però il capitolo successivo Ovviamente è un videogioco Cioè non stiamo parlando Di personaggi Ricordo sempre Che qui è un titolo Allora Allora ti dico Tutti i miei pensieri Ok? Te li dico tutti Va bene Ti puoi dirmeli Ti dico soltanto Io ho un brividino Nel cuore È una di quelle cose Che potrei dire Forse ho preso 500 punti Al Poliquist show Ok? Ok Ho il brividio Ho il brividio Un achievement Ho pensato a Cloud Ma cambia il gioco E non credo a niente Ho pensato a Skull Che cambio con Leon Ma quello è Numura Che non sa scrivere Quello che invece Penso che sia È una mia esperienza di vita Uno dei miei videogiochi Preferiti su Playstation 2 Il quale Sequel Comprai all'estero E aveva lo stesso nome Del prequel Ma non in Italia Questo non lo so Io a Londra Comprai Dark Cloud 2 Ma in Italia Era Dark Chronicle Minha Mamma mia Aspetta Ve lo faccio vedere Avevi raccontato Questa storia al pub Clean No mica Non la saprei Non l'avrei saputo Io questa roba Ma avete visto Che giornate nuvolose Cloud Le nuvole Dark Cloud È una traduzione Sono sempre lì L'indizi Ma do Incazzata Comunque Michele È fuori controllo Assolutamente Non si può più andare avanti Non sbaglio Aveva raccontato Questa storia Al pub Qualche settimana fa È incazzatissimo Poliquiccio Sta bestemmiando Nel frattempo Da alzato Praticamente Vabbè E intanto Simone prepara La prossima Sì 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 Aspetta No è arrivato È arrivato È arrivato Aspetta Eccolo Vediamo Mike Guarda quanto è bello Eccolo lì Dark Cloud 2 Il primo si chiamava Dark Chronicles No Il primo si chiama Dark Cloud Ma in Italia Fucking Reasons Esatto Non ho mai studiato la storia Lo chiamarono Dark Chronicles Esatto Siamo scendendo Le parti marketing Probabilmente Perché è nuvoloso E brutto I bambini Non sono Non sono pronto Per questo evento Io Non posso neanche leggermi Allora Armi 400 Dai Va bene Perché Armi 500 Immagino Siamo ancora Tremenda Basta Together In perfect harmony Cos'è Armi? Armi Armi Quindi qui sono sempre Delle armi la risposta In questo caso Sembra almeno due Almeno due Una coppia di armi Allora io ho in testa Ebony Ivory Però sto cercando di capire L'indizio di più Perfect harmony Io lascio sempre a te Simone Sembra Allora Live together In perfect harmony È una canzone Importante in quel gioco Io a questo indizio Ci sono arrivato Eeeh Cosa di musicale No io sto facendo Lo swing Sul Ce l'ho in testa Questa cosa Ce l'ho in testa Sì sì Ce l'ho in testa Ce l'ho in testa La canzone Non riesco a pensare Quando vuoi Mi sa che ho bucato Spara Spara nel dubbio No io dico Ebony Ivory Sono le prime La coppia migliore Che mi viene in mente E c'è La canzone Una canzone Che si intitola Ebony and Ivory Il quale Ritornello dice They live together Peraltro del Ah è Mazza Paul McCartney Sì no Lo ho detto Sì sì Un altro Famoso musicista Che non ricordo E che avevo il dubbio Che invece fossero Altre due pistole Magari quelle di Bayonetta O cosa di genere Ricordiamo le armi Iconiche Di Devil May Cry Pistoliche di Dante Di Devil May Cry Sì 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 Francesco No vabbè Porca miseria È qui Mike Siamo fottuti Siamo fottuti Bene avete fatto una Da 500 a testa Lasciate 200 a Simone Scegli Frances Di che morte morire Mi sa di sì Low tech 500 Io non volevo fare Low tech Mi son fatto 400 Difficile Ma è più difficile Che c'è Te la sei presa Sai Un altro modo Per descrivere Questa categoria È low tech Che è low tech Quindi indietro nel tempo Allora è una categoria Insomma le quali risposte sono Videogiochi fermi A livello tecnologico A molti anni fa Cioè pre Tecnologia Quindi non c'è l'elettricità Non c'è Non c'è Non c'è Devo capire un attimo C'è un nome Che è la risposta Il titolo del videogioco È un altro modo Potrebbe essere Il nome di una Di questa categoria Diciamo che È stato detto anche Più volte Oggi Sta zitto Poli Scusami Cioè oggi abbiamo detto Più volte questo nome No Però Capirai dopo Sto zitto Mi flammano in chat Perché dico troppo Addirittura Mi sembra di dire troppo Ti farà male al cuore C'è arrivato forse No Non è che Ne ho cinque Almeno da dire Eh lo so Lo so Pensa a Jack and Dexter Io ne avevo tre Ne ho pescato uno sbagliato A Link to the Past The Legend of Zelda Allora è ragionamente giusto Però è stato detto Più volte Che la categoria È ferma al Medioevo E allora è Medieval di merda Che male Eh vabbè ragazzi Ho provato Sono stronze dai Voglio quei fonti Vabbè Questa secondo me Era la più difficile Di tutto l'episodio Però di tutto È difficile È tosta questa Tranquillo Questa più che altro Ne poteva avere tante Sì però Ovviamente Essendo Come l'ho detto più volte Dal Medioevo In precedenza Ovviamente Era lì l'indizio No Sì sì Vabbè Vai dai su Dimmela Dimmela Dai 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 Vediamo Vediamo 500 Fedan Sono pronto Brandire quest'arma Ti fa perdere un sacco di tempo La mattina Per togliere la brina Dal parabrezza Della macchina Gli diamo dieci minuti Per pensare No no C'è da parafrasare la frase Prima di pensare alla risposta Questo era uno dei round più lunghi Ve lo dico Poi saranno molto molto violosi Gli altri Vi avviso in generale Dire quest'arma ti fa perdere Un sacco di tempo Allora È semplice ragazzi È un'arma che ha l'abilità Del ghiaccio Esatto del ghiaccio Del fuoco Perché toglie il ghiaccio Del calore Il fatto è che Ah no hai ragione Forse è più del fuoco È vero Eh sì Sì È qualcosa che io non conosco Perché ce ne sono milioni E sicuramente Però smetta Ti fa perdere tempo la mattina Per toglierla Quindi forse La mette Sono in coop Ma sì ma ragazzi In coop In coop No il fatto Il fatto è questo È che Il fatto è questo È che È un'arma Che sicuramente È anche un gioco di parole Con Sì 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 Ghiaccio Oppure brina Oppure fuoco Ma Se non E questa è la domanda Che se non ti viene in mente Arquunti secondi Non la sai e basta Quindi Quindi È capitata forse Al peggiore di tre Peraltro Ti dico che Hai avuto sfiga Perché forse sei Da quello che so L'unico che farebbe Molta molta difficoltà A sapere questa risposta Dalle mie info Io ne sparerei Una a caso Ma solo perché È la più iconica Che conosco Guarda Guarda L'unica spada Che rompe il ghiaccio Per me era CGI Di Wrath of the Leech King Però Non mi ricordo Come si chiama Non ti ricordo È la spada Cioè La tua risposta Sarebbe la spada Di Leech King Eh sì ma non mi ricordo Come si chiama Diciamo che Il nome Esatto E E quella Mi incazzo Poi Perché È lui Frostmourne È Frostmourne Ma è quella È quella Avrei sparato anche io A caso Esattamente Però non so se me la dai Non me la dai Spieghiamo Non è giusto Ah me l'ho data È certo Ma è giusto Perché non sai il nome Sì ci sta Spieghiamo il perché No ma perché Io di World of Warcraft Ho giocato le ore di gioco Di un appassionato Guardando quel trailer Perfetto È giusto È giustissimo Però io mi aspettavo Qualcosa legato al fuoco Spiego Perché E Frostmourne Indicativamente Sai Il reddice Ghiaccia Tutto dove si muove Mi dispiace che non sapevo il nome Ragazzi Ma tanto Questa beh Vuoi aggiungere la roba alla lore Perfetto A posto E peraltro C'è scritto Ti fa perdere tempo La mattina Perché è Frostmourne Mourne è mattino La alba Quindi c'è un indizio Ma certo Poli Adesso comincio a capire Assolutamente no Però ok Finiamo con Simone Flauto nel cranio Questa scusate Mi è capitato a 200 di Low tech Test esplosa per la musica Non mi sembrano kill Molto onorevoli Oddio Flauto nel cranio Ti prego Dimmi il gioco Che penso io Allora aspetta Low tech Flauto nel cranio Testa esplosa per la musica Non mi sembrano kill Molto onorevoli Se non lo sa Simone Potrà dirlo Michele Disonored Cosa direbbe Michele? Io Provo Brutal Legend Non è neanche Brutal Legend Cazzo Brutal Legend è recente Sì esatto Io pensavo che fosse Brutal Legend Ah For Honor Perché? Kill Allora Quanto è che kill onorevoli Quindi l'indizio è lì Perché ci sono Ci sono delle ulti Su For Honor Della quale sono venuta a conoscenza Anch'io Una delle ulti È uno che fa suonare Il flauto All'altro avversario Dopo gli tira un calcio E gli perfora il cranio Il flauto Ah tu pensa Poi Io Vi dico In Brutal Legend C'è quello che poca talmente tanto Che gli scoppia la testa Sì È il problema che Brutal Legend A tecnologiare E i creativi hanno tipo gli strumenti C'è l'elettricità su Brutal Legend Quindi non può andare bene Sì siamo tutti in positivo Alla fine C'è bravissima Quindi siamo i migliori Sì vabbè Non ci voleva tanto Gli beta tester Incapaci Sì sì vabbè Ovviamente Gli beta tester Poli 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 Te lo dico solo perché c'è una statua Sai Di 10.000 euro Là dietro Che c'è France Mourne Mourne vuol dire lutto Sì però È bello il fatto che Mourne Mourning C'è un mezzo indizio La pronuncia No lo scrivi tu allora Simone Lo fai tu Com'è che si chiama in italiano? Geli d'anima Geli d'anima Geli d'anima Completamente diverso È round 1 finito Molto spesso Figo però Molto figo Ed adesso però Praticamente sempre Nei Poli Quiz Show Dopo il round 1 Succedono cose fighe Ecco per la prima volta Non succedono cose fighe Dopo il round 1 Perché Voi stavate giocando Contro Vergil Per avere in cambio Delle informazioni Ma Vergil Oltre a essere appunto Un faccia di cazzo Parole così Inoltre Non cede Non molla l'osso E quindi Prima di darvi le informazioni Vi sfida in un altro Round Dove però Questa volta I personaggi di Devil May Cry Sono Piuttosto Al loro agio Ovvero La musica Holy shit Aspetta che devo spostare Vabbè le webcam Basta spostarle sotto Signor Signor Fedand Allora Questo round È un round innanzitutto Dove ci sarà bisogno Solo per questo round Ve lo dico così dopo Potete toglierlo Un buzzer Che vi ho appena mandato Nel gruppo Che abbiamo su Telegram Ok Potete prenderlo Da telefono Da pc Come preferite È assolutamente uguale È creato apposta Per tutti i dispositivi Ok Eccolo qua Quindi potete Crearlo da telefono Banalmente Entrate come Ovviamente Player E non come host E una volta Che siete dentro Mi premete il tasto Buzz Per testare Se funziona Ah ok Fighissimo Eccolo là Simone è stato buzzato Saido quando vuoi Prova anche tu Ovviamente qui non c'è musica Perché avete già capito Cosa dovrete fare Quindi abbiamo Sabaku E mi manca solamente Francesco Quando vuole Facciamo il test Dopo vi spiego Eccolo qua Anche Saido Resettiamo Allora ragazzi È molto semplice In questo round Vi prenoterete Sentirete svariate soundtrack Di videogiochi Francesco è carico Non vede l'ora Sostanzialmente Io invece zero Punto debole totale Non così tanto E qui Sentirete 5 secondi di una soundtrack Ok Se volete prenotarvi Entro questi primi 5 secondi Che talvolta è un po' di più Perché alcune ci richiedono 6 secondi Per iniziare Prenderete 250 punti Per ogni canzone giusta Per ogni canzone giusta Nel caso in cui Invece la indovinate Ha 12 secondi Ne prendete Soltanto 150 E si perde Si va anche in negativo Esatto E questa è la seconda parte Ovvero se uno si prenota E non la sa Non perde punti Ma per tutta quella canzone Che arriverà a un massimo Di 25 secondi Non potrà più rispondere Ok Quindi banalmente Se uno si prenota E la fa giusta Ci bruciamo la risposta Se no ti bruci la risposta Per quella mancia E lasci il tempo agli altri Di ragionare Ok Sarabanda ragazzi Sarabanda Ti faccio una domanda Pronti Ti faccio una domanda fondamentale Pronti Vista l'eccentricità E spesso la difficoltà Di reperire Specialmente in passato I nomi delle soundtrack Si può anche dire Che soundtrack è Senza dire Allora Il nome Esatto In realtà sono Praticamente iconiche Di saghe O di videogiochi Maybe I'm a lion Di Final Fantasy No 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 Non serve il nome preciso Mi dovete Basta che mi diciate Il gioco Ovviamente ci saranno alcuni Dove bisogna essere specifici Capitolo 1, 2, 3 Per esempio Ok Sì 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 Oppure Non dovete dirmi Test for blood Di Devil May Cry 3 Tutto quanto Certo Cominciamo con la prima Io non bloccherò Per i primi 5 secondi Cioè se uno si prenota Entro i primi 5 secondi Top Altrimenti io lascio andare avanti Fino appunto ai 20 Per la prenotazione 3 2 1 Go Dio santo Eccoci qua Ci siamo cresciuti Ci siamo cresciuti Ci siamo cresciuti La sua cantera Non so di cos'è No Ce l'ho Baza Saido Tranquillo La sua cantera E non so cos'è Donkey Kong Country 1 Donkey Kong Country Eh sì Ce l'ho detto che ci eravamo Cresciuti È la intro È proprio la intro 150 Ci sono cresciuto Esatto È il penso della intro Se non premi start Pulito Main team Bro Saido Bro Saido Bellissimo No esatto Quella Mi risuonava nel cuore Buzzer alla mano 3 2 1 Let's go Una donna però No questa no Eh sì invece Questa scelta Marca puttana C'è ancora Cinque secondi Questa parte Questa parte È Castelvenia Ma non so Bravo Castelvenia Castelvenia Giusto Stavo dicendo È un metro Edvenia Non mi viene quale 150 Questa parte Mi ha svegliato 150 per Michele Tutti tuoi Io faccio cacare a sto gioco Non l'avrei mai indovinata Se non fossi arrivato quel secondo Lo sarei lì Anche io Te nemmeno preoccupatevi 3 2 1 Parte piano Questa Sta arrivando Sta arrivando Questa cavolo Non mi dice niente Bellissimo Non penso di averci giocato Time out Porta 2 Il main team Di Porta 2 Non c'è giocato Che sciocco Non ho dato particolare peso Alla host Probabilmente Io l'ho giocato 0 0 La musica è bastarda La musica è qua Nella vostra testa Dovete tirarla fuori Mi sembrava simile a FTL Ma le conosco tutte Quelle di FTL Quindi non era Pronti 3 2 1 Come scusa Simone Simone Baionetta Baionetta Ah non l'ho ancora giocato Non l'ho ancora giocato Dimmi che entro i 5 secondi No 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 Adesso ti dico esattamente a quanto siamo Anzi eravamo a Cliccami sopra per cortesia Eravamo a 9 Simo quindi purtroppo Non importa Non mi fa perso Un piuttosto La condizione del tempo Ok Ok Raggiettiamo il buzzer E pronti con la prossima 3 2 1 Via Sì Oddio 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 Io ho cominciato a giocare dal 2 E rimanevo in quel menu Per tipo La panoramica Quando nasce Non mi ricordo Quando nasce Non mi ricordo Precisissimo Può essere Però Ok Resente del buzzer 3 2 1 A voi Mortal Kombat No No non è Mortal Kombat Non è Mortal Kombat Francesco Ho bazzato Ho bazzato Bazzato Saido Francesco Ehi Saturni Ehi Saturni A 3 secondi Sono 250 Grande Ehi Saturni Objection Ammazza che figata Perché sembrava un remix di Mortal Kombat All'inizio è questa Era fatta un po' opposta Scelta apposta Pronti con la prossima In 3 2 1 Sono pronto Bazzato Bazzato Maledetto Io io prima Allora Spiego Se uno fa bazzato E non va È semplicemente perché mette in coda La prenotazione di un altro Chi ha bazzato prima? Eh Simone Cazzo Appena il primo Alo Appena ho sentito Subito Alo è 3 secondi Peraltro Quindi sono 2,50 Per Madonna mia Abbiamo bazzato tutti Contemporaneamente Sì 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 Perché a troia Cioè i gestibili Siete tranquilli Non c'è niente in pali C'è un pad customizzato È bellissimo Il fatto è complimenti Ma non dovete uccidervi Insomma tranquilli Pronti? Tu metti 1,2,1 2,1 Aspetta Aspetta Lo so Mario Kart Mario Kart 8 Io stavo per dire Due di full show Praticamente Simo L'hai giocato ieri Questa era tua Ti giuro Ma perché Ma perché Ha prenotato un po' Presto lui Perché ci stava arrivando Era proprio l'inizio Mi aveva messo un po' Se era persona O qualcosa del genere Sì sì 150 Per Francesco E andiamo con la prossima 3,2,1 No aspetta, questo sembrava Final Fantasy Non mi dice niente Sembra Tollet ma non è Tollet Io all'inizio ho pensato Vibrazioni Nier ma non lo è No, non lo è Povero Professor Layton Mai giocato Mai giocato E la prossima mi sta a cuore Per i motivi sbagliati che vi racconterò fra poco 3, 2 e 1 Ci mette un attimo Sì Oddio Il mio funerale quando ho perso questo quiz Non lo so Non mi dice non ce la faccio Eppure Posso chiedervi una cosa Che vibes vi dà questa canzone Un gioco fantasy Voi direste che questo è il main team di minecraft No È prendendo per il culo No, no, giuro Io pensavo Cazzo, questo è tipo un gioco dove muoiono tutti E disastro, bombardamenti Mi unisco a Mike nel cordoglio di chi non ha mai giocato a minecraft Tranne una volta per una sponsor Non è una mancanza non sapere il main team di minecraft Per quanto mi riguarda Però va bene No, invece sì Questa però è importante Questa però è importante Questa è che arriva a Warehouse di Metal Gear Solid 3, 2, 1 Voi Il sound font è spaziale Ma non È un gioco nello spazio Ma non ho idea di che cazzo sia Io non voglio Non si blocca più ragazzi Scusate Blocco io Fennan E... Metroid Prime Eh infatti Cazzo E io l'ho cominciato Metroid Prime Abbiamo capito che era qualcosa del genere Però non l'ho giocato Non l'ho giocato Metroid Prime ancora Pronti Siamo molto oltre la metà del round Siamo verso la fine Ah wow Eh sì no Sono poche queste ovviamente I round vi ho detto Sono più lunghi più corti Ma è bellissimo Eh ma non può durare troppo Ce ne sono ancora un po' Ma non troppi Pronti? Col 3, 2 ed 1 Via Io Samaku? Ho sbagliato perché in realtà era un trailer Quindi ho fatto una cazzata Però mi hai ricordato veramente tanto Mass Effect 2 Mass Effect? Sì Perfetto Grande A 3 secondi peraltro A 3 secondi Mass Effect è easy Visto? Pulita Ok Ok Scusa Il mio cuore Regale nel peggiore di casi Non perdete niente Perdete la Lo so ho capito Però sai Non contento di averla presa On fire madonna Va benissimo 2 3 2 1 Vostra Sate Icchio Chimete Kulka Porca puttana Non ho giocato Io ho bazzato Per fare una battuta Nel senso che forse ci azzecco Ma solo per meme Perché non è un franchise che ho giocato Ma giapponese Voce roca Che balla con la musica da karaoke È Yakuza Yakuza Ok Assenso il modo in cui l'hai capito Ma non l'ho giocato Non l'ho giocato Sono solo che ci sono i giochini di danza Non so niente Sì 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 Ci avevo pensato Io stavo escludendo Tekken all'inizio In che non si perdono punti i provi Sì L'avrei detto anch'io L'avrei detto anch'io E poi ha googlato tutti i giochi che non ho giocato E li ha messi tutti No Non è vero Non è vero Non è vero Sì sì Manca anche a me ancora Purtroppo La prossima è Lavandonia Pronti 3 2 1 Vostra Viking 80's Una nota Un secondo Minchia È una nota molto caratteristica Se metti i giochi che ho giocato Effettivamente qualcosa Ho piglio Porca try E allora E allora la prossima Siamo 3, 2, 1 Via Oddio no Ah Cristo Ho capito Non so quale numero però Va benissimo Questa È un Tekken recente È il Tekken 5 Sì Intenditori Sì 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 Questa era tosta Questa era tosta Questa è ancora più tosta Prego Oh Aspetta Che l'ho qua Questa è difficile Aspetta Aspetta No dai cos'è ma c'è Tempo purtroppo No Simo ci prova alla fine No ci prova con un persona Perché ce l'ho in testa con persona Non credo No è un picchiaduro Eh Beh se si può definire Dynasty Warriors un picchiaduro Può andare bene Ah vedi 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 Sì 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 Ho capito qual è Dynasty Warriors Sì 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 Maledetto muso Muso Via Gli ultimi quattro ragazzi Perché ce l'avevo L'ho scoppiato Dynasty Warriors 2 Vai 3 2 1 Dio Ma Ho sentito Un miliardo di volte No pure io Pure io Ma forse no Forse Non avrò sentita Io purtroppo Nessuno si è notato E c'è un tutorial famoso In questo gioco Che è Driver Che non si può Passare Holy shit Non aver indovinato Driver Non mi farà dormire stanotte Non mi serve Mamma mia che vergogna Cazzo È Driver È vero Grande momento storico Che bello Driver Ultime 3 3 E 2 Ed 1 Aspetta questa è nostra Simo È un boss No no È inscription Eh Simo è inscription È inscription È il pescatore di inscription Ah Ma perché B-King Ero convinto di aver vinto io Di velocità Cazzo Teoricani io seguo quello che c'è scritto lassù Ah c'è scritto lassù È vero Sì 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 Stavo guardando il cellulare Ok Eh sì Era decisamente In inspection Sì sì Penultima Al 3 Al 2 E all'1 Oh ma ragazzi Non è solo una Oddio 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 Sabaku Io senti Io devo buttarmi A me sembra Rage Racer type 4 Ma non credo sia quello No Sono sorry Possono perluttarsi solo Francesco e Simone Andiamo avanti La sparo Sairo Ma non Persona 4 Ma perché È il basso di persona Non è persona Sì ma io Sono arrivato Sono incappato in questa canzone Di recente Non so da dov'è 8 secondi per tesimo Go Io no Queste note No No Sono incappato di recente In questa canzone Non lo so ragazzi No non voglio neanche Sparare Ok si Ho perso ma lo dico io Dillo Dillo Sabaku Vai in Gran Turismo Cazzo Ovo È Gran Turismo Come perché ci sono incappato di recente È Gran Turismo Io pensavo di Tracer È Gran Turismo Io pensavo di Tracer Easy E regà L'ultima L'ultima vai Per voi Al 3 2 1 Io Sabaku Undertale Sì Questa era proprio Sì non l'ho fatto in tempo Per notare Ma sì Vabbè Abbiamo scattato insieme 2,50 Sì 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 Vabbè L'ho detto L'ultima Non me l'ha preso Però ero molto Ero dopo Allora innanzitutto Si torna nell'overlay Del round number one Perché Situazione punti è la seguente Abbassiamo la soundtrack Signor Fedand Abbiamo Michele Primo con 2250 punti Abbiamo un secondo posto Proprio vicino al terzo Un Simone Con 1350 E un Francesco Con 1250 punti Diciamo che la base Siamo stati bravi Secondo me Siamo stati bravi Si è buttata E adesso c'è Da vedere una cosa Un po' figa No? È giusto far vedere Dove la gente Mi ha dato i suoi soldi In cosa li abbiamo trasformati Finiamo il round Il round Voi sconfiggete Vergil Lui si leva dal cazzo E vi rivela Di avere a disposizione Delle rune Ok? Che in mano Di chiunque Teletrasportano Appunto I personaggi Nella terra Di questi ultimi Villain Del concilio delle ombre Chiamiamolo Dell'episodio appunto Della stagione Del Boy with Show Quindi Mentre voi appunto Battete Vergil Io Mi rendo conto Di non essere La persona migliore Per raccontare Una storia E quindi Lo facciamo fare A chi è molto Più bravo Di me Terminato il combattimento Vergil era esausto La potenza del trio Era impareggiabile Proseguire nella sfida Sarebbe stato un suicidio Con la rabbia E la frustrazione in corpo Vergil consegnò loro Le rune Per dirigersi Nella terra Del concilio Delle ombre Promettendo che un giorno Si sarebbe vendicato Di questo scontro impari I tre presero le rune Si fecero coraggio E le utilizzarono Un bagliore accecante Esplose di fronte a loro Un immenso portale Si era aperto Dopo un complice Scambio di sguardi I tre Decisero di entrarvi Non sapendo Se avrebbero mai Fatto ritorno Nel loro mondo Era lì Un enorme agglomerato Di terra Fuoco E solitudine Dalla terra Del concilio Delle ombre Tre regioni Componevano Questa lampa Devastata La regione del fuoco Governata Da Ragnaros La dimora Della distruzione Del fuoco Del pericolo E della morte La regione del tempo Governata da entropi È il luogo dove niente è definito La linea temporale è spaccata Il tempo Vacilla La regione dell'ombra Governata da Giovanni È la terra degli inganni Nessuna certezza Nessuna luce Nessuna verità Questi tre membri del concilio Stavano proteggendo Un'altra terra remota Dalla quale Si ergeva una colonna di luce Verso il cielo Intuirono quindi che Per arrivare alla fonte Di tutto ciò Che stava accadendo Avrebbero dovuto superare Queste tre regioni Solo una scelta Rimane da fare A chi spaccare il culo Per primo Pronti? Eccoci Prontamente impazzito Ciao Gian Ciao Gian Che figata Che bello Piccole cose Vi ho detto che i soldi Ci vengono dati Li usiamo per fare qualcosa Di bello Forse Dobbiamo scegliere noi Quindi Di comune accordo Faccio un piccolissimo riassunto Allora Innanzitutto Sì C'è da ringraziare E c'è da dire Che giustamente Un grazie soprattutto A Marco Smuchi Per la realizzazione Della parte grafica E a Gian Andrea Per il doppiaggio Che si è prestato Peraltro senza una casa Attualmente Mi hanno mandato gli audio In maniera Assolutamente incredibile Avete capito Che appunto Voi prendete queste rune E andate a sconfiggere Giustamente Simone prima diceva Nell'episodio 2 Ne hanno sconfitto 1 Noi ne dobbiamo sconfiggere 3 È giusto Perché dobbiamo chiudere La lore In vista della finale E giustamente Dammi un secondo Il mouse Signor Fedand E giustamente Quindi sapete Che ci sono 3 nemici In realtà La scelta di Chi sconfiggere Per primo È finta Perché andrete in ordine Di come sono stati presentati Senza una ragione Specifica Perché non cambierebbe Assolutamente nulla Partendo quindi dal primo Ok Che avete capito Sono Ragnaros Per il fuoco Entropi Per il tempo E Giovanni Giovanni Bellissimo Ragnaros E Giovanni Per l'ombra Quindi per l'oscurità Vediamo il primo Di questi 3 Tizi Da sconfiggere Ovvero Ragnaros Eccoci qua Allora Voi sarete Stunnati In questo momento Ma Vi stunnerò Ancora di più In un altro modo Perché Questo Che vedete È un round Per giocare contro Appunto Ragnaros Ok Ok Ma Non sarà l'unico modo Per Battere Ragnaros Da qui Al futuro Perché È Una cosa che non vedrete oggi Ve lo dico Cioè non vedrete oggi Durante il Poliquid Show Ma Da settembre Anche qui E mi piacerebbe molto Riavere voi O chi per esso Per me Mi piacerebbe voi Ma vedremo Vedremo più avanti Un modo per sconfiggere Ragnaros In modo alternativo Infatti abbiamo Creato Ed è tuttora disponibile E vedrete appunto A settembre Un gioco Digitale Per sconfiggere Ragnaros Sistemiamo al volo Sistemiamo al volo Le webcam E È Un Completamente Impazzito Completamente Impazzito Ok È un Board game Però digitale Quindi giocherete E ribadisco Se volete Sarete invitati voi E adesso Spiega proprio L'1% Delle regole Un board game Dove I protagonisti Siete voi Ma proprio voi Voi Perché infatti Avrete Il vostro personaggio Quindi facciamo vedere Velocemente Per esempio La scheda del personaggio Di viking Ok Che ha Delle statistiche Di mana Di vita Ha delle skill Che riguardano La sua lore Il suo personaggio Tutto quello che è lui I suoi meme Ha una passiva Un'attiva Vediamo al volo Anche per esempio Francesco Che abbiamo preparato Anche già Francesco Quindi ci sarà Anche già Abbiamo preparato Il personaggio Francesco Abbiamo preparato Il personaggio Di Michele Anche In realtà Ne abbiamo preparati Molti altri Che non vogliamo Spoilerarli Tutto è a tema Su di voi E se non bastasse Che avete delle skill Ovviamente voi Salite di livello E ogni volta Che salite di livello Facciamo vedere Sempre appunto Un esempio Viking Sceglierete una skill Per buildare Voi stessi Come meglio volete Potete Viking potrà Bellissimo Vedo delle cose Molto glass cannon Bravo Bravo Potrà buildare Se stesso Come un dps O come un tank E giocare A questo board game Appunto Che sarà una serie Diversa dal Poliquid show Che prenderà piedi Appunto sempre Con streamer Con colleghi Che potete tranquillamente Essere proprio voi Il primo trio Ovviamente ci si mette D'accordo Non siete obbligati Per giocare A questo board game Con delle regole sue Che abbiamo preparato C'è proprio un regolamento Appunto Dei livelli Delle cose E altre E ovviamente non solo Ragnaros Anche Entropy E anche Giovanni Ma non spoileriamo altro Di questo progetto Questo solamente per dire Che i soldi Che sono stati dati Per questo episodio Non sono solo Per questo episodio Ma sono letteralmente Per un'altra Stagione Di un altro prodotto Ovvero Il poli board gamer Il nome è una merda Però ci ragioneremo Ci lavorerete su Spero Da settembre Sappiate che Ovviamente Qualsiasi streamer Collega Creator Al mondo Può essere invitato Anche perché possiamo buildare Per esempio Mario Sturniolo Con delle skill a tema Stupefacenti Per esempio No Cioè per dire Una cosa così Stesso come cose sorprendenti Ovviamente Però Visto che non è oggi Questa parte qui Io direi di Tornare a sconfiggere Ragnaros Come invece sappiamo fare Quindi a colpi Di Di quesiti Ne riparleremo meglio Ne riparleremo meglio Sia con voi Se vi va E con la chat E con il pubblico Domani nella live Di dietro le quinte Dove vi riveleremo Appunto meglio La build di viking Cosa abbiamo pensato di fare Per viking Cosa abbiamo pensato di fare Per Saido E eccetera eccetera Quindi un po' le vostre build E spoiler Saido è il tank Non so perché però Va benissimo Manco tutto io ragazzi Ci sono vari ruoli Che potrete scegliere voi Di impersonificare Comunque In quel caso è cooperativo Tra l'altro Sì 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 Sarà cop Contro il boss Contro il boss È un'alfa E attenzione Cosa importantissima Chi ha supportato il progetto Poli Quiz Show Tramite kickstarter Riceverà Questa versione Del gioco digitale Che dovrà buildarsi Lui con le Con un OBS Per giocarlo con gli amici Cioè voi potete interpretare Viking che fa DPS O Saido che tanca O Michele che ha Solamente skill di Perry Non ve ne pentirei Non so perché Però è venuto così Giusto Comunque Torniamo a noi Questo round è relativamente Semplice Perché trova l'intruso Anzi Non trova l'intruso Ci sono in questa schermata Attualmente 17 Titoli Di videogiochi Che rispettano Una direttiva Che io vi sto per dare Mentre Ce ne sono Tre Che non la rispettano Voi A turno Partendo da Simone Dovrete dirmi Un gioco Escludendo appunto I tre intrusi Che rispettano La direttiva Che io vi sto per dare Vi dico Abominato praticamente Ma con i titoli Praticamente è scossa Ma Ok Esatto Ci sono tre errori Vi dico già Che per ogni risposta Corretta Prendete 50 punti E se però Pestate la mina Cioè Pestate la parte Di terreno Che crolla Sono meno 250 Per dire State vedendo già Il primo elenco Sappiate che sono Tre elenchi Con difficoltà crescente Perché il primo elenco Ne ha tre Il secondo quattro E il terzo Ne ha cinque Di intrusi Quindi sarà sempre peggio Un botto La direttiva Di questo primo Elenco Partendo sempre Da Simone È Dovete dirmi I 17 giochi In questo elenco Che hanno Una versione Remastered Ok Ce ne sono tre Che non ce l'hanno Va bene D'accordo E 17 che hanno Una versione Remastered Partiremo da Simone Ok I punti Fedand Vedete se segnarteli O se darli Alla fine Della manche Della parte Di round Ho solo un problema Che vedo veramente Pixeloso a manetta Quindi alcuni Non li riesco a leggere Allora Io posso ingrandire Il più possibile Così Un po' meglio Dagli tempo Magari se sta un po' fermo Magari se sta Fermo un po' Guarda io i lochi Li riconosco Se tu anche io li vedo Sì C'è quello in alto a destra L'unico che non riesco a leggere Quello in alto a destra Gli altri si leggono Locoroco Locoroco Ok 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 Simone Apri le danze E Fedand Borderlands 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 Ha una versione Remastered Ci ho lavorato Fighe Ci hai lavorato tu Ho aiutato a tradurre Ho aiutato a tradurre Davvero? Sì Beh facciamo quello Per fare lo streamer Lo sapevo Sì Figo A lei Direi Gravity Rush Sì Se fa anche Gravity Rush C'ha una versione Remastered Non ha funzionato Il troll Un po' all'inizio Lo devo fare Poi adesso Adesso è facile Poi tranquilli No in realtà Guarda Per ora è molto safe È interessante Ma io sono molto curioso Di una cosa Poli io ti osservo Perché c'è uno di questi loghi Di un certo videogioco Che non ti dirò quale Ovviamente Perché tu sai Io ne ho notato uno Che è di una certa versione Di quel videogioco Che potrebbe non avere Una remastered Come Oh cazzo Sono molto curioso Di vedere questa cosa Comunque Andiamo su l'easy E facciamo God of War 3 God of War 3 Vabbè Sì Si sa Una remastered È molto importante Ho un sacco d'ansia Vi dico la verità Non Sento un sacco Un difetto Vabbè Mi sbaglio Io faccio il coglione Però ho notato Io Vado Vado di Beyond Two Souls Beyond Two Souls Sì Madonna L'abbiamo vista tutti Abbiamo visto Non mi farò spaventare Ok Raga È un casino Comunque L.A. Noire L.A. Noire Anche lui Ha una remastered Remastered Tocca a me Modern Warfare Modern Warfare Letteralmente Modern Warfare Call of Duty 4 Modern Warfare Remastered Quindi esattamente Anche COD È suo Aspetta Datemi proprio un secondo Perché ogni volta deve Cercare Call of Duty Si chiama Fedand Il gioco E deve anche Darvi punti Quindi La regia non sta dietro Alla vostra velocità Simone Se vuoi andiamo più piano 50 punti Per Michele Ovviamente Perché ha 6 doni Agli li stai dando Ora cominciano a essere Un po' più difficili 50 punti per Michele E via Vado Aspetto Sì sì vai 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 Simone Darksiders Darksiders Peraltro bellissimo gioco Molto bello Non in tutti conosco Dove rigiocare Darksiders Porta Simone A 1500 punti Francesco Dishonored Dishonored È safe Già Dishonored È safe Allora Qui potrebbe Cominciare a essere Tosta Perché ho dei dubbi Cioè Un paio di mine Le ho sicure Quante sono 3? 3 mine Sì Quindi Proverò a dire qualcosa Di cui non ho certezza E potrebbe essere un fallimento Però credo che Entrambi Siano stati rimasterizzati Di recente O comunque pubblicati Su altre piattaforme Quindi andrò con Patapon 2 Patapon 2 Capolavoro Dei Rhythm Game Che ha una versione Remastered Bellissimo Gioco che la gente Dovrebbe assolutamente Conoscere Ok Abbiamo anche I 2004 per Michele E si va Da Simone Autotype Dovrebbe averla Non ci ho mai giocato Ma dovrebbe averla È pazzesco Ma siamo rimasti A bocca aperta Anche noi Ho detto Io non pensavo Io pensavo fosse una mina Mi hai salvato Avevo il dubbio Emo iniziano i cazzi Adesso le percentuali Sono ancora a vostro favore Vedetela così Poi sempre più si va avanti Sempre meno Togliamo Prototype È già stato fatto Vai Francesco E ora comincia a diventare Ora è un po' più costarella Provo Dead Rising Ma non ne sono sicuro Dead Rising Avrebbe senso che ci fosse Esatto Ha senso È la mia prossima Ha senso anche Allora io per ora proseguo Sulla strada precedente Dico Locoroco Perché come Patapon Sarà stato dimostralizzato Era per il PSP il primo Sì sì ma C'è giochi Devastantemente divertenti Che No Locoroco è delizioso Veramente Però Sempre bello vedere Locoroco in mezzo a Far Cry Simone Secondo me Quello di cui parla Mike È O Dragon's Dogma O Far Cry Per cui Non lo so Comunque nel dubbio Vado di Dragon's Dogma Perché penso Di averla vista Da Da Co Pensi di averla vista Hai pensato bene Perché effettivamente C'è una remastered Anche di Dragon's Dogma Dark Horizon C'è anche per Per te Francesco Adesso È un campo minato Adesso è un campo minato Giustamente Tre sono sbagliate Quindi abbiamo un 50 e 50 Io non sono sicuro A questo punto Di nessuna Di quelle che è rimaste Un po' di più Di un 50 e 50 Solo una Ne sono sicuro Sì Credo di sapere Quale intende Michele Peraltro Perché Io vado sul Recente Cioè vado sul Semisicuro Ma semplicemente Perché ne abbiamo Parlato di recente Non ricordo neanche Con chi Forse proprio con te Mike Perché parlavamo Delle pareti Che si spaccano Red Faction Guerrilla Bravo Red Faction Guerrilla C'è là Guerrilla Era costante C'è una certezza C'è una certezza Ma perché ho avuto Il culo Ne abbiamo parlato Con te Vero Mike Ne parlavamo con te In qualche live Bellissimo gioco Dell'interazione ambientale Delle pareti Che si sfondavano Bellissimo Mi ha scritto Dario Credo prendendomi per il culo In privato Ma vabbè Dopo ascolterò E peraltro Gioco Stradivertente Che però Ad esempio Conosce GTA Quando prendi Ammazzate Un edificio E vedi quanto ti diverti Prego Allora Io ovviamente Due bombe le so Cioè Due bombe le so Ok Sono abbastanza ovvie Però Altre no E quindi Ho un ricordo Estremamente vago Di una remastered Che potrebbe Farmi cadere Nell'oblio Ma a questo punto Devo fare Una scelta difficile Quindi Dirò Balletstorm Che credo Abbia avuto Una rimasterizzazione Però non ne sono sicuro Per niente Ah no C'ha una remastered Anche Balletstorm Ah ok Stronzo Ora che ho i dubbi Proprio ora che ho i dubbi Ce l'hai Ed è bellissimo Perché migliora Di un sacco Le cazzine Di un gioco Anche lì Mega divertente In termini proprio Di gameplay Si torna Simone Adesso le procedurali Giocano contro Perché tre errori E due corrette È tosta È tosta È tosta Non sono sicuro Se non la becchi Passerai la patata bollente A Michele E nel momento in cui Ci sono solo risposte corrette Sappiate che il round Finisce ovviamente Certo Quindi se beccate le tre bombe Subito perdete anche La possibilità di guadagnare punti Sì è tosta Perché io sono sicuro Solo di uno di questi In realtà Non so gli altri Quali sono le due certezze Degli altri Io sono sicuro Di uno solo di questi In notte Tu dico questo Il discorso del logo Non era quello che dicevi tu Il discorso del logo Non era quello che dicevo io C'è un certo titolo Che è impossibile Abbiamo una remastered Ma non posso dire Qua è proprio impossibile Virtualmente Matematicamente Tecnologicamente impossibile Ok 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 Questa cosa mi mette Molto in rischio Ma va bene Sì 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 Vabbè Vado sulla Probabilmente vado sulla mina Ma vado di Far Cry Perché C'è una È il rischio giusto È il rischio giusto Bravo ragazzo Far Cry Da quanto è recente È chiaro che ci fanno una remastered Perché devono continuare a fare soldi E certo Non è così 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 Ciao una remastered anche For Cry 3 Sì sì Eeeh Non pensavo sinceramente Quindi sono nella merda Più totale 25% Ai driver Guarda Ma scusa Non possiamo collaborare adesso Per fare un punto Non credo Sarebbe Policop show Ma non è questo Perché mi piacerebbe aiutarlo Ok vabbè Ai driver Perché qua è bene Il brainstorming qua È uno dei miei affascinati Della sera Allora È vero è vero Hai The Bouncer Allora io non conosco Né Shadow Hearts Covenant Né The Bouncer Ok Ok Driver Ok Penso sia una bomba Quindi Allora Non li conosci Vuoi che ti dico che cos'è The Bouncer No vabbè Non ho bonte No vabbè No vabbè Se vuoi dirglielo No no Voglio a questo punto Fare la perfect run Ma sappiate che sparerò a caso Ok Ok Va bene The Bouncer No The Bouncer è lasciato Hearts Covenant Non li conosco Ok Quindi provo a Usare La mia esperienza personale Come esperienza collettiva Che è uno dei più grandi errori Che si può fare In ambito di ricerca E dico Sono troppo poco famosi Perché non li conosco Non hanno la remastered Ok Ok Ha fatto la remastered Di cose folli eh Lo so Sì Non funziona Vabbè Vabbè Non voglio dire niente Io non posso dire niente Io non posso dire nulla Lo so Però Non li conosco ragazzi Cioè no Beh ci sta Come era Ci sta Sì Ci sta Tanto sai sparare a caso Tanto vale affidarsi a un ragionamento Che non sai se è vero Quindi Per me Driver Non ha una remastered Quindi la cosa sensata Sarebbe South Park The Stick of Truth Che non ho neanche idea Di quale South Park sia È il bastone della verità Però Però è No sì sì no 2017 Non ho proprio giocato Ai giochi di South Park Ok Però so Che vengono pubblicati Da Ubisoft Ok Non so se anche questo È stato pubblicato da Ubisoft Ok Che con le remastered Ce l'abbona Però Ok Una remastered di South Park What the fuck E quindi La tua risposta è E quindi Prendo la mina South Park The Stick of Truth La cosa bella È che South Park The Stick of Truth Ha una remastered Che è stata Agganciata Al rilascio Dell'episodio 2 E ha una qualità C'ha una quantità Di migliorie Che è quasi Impossibile Ma quando è uscito? 2017 2019 Il sequel E hanno aggiunto Hanno fatto una remastered Di un gioco Di due anni prima Praticamente Raga Perfect run Madonna Grandi Bravi tutti Ma questa qui L'ho fatta semplicemente A esclusione Perché sapevo Che Driver Era una bomba E in realtà Gli amici miei Qua presenti Mi hanno preso Due giochi Che pensavo fossero bombe Ovvero Prototype 2 E Far Cry Per me ne Prototype E Far Cry Avrebbero C'è Va bene Quello che dice Sabah Bouncer Che non può esserci La No 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 Driver Driver E 1 Esatto A parte che hanno fatto E non puoi fare una remastered Di S1 Puoi fare una remastered Di S2 Ma il PS1 È semplicemente A scena È un remake A quel punto Diventerebbe A quel punto un remake Certo Clean Bravi ragazzi E tocca al secondo Al secondo menu Al secondo elenco Allora questa volta Ci sono 4 mine Qui ci sono 4 mine Quindi voi se la pestate Ricordo sempre Perché la penalità Sono meno 250 Anche la domanda È diversa No no Adesso sì Adesso ve la dico Un logo Non lo vedrete Che è quello Tutto a destra In basso Ed è Eitoi Un gioco Eitoi Quello con la telecamera Della Playstation 2 Probabilmente lo ricorderebbe Hai già dato troppa informazione Vabbè Tanto non sai la direttiva Perché Quindi Questa volta La direttiva E partiremo da Francesco In modo che partirete Tutti una volta Perché se no Ogni volta L'ultimo È sempre più in difetto È giusto È giusto Sbatt È una Un videogioco Cioè state cercando Le 16 risposte Di giochi Che hanno Una versione Platinum Quindi Per spiegare Per spiegare È Solamente Così avete un'idea Tutti Un gioco Platinum Viene definito Platinum Da Playstation 1 E Playstation 2 Infatti sono solo titoli PS1 e PS2 Sì 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 Quando vende 400.000 copie Entro i 6 mesi Dal suo lancio Ok Va bene Partito Il cazzato Nero E ovviamente C'ha un'area master Della sicurezza Appremiato Michele Come fai Poi facevi essere sicuro Di Croc Che è un gioco Di merda Guarda Non voglio tirarmela Ma ne conosco Tante di Platinum Qui presenti Perché Mi piaceva collezionarle Collezionare di Platinum Sei l'antitesi Del giocatore normale Eh vabbè Mi piaceva È bellissimo Io sono impreparato Ma cercherò di arrivare Ma è una cosa stupenda Perché io a scuola Mi ricordo Quelli che dicevano Ti posso scambiare la Platinum Con quella normale Ma io le collezionavo tutte Anche le Platinum Cioè doveva avere tutte le versioni Ah minchia Bellissimo Sono stato sportunello io Vieno collezionista Che figata Ok provo io Vado su Allora io sono in svantaggio Qui In totale Quindi per ora vado su GTA 2 Perché è ovvio Perché ovvio No aspetta è PS1 Beh tutti Qui ci sono solo giochi PS1 e PS2 Sì no ma anche il PS1 No no GTA 2 GTA 2 Perché Perché Ho credo che abbia venduto uno sfacelo Oddio in realtà GTA 3 è stato il boom Però Ti sei risposto da solo Michele Oh no Non ce l'ha Era una bomba Wow Eh questa era abbassardissima Ce l'ha GTA 1 Ce l'ha GTA 3 Ce l'ha San Andreas Vice City Ma non GTA 2 È il migliore Che è il più bello Mi ha baitato Ok ho reso più semplice l'avventura Posso dire una cosa Dai Tutti quelli a cui abbiamo fatto questo test Tutti hanno detto GTA 2 Chiunque Perché è bastavissimo C'è stavissimo C'è stavissimo Ma nel primo giro Eh ma è una questione di pedigree Sbagliata È vero Va bene Simone Sperando di non fare Lo stesso errore di Mike Dando una Su cui sono convinto al 100% Onimusha Anche perché Che doveva averla avuta in mano Anche io Che doveva averla avuta in mano Anche io Era nei mercatini Onimusha Di Playstation 2 Ha una versione Platinum Ok Che sono 50 Per Simone Pandemonium Pandemonium È incazzatissimo Cioè Francesco È bellissimo Pandemonium Ce l'ha Io su Francesco Non ci provo neanche a fare il troll A questo punto Vado anch'io su quello che ho toccato con mano Quindi Tricky No Ho tolto Ho tolto Fantastico gioco Che si sega a metà Che bello E ha una versione Platinum Anche SSX Freaky Grandissimo gioco Si passa a Francesco No A me A me A me Allora Mi fa troppo ridere Quindi Non è ne ho altre che sono sicuro Ma voglio andare su una su cui non sono sicuro Crazy Taxi Mi fa troppo ridere Ti fa ridere Crazy Taxi Perché ti fa ridere Crazy Taxi? Perché mi piace da morire l'idea che abbia il Platinum Perché è un giocone incredibile Infatti È un giocone incredibile E ce l'ha anche lì Esatto È per quello che dice Mike però Perché non è un gioco Play Ah ci sta Quindi il fatto che abbia una Platinum su Play Ci sta Però Ha ricevuto il Platinum anche all'epoca di PS2 Francesco Eh sì Ai Toi Ai Toi Detto prima E non so come questo gioco Abbia la calibrazione impossibile Mi ricordo Eppure Riusciva Ha riuscito a vendere parecchio Per la sua tecnologia dell'epoca Michele Si torna da lei Killzone Killzone Yes Ce l'ha Anche lui Ce l'ha Certo che ce l'ha No io sono partito con GTA 2 Perché dicevo Però alla fine le altre Cioè qualcuna la so Va bene va bene ci sta A scanso della qualità del gioco Harry Potter Harry Potter Flipendo La tutta la vita La tutta la vita Non era un collezionista così preciso allora Mi sa O me no Che flipendo Non ha una versione Platinum Minchia Nessun Harry Potter ha la platino Harry Potter la pietra filosofale C'è scritto No no c'è scritto Harry Potter la pietra filosofale Ah io non l'ho visto Il primo non ce l'ha La camera dei segreti Ce l'hanno Minchia Il primo non c'è Ah io ho visto solo Harry Potter Ok Pardon C'è scritto Io l'avrei preso Lo sai il discord Ed è così Purtroppo Sono sorry Simo Purtroppo No 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 Tanto Va bene Non ho problemi Chill 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 Si va su Francesco Darò una risposta Che sembra un po' crazy Ma sono abbastanza sicuro Di quello che dico Vediamo se è quella che voglio dire io E Bugs Life Bugs Life Cioè paradossalmente Tutti le robe Del tempo Di cui c'era un film Hanno fatto il platino Poi c'è Harry Potter Che non si sa perché Non solo perché era proprio appena uscita la PS Si si E Bugs Life Quindi andò molto forte Ce l'ha Ovviamente ce l'ha Allora a questo punto io vado di ricordi Non ho la certezza di averlo avuto in mano Ma ricordo Quanto lo volevo E quanto era una Madonna A livello grafico e qualitativo Quindi Non voglio andare sul sicuro Voglio andare sulla scommessa Dico Colin McRally 3 Colin McRally 3 Ha una versione platino Yes Devastante Gioco Di macchine dell'epoca Molto molto divertente Pensa che facevi Potevi piegare anche Il guardrail di plastica Si 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 L'unico gioco di macchine Che avevo all'epoca Si ricomincia E si va da Simone Comincia ad essere un problema Quindi Due bombe solo Quindi devo fare Cioè A questo punto devo chiederti Cosa c'è scritto sotto Spyro Avete beccato come bomba Soulblade GTA E Harry Potter Erano 4 No 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 intendo Spyro Il sottotitolo di Spyro è Enter the Dragonfly Quello per PS2 Però una bomba l'ha presa Mike Quindi sono 3 ancora No una l'ha presa Mike No ho preso anch'io una bomba Una testa Ho preso anch'io la bomba Sono 4 Era Harry Potter Ah quindi abbiamo Giusto hai ragione Quindi sono solo 2 bombe Quindi sono solo 2 bombe L'ultima manche Ne avrà 5 totali Minchia E aspetta di vederla quella Sperando che non sia un trappolone Perché onestamente Non me ne ricordo Le vendite immediate Nei primi 6 mesi 6 mesi Però vado su Spyro Spyro si portava dietro il fatto che È l'eredità della Playstation 1 E quindi inevitabilmente Bello brutto che sia Aveva una versione platino Ha avuto una versione platino Anche Enter the Dragonfly Sì Altri 50 per me Simone Francesco Mo' è tosta Perché ne ho uno Alzo leggermente la musica Che sto adocchiando dall'inizio Ma non avevo la versione platino E quindi mi viene il dubbio È mai esistita una versione platino Ah 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 Io non lo so Non so di quale stai parlando Ce ne sono molti a scherzo Eh no certo 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 Quindi vado in confusione Ci provo Ci provo Ma io non avevo la platino Quindi non sono sicuro Di quello che dico Ok È secondo me Un trappolone del cazzo Un tranello della minchia Crash Bash Cioè io non capisco perché Vi ci buttate Comunque Crash Bash Gioco party game Della saga Di Crash Però quella Quella principale Aveva Crash Sul cazzo Di cosino che salta Ce l'aveva Ce l'aveva Una versione platino Ce l'aveva Queste io vi dico Le ho face Fakes Checcate Un'ora prima Dello show Io quella la volevo dire Per prima Però poi ho pensato E lo spin off E il party game Non è che per caso Non è andato bene Noi non avevamo da bambini La percezione Dell'è andato bene Sono andati bene Sono andati bene Infatti è difficile Da quel punto di vista lì Capito Ce n'è uno Ce n'è uno che escludo Proprio 5.000 per cento Ok Vada Michele Allora Qui è tosta Per un semplice motivo Al di là Della mancanza Di cultura Totale Sui platinum Perché li evitavo Come se fossero Velenosi Ma anche io cazzo Immagino Il fatto che Nonostante il tie in 007 Puzza tantissimo Perché era veramente Erano veramente giochi Che comunque Non lo so Shinobi l'ho avuto Era bellissimo Una belva Però addirittura Al platinum Un gioco del genere Mi puzza da morire Spider-Man dovrebbe essere scontato Ma ho paura Perché sono un pavido In questo momento Sì Ti capisco A questo punto Io ricordo Un platinum Fra le mani Potrebbe essere Un terribile Effetto placebo Della sfida Però ricordo Di aver avuto Enter the Matrix Platinum Secondo me sì L'hai al 100% Perché era la mia Certo che ce l'ha Ce l'aveva Si portava dietro Il successo Di Matrix All'epoca Ma allora Quel Maialino di Sabacco Mi ha tolto L'unica certezza Che avevo sulle altre Perché le altre sono Ne ho alcune su cui Sono abbastanza convinto 4 su 6 Dai Una Una scommessa Ancora ce l'ho Le altre sono Pestate le mine Siccome tanto È il rischio minore Che ho Vado sulla fiducia Nel mercato giapponese Perché non specifico Quello importante Vado di Dino Crisis Eh cavolo Era la mia No Non mi dire Non me ne è possibile No È una mina Dino Crisis Era la Vi giuro Dino Crisis 1 Non ha Fatto Il platino Wow Questa è roba Stabilissima Ci meritiamo L'estinzione È un gioco bellissimo Giopi è il 2 Ce l'ha E l'1 Non ci posso credere E l'1 non ce l'ha E l'2 non l'ha fatto Io vi giuro Ho googolato Ovunque Perché ho detto Ero l'idiel Non ci posso credere E invece Non ce l'ha Posso dire una cosa Secondo me Viking In questa manche Sfortunatissimo Perché ha preso Le bombe stronze Che avrei preso Anch'io Cioè capito Sì 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 Tremendamente Allora Raga A costo di Fottere tutto Sì vai Francesco Però a me sì giusto Però a questo punto Devo ragionare Non più su Playstation Non più in ambito Videoludico Ma in ambito Culturale pop Dico Spiderman Perché era la Manna di Cristo Ai tempi nostri E che poi oltre a essere Un gioco che ovviamente Ha avuto il platino Era anche un gran gioco Cioè non era solo Bello bello E l'erede Del film Dell'epoca Era un bellino gioco Cioè per l'epoca Le ragnatili Poi c'è un gioco Di Spiderman vende Era un bel combattista In quel gioco Per l'epoca Era decente Michele C'è un 25% solo Non te lo sto chiamando Però ti dico Che le odd Sono a tuo favore Allora Ti dico questo Le odd Sono a mio favore Però non voglio Scommettere Su cultura Pop E diciamo Strategia stavolta Voglio fare come Il primo round E parlare con il cuore Che probabilmente Mi farà perdere punti Ma visto che ho qualcosa In eccesso Me lo posso permettere Di giocare un po' Di anima Ci sta Ti spiego il perché Praticamente Non posso accettare Che Shinobi Abbia venduto Più di Soul Blade Perché Soul Blade Ha creato Soul Calibur Ok Quindi la tua risposta è Di Io ho Questo terribile Desiderio Di dirmi Di rischiare la pelle Perché tu dici Esiste Soul Calibur Grazie a Soul Blade E quindi tu mi dici Soul Blade E non sia arrivato Platinum Quanto posso essere stronzo Prendere il 25% Proprio con Soul Blade Questo è un altro ragione Però Il fatto è che Soul Blade È uno dei videogiochi Però non è Oddio Però In effetti Io Lascio a te Non vi chiedo Non troppo tempo Solo perché È stato più il Dreamcast A creare Guardate Io Ti permetto La sto vivendo come una sfida Ma la sto vivendo Anche come un gioco cooperativo Con gli giocatori Io ti dico Cosa ne penso In totale sincerità Non voglio Non finirà mai Tutto questo Ma va bene Io ho visto questa schermata E mi sono detto Premesso che posso sbagliare Ripeto Mike Non ti voglio No 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 Figurati Ho guardato Ho guardato Soul Blade E ho detto Ho paura di lui Perché è un picchiaduro Esatto Lo so Lo so Però Magari ce l'ha Però Soul Blade Io devo dirlo con il cuore Accetto Guarda Tocco la spina avvelenata Della Della bella addormentata Nel bosco Il Belsab Con 250 punti in meno Ti butti su Soul Blade? Sì Soul Blade era safe Madonna Ah ok Bravissimo Non avrei avuto mai le palle Di fare Easy Easy Soul Blade Safe Zone Simone Eh man Bruta 33 Sono Purtroppo Vedi dopo la sfiducia Di Dino Crisis Shinobi Mi puzza molto più Degli altri Purtroppo Però mi sto facendo Plagiare Dallo show Hai un 007 Shinobi E un gioco dove Si spaventavano le bambole Mi ricordo Sì 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 Si spaventavano Si caricava lo spaventometro Quindi Quale sarà La bomba Io ho scelto Io ho scelto già Qual è la bomba Potrebbe finire adesso Se Simone la pesta O potrebbe finire con Saido Se invece Simone Fa giusto A me piace molto Shinobi Dai Ci sta a perdere punti su Shinobi Ci sta a perdere punti su Shinobi? Sì dai Sono contento Che tu lo pensi così Che tu lo pensi così È vero è un momento Perché li perderai Un Shinobi purtroppo Lo sapevo Quanto ho rischiato No ragazzi perché Cioè Disney e 007 Stessa cosa di Spider-Man Stessa cosa di Enter the Matrix Per 007 Non lo so Io avrei dato più probabile 007 in questo caso Purtroppo Bisogna ragionare di cultura pop Il problema è che noi Siamo dei giocatori Che bene o male Un pochino Ne capiamo del mercato E ne capiamo del videogioco E quindi il tie-in Lo repelliamo a priori Sì sì Pensiamo che è una merda totale Che non può vendere Lo capisco Lo capisco Però in realtà Non è vero Ok Va bene Va bene Perso 500 punti Nel momento in cui accetti Enter the Matrix alla Platinum E Dino Crisis No Allora Shinobi Esatto Scendi a quel livello Esatto Stai nel mindset nostro Non mi ha ancora un po' Dell'umanità Ho sbagliato Va bene così Va bene così Non preoccupatevi C'è l'ultimo Tipologia di elenco Per poi sconfiggere Rag in questa scelta Vedete i giochi Sono tanti Mi piacciono questi giochi Cos'è? 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 Belli questi Ne dico solamente due Perché abbiamo Skyrim ovviamente Di fianco a Limbo In alto a destra Heavy Rain Che hanno dei loghi di merda Per questo round Ma eccoli qua Abbiamo Nier Automata O Automata Ovviamente sotto Skyrim Allora Questa volta I loghi in alto a destra Heavy Rain Vero? Sì sì Heavy Rain Esatto Appena detto Heavy Rain Ovviamente Si partirà da Michele Come ho detto In modo che abbiate Tutte le stesse soldi Ok Ok Fico Dai Ma la direttiva Quale sarà? Questa volta Ho già detto Ci sono 5 bin Hanno avuto un'edizione Deluxe Secondo me È un po' più Da figli di Ok Perché voi dovrete dirmi I 15 giochi Qui dentro Che sono Peggy 18 Oh fuck Bastardo Ce ne sono Pezzo di merda Ti odio Aspetta Questa è cattiva Aspetta Questa è cattiva I 5 Che sono le mine Sono Peggy 16 Basta Non dico nient'altro Tu lo sai che la differenza Tu lo sai che la differenza Tra Peggy 16 e 18 È praticamente politica Vero? Sì sì Sono consapevole Ci sono delle cose Interessanti Ci sono delle scontatezze Ma sono poche Le scontatezze Oh no Apriamo il tutto Le bombe Le bombe sono Quelli che non sono Peggy 18 Le 5 bombe Sono Peggy 16 Quindi ci sono 5 giochi Che vi faranno perdere 250 punti Se scegliete Che sono Peggy 16 Allora io Allora io sicura Io so Una mina al 100% Ma al 100,0% 2 2 ne so al 100% Una è la stessa amico mio Forse tre Forse tre Però è difficile Io per ora Visto che comincio io Vado sul semplice Vado sulla possibilità Di rubare Un'obvietà a qualcun altro Quindi dico Heavy Rain Heavy Rain È sicuro non è Peggy 16 È un Peggy 18 Heavy Rain ovviamente è un Peggy 18 Ha dei temi Estremamente adulti Velli Quindi sì Heavy Rain È safe In quanto Peggy 18 Simone Vado su Detroit Però non sono sicuri Become Human Temi pesanti È un gioco che deve essere Peggy 18 Anche Detroit Become Human E altri 50 Per Simone Francesco Questa musica d'ansia Proprio di guerra Proprio di fuoco Così Che non aiuta Allora io credo che Vabbè non niente Niente Lasciaverlo Stavo per dirti direttamente Le bombe però È troppo cop Così Fate come volete Allora non è È safe Payday Perché fai le rapine Cazzo Non può essere Peggy 16 Quindi Payday è Peggy 18 Sì è Peggy 18 È Peggy 18 Anche Peggy rapine Fai le cazzo di rapine Non è visto di buon occhio Appunto Sono 5 mi hai detto 5 Ok allora io me le segno mentalmente Ma guarda Visto che vi dico già Più tardi L'ultimo Servirà carta e penna Quindi se vuoi già prenderti Carta e penna Per segnare qualcosa Potete tranquillamente Vado a farlo Perché me le segno Un pezzettino di carta Va bene anche un notepad Sì Però sappi che dopo Dovrai farmi vedere a schermo Una cosa Quindi scegli quello che vuoi Ma Allora Aspetta Dovrai andare a prendere una penna Mi hai dato un attimo Sì sì Tanto deve scegliere intanto Francesco Quindi Io ho scelto Scusami Scegliere Mike Arrivo Scusami Scusami Mi sono perso un attimo Dal giro No è un problema Allora È strano a dirsi Ma escluso è quelle di cui Una Cioè diciamo che Tre mine le so Ok Sono 5 Sono 5 E quindi Ho ancora una mezza sicurezza Ho una certezza Diciamo Ma dopo questa L'acqua si farà alla goda Eh O meglio Ho due Vediamo Parto intanto E proseguo con Metro Exodus Metro Exodus È molto safe Anche lì Molto violento Molto Molto adulto Quindi anche lui Peghi 18 Per Tutti noi Aspettiamo il ritorno Da Di Simone Intanto Sai Donia Lo vedo già pensante Quindi Pronti E questo è Ci sono troppi che ancora Penso che possano essere Delle bombe Ragazzi Ne sono alcuni Infatti La maggior parte Mi sembrano assolutamente Era 16 E non 18 Bravo Simone quando vuoi Sono stati scelti con acume Questi giochi Perché sembrano tutti Cioè tutti Quasi tutti Non è per tirarsela Però tutto quello che facciamo Lo facciamo perché Non deve essere né facile Né impossibile Deve essere il giusto livello Di difficoltà Da mettervi a prova Che mi sono perso amici Che mi sono perso Un Michele che ha azzeccato E quindi si torna A te Azzeccato Metro Exodus Giusto Michele? Sì Me l'ha tolto Ok Ci sta Ci sta Allora Fammi pensare Io sono già Nell'indecisione Fondamentalmente E The Division C'ha un paio di missioni Dove c'è gente Che si ammazza Suicidi Quindi vai di Tom Clancy The Division Sì Sei fan che Tom Clancy The Division Per le ragioni esattamente Che mi hai detto Ci sono dei contenuti Incredibilmente Che vanno coperti Sì sì di politica Politica e fantapolitica Quindi Francesco È andata anche via la musica Momentaneamente Eh Comincia a essere pesante 5 mine Che vi fanno perdere 250 punti ciascuna Ricordo dalla chat Mentre Francesco pensa Voi state cercando Di dirmi I giochi Non i 5 giochi Peghi 16 Cioè Quindi mi dovete dire Tutti i giochi Che sono Peghi 18 Allora ragazzi Sapete bene Che io non ci gioco Ne ho parlato Con Mike Credo In chat Mentre lui guardava Una conferenza Quindi io non So un cazzo Di quello che sto dicendo Devo andare Unicamente A senso Consapevole Che possa trattarsi Di un tranello Del cazzo Call of Duty Modern Warfare Call of Duty Modern Warfare Remastered Edition Difficile questo C'è un momento In cui tu Prendi un proiettile Spari E distruggi La testa Del personaggio E nonostante tutto questo Il gioco è considerato Peghi di 16 Un saluto A Imran Zakrev Che nel videogioco Gli esplode il cranio Questo non è sufficiente Per Activision Per renderlo Peghi 18 Infatti è un Eh ci sta ragazzi Ci sta E E così E così A questo punto Devo rischiare Il gioco sotto Warframe Voi lo conoscete Vedo dalla chat Della confusione Devil May Cry 3 Sì 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 No sì figurati Sì no no voi Vedo molti che mi Sì quello è un logo Abbastanza Allora Io ho Ci sono altre 4 Ci sono altre 4 Io ho Sì io ho una lista Ma Eh pure io Io ho due videogiochi Ho un videogioco Che ho come certezza Però Di quelle che ti fanno Un po' paura Quindi lo tengo da parte Per quando c'è un'emergenza Se nessuno lo pesca Voglio fare una delle mie scommesse Un po' sceme Un ricordo remoto Di uno schermo Di una pagina Di una rivista In cui leggo Peggy 18 Di un gioco che sembrerebbe Dove essere Peggy 18 Ma come non lo è COD Questo essendo anche Molto giocabile Molto Divertente Potrebbe essere Semplicemente Brutale Ma non Per maggiorenni Provo Limbo Limbo Si perdono teste La gente viene fulminata Il bambino muore Qualsiasi cosa Ed è Peggy 18 Nonostante non si veda Questa violenza Questa ombra Questa ombra Di suicidio Di questo povero bambino E di morte Di distruzione L'ha fatto entrare Nella Nel safe Nella safe zone Chiamiamolo così Si va da Simone Allora Diciamo che Ho alcune certezze E alcuni dubbi grossi Penso di ormai Dover andare Anche sui dubbi grossi Non penso ci sia qualcuno Che ho la certezza Che sia più 18 al 100% E ormai è fatta Io ne ho due proprio Che 100% Sono bombe Ma proprio Un miliardo Si Quello anch'io Quello anch'io 3 3 4 Visto che tu hai detto COD Sono a 3 anch'io Al 100% Ok Giusto Però The Outer Worlds Mi sa di più 18 C'è molta politica Ci sono dei temi Abbastanza forti Mostro Call of Duty Peggy 16 Così almeno Perché vedo Confusion in chat Assurdo Giusto io faccio vedere Faccio vedere esattamente Le immagini disponibili su E anche Beh no Non serve in realtà Non è stato preso una bomba solo Di Outer Worlds Ah la risposta è di Outer Worlds Ed è safe Anche di Outer Worlds Che è un Peggy 18 Safe Pronti Madonna Tutte io le piglio le bombe Ma No no Hai ancora qualche gioco Un po' Un po' Hot Diciamo Ragazzi Cristo Parla del nucleare Fallout 4 Eh Peggy 18 Ti prego Certo Porca dai Mi riesplodi Per perdere Per perdere Per perdere Ai bambini anche Potete uccidere Purtroppo Su Fallout Io avevo sei dubbi Su Fallout Eh sì sì È bastardo Sì Perché comunque Fallout è colorato Si spara Ma in tanti giochi Si spara E esplodono le cose Però bravo Ottimo Ottimo Ok a questo punto Devo andare In quello Che mi dà una certezza Ma che come Fallout Fallout È molto cartunesco Potrebbe essere Un'inculata Che sarebbe terribile No è giusto Fidati Ok Non lo sa Però parla Di cose piuttosto Hardcore Quindi butto La mia moneta Su Brutal Legend Brutal Legend Il logo Il logo Sa da Peggy 18 E anche il gioco È Peggy 18 Ok Sebbene in realtà Non è che ci sia Tutto sto Però Jack Black Mi hai tolto una risposta Sulla cocaina Sulle prostitute Su qualsiasi cosa Non lo rende proprio Appetibile Al grandissimo pubblico Simone Allora 4.000 left Ho dei dubbi enormi Non ho nessuna certezza più Ho solo dei grandi dubbi E ho delle cose Nella mia testa Sono molto più probabili Di altre Tra cui Just Cosmas Effect Eccetera Vado su Returnal Returnal Non voglio fare spoiler Di Returnal Ma sappiamo che anche Il finale è pesante No 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 Returnal Con mostri Armi Morti Violente E' un Peggy 16 Era 16 Era 16 Nonostante il clima Un po' anche pesante Che si respira In Metti zero Bravo Nonostante il clima Che si pesa E soprattutto Tu Simone Sai Senza fare spoiler Com'è il finale Non è Peggy 18 Returnal Ma è un Peggy 16 L'ha preso allora Era un bastard Da questa Perché io Sapendo Senza fare spoiler Come si evolve il gioco Non si direi mai Il fatto è che il Peggy Non può essere psicologico Eh però ti basi su questo In questo momento Per le scelte anche Eh no Non ho certezza Sì sì No ma purtroppo è così Qui si ragiona Nel miglior modo possibile Sono Sono tre adesso Vero? Sono tre Te le dico se vuoi Allora sono Piccolo momento Nero automata Nero automata Porca d'è Nero automata Me lo aspettavo come primo Peggy 18 Che mi andavate a sparare Eh ovviamente Peggy 18 Anche Eh sì Allora Anche lui Io li ho scelti a sto punto Volente o nolente Vai avanti Vai avanti così Ci sta Si torna Michele Allora Adesso c'è un problema Adesso c'è un problema Perché io non ho mai giocato Non sceglierò questo Non ora Non ho mai giocato Just Cause È talmente divertente E sciocco Che mi puzzerebbe Ma allo stesso tempo Sicuramente gioca con droghe Pazzie Guardi in chissà quale battuta Quindi da qualche parte Sono riuscito a infilarci Il 18 senza senso Tuttavia non lo conosco Non posso fidarmi Di qualcosa che non ho giocato Allo stesso tempo Anche per come è scritto Quello che sto per scegliere È un rischio enorme E potrei cadere Una vittima Veramente Della presunzione Però c'è sesso Per quanto troppo censurato Non lo so Mi puzza tanto di fallimento Ma devo provare Mass Effect 3 Mass Effect 3? È troppo colorato È troppo Più di 18 È troppo vuoto Safe Ah ok Più di 18 Sì Sì Perché è talmente traumatico Quanto finisce male Giustamente Maggia di nuovo Io faccio Mentre tocca di nuovo Simone pensa Chiedo alla chat Un controllo volumi Di musiche Volumi anche dei concorrenti Se è tutto ok Perché mi sia un attimo Sbarellato La dashboard E se mi sentite bene Musica e concorrenti E me Perfetto Bene A posto Grazie mille Nella mia ignoranza totale Da questo punto Della machine poi Dove ho Io ho i tre Sperando che non siano sbagliati Quindi per me Gli altri sono liberi Vado di Skyrim Però non lo so Non ho certezza Su uno di questi A freccia nel ginocchio Skyrim è safe Skyrim è safe Una donna Un secondo Diamo i punti No ormai li ho scelti Sì 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 Ci sta Ci sta Secondo me sono Warframe è pazzesco Perché praticamente Non si vede un cazzo Ed è Peggy 18 In linea con l'impossibilità Skyrim è Peggy 18 Skyrim è Peggy 18 Certo Wow E qua cadono sicurezze No Ero particolarmente Cioè Ok Vabbè a questo punto Just Cause A questo punto L'hai detto prima C'è ragionato E per forza E per forza Anche per flashback E proprio un Peggy 18 Anche Just Cause Oioia Più che altro credo Per forse proprio Il modo stupido Con cui può morire La gente legata A questo punto Io non ho dubbi Ma quanti ce ne sono Di bombe Ci sono tre bombe E allora è ovvio Dai No infatti È easy adesso È davvero In realtà io sono a 50 e 50 Io ho un 50 e 50 Ascolta Ascolta Se non ti dico la risposta Cop Pensa al gioco Pensa alle cose dette prima Pensa all'altro 18 Che ho pescato io Pensa a quello che fanno Dragon Age Inquisition Non si scopra Quindi in teoria C'è il 18 per forza Vai Vai Quindi io vado lì Però Dico che mi sembra veramente stupido Più 16 solo per Sifu Mamma mia Ed è giusto Ed è giusto Ok Ed è giusto Sifu Nonostante premia Ammazzate violente La gente Peggy 16 Devil May Cry Era un po' Scontato Vabbè Se dice Dark Souls Chimina Chimina ho preso io prima Che era Returnal Sì Returnal Ho voluto testare un po' Meno male che mi avete preso Come cazzo si chiama lui Just Cause Perché per me Essendo Red Square Bravissimo È sempre stato un po' giocoso Non me lo so Lo so Va bene Allora No aspetta Ci serve ancora la carta e pene Hai detto prima Se vi ramma Non adesso Regà Dopo vi mostro tutto quanto Ribadisco Qualsiasi dubbio Su domande Le vediamo domani Nella live di background Di Poliquizio Allora Greg muore E Borto il primo Ci sono stati bravi Dai Sì Relativamente bravi Abbiamo Michele a 2008 Seidoni in seguo a 2008 Viking che purtroppo Ha preso tante mine Quindi ha perso Ma io sono lontanissimo Dal maestro Guarda Mi ha preso tre mine Ci sono dei round Dove Simone Potrebbe avere Più Un vantaggio Solo perché L'ha già fatto E Andiamo quindi Nella regione Di Entropi Che è la regione Del tempo Vediamo Quindi il prossimo round Sistemando sempre le webcam Non c'è musica E Questo è un gioco Dove il tempo Perché appunto Siamo nella sua regione È importante E Dopo Io non so neanche Quanto tempo Perché era La cosa più Più bella Che mi hanno sempre chiesto Di far tornare Dovevo tornare Solo con ospiti D'eccezione Avete presente Il gioco finale Di avanti un altro No Ok bene Ok Io vi farò A turno Singolarmente 20 domande Molto Abbastanza semplici In realtà Queste domande Sono molto semplici Vi darò Prima la scelta Quindi vi dirò Sì o no Dark Souls Ha un seguito Ok Però l'unica Differenza È che vi dovete Dare la risposta Sbagliata No È difficile Ok 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 Oh no E noi ci vedete Quindi le due risposte Sì ovviamente Non le vedrete Quindi dovete Semplicemente Concentrarvi A ascoltare me Ok Avrete due minuti e trenta Attenzione Tutte le volte In cui sbagliate Si ricomincia Dalla prima domanda Oddio E quindi vi dovete Ricordare Qual è la risposta In questo caso Sbagliata Da darmi Nella manche Ok È difficilissimo In realtà Mi dispiace Perché Simone Lo vedo non pronto Ma è l'unico Che l'ha fatto Una volta Mi sembra Durante un po' L'equizzo A te Marston Già lo fece Sì però Non è che io Sei andato benissimo In quella manche Non me lo ricordo È andato abbastanza bene Ma non terribile Non me lo ricordo Dico solo Che se Per ogni risposta corretta Ovviamente Data solo la prima volta Guadagnate 20 punti Nel caso In cui chiudiate La zip Cioè chiudiate Tutta la catena Delle 20 domande Anzi delle 18 domande Scusate 18 domande Prendete 300 punti extra Quindi voi potete Prendere 18 per 20 Più 300 Tutto questo In 2 minuti e 30 Le domande Io vi garantisco Vi garantisco Sono un botto di punti Se lo fai bene Sì sì Sono abbastanza Non so quanto fa Sono circa 660 punti Se fate tutto corretto E le domande Sono piuttosto semplici Credetemi Qualcuna è bastarda Perché c'è la negazione E rispondere al contrario Che è totalmente Controintuitivo E quello che ti manda fuori Esatto Dovete stare Io vi do solo il consiglio Di mindset È chill Non fatevi ingannare Dalla presunzione di memoria Di ricordarvi Quando sbaglierete Di dirmi la risposta giusta Invece che quella sbagliata E in realtà Aggiungerei 15 secondi al timer Fedand Perché ci avevo pensato Prima dello stream Quindi aggiungi 15 secondi Perché tutte le volte Che sbagliate Purtroppo non ho un sistema Automatico Di dirvi che avete sbagliato Dovrò perdere Un secondo Per dirvi Sbagliato E questa cosa Mi impapinerà Delle volte Favamo tre allora Scusa Tre minutini Tre minutini Tre minutini Un secondo Per dare la risposta Però avete Meno di tre secondi circa Quindi non potete essere Dovete pensare Negarla E dirmela Va bene Il tester sarà Simone Io chiedo agli altri due Di stare in silenzio Perché qua è molto importante L'audio Non vi muterò Ma tanto Basta proprio un silenzio Simone Respira Pronto? Ci sei? Ok Dimmi che sei pronto E io inizierò a fare Eminem Perché devo farlo Sei pronto? Vai Tre Due Uno Arco o balestra Qual è l'arma principale Di Aloy? Balestra John o Carl Come si chiama Il protagonista Di San Andreas? John H o F Quale rappresenta Il lanciafiamme In Metal Slug? H Tekken o Soul Calibur In quale gioco È presente Brian? Non ho capito Scusa? Tekken o Soul Calibur In quale gioco È presente Brian? Soul Calibur Digimon o Pokémon Quale dei due Ha una versione Su PlayStation 1? Pokémon Ripper Roo O Koala Kong Quale dei due Viene prima In Crash Bandicoot 1? Ripper Roo Sbagliato Arco o Balestra Qual è l'arma principale Di Aloy? Balestra John o Carl Come si chiama Il protagonista Di San Andreas? John H o F Quale rappresenta Il lanciafiamme In Metal Slug? H Tekken o Soul Calibur In quale gioco È presente Brian? Soul Calibur Digimon o Pokémon Quale dei due È una versione PS1? Pokémon Ripper Roo O Koala Kong Quale dei due Viene prima In Crash Bandicoot 1? Quale? Prima o ultima Come si chiamano Le Weapon Di Final Fantasy? Prima Uccidere o risparmiare Cosa non Devi fare Nella Genocide Di Undertale? Devi Risparmiare Sbagliato Arco o Balestra Qual è l'arma principale Di Aloy? Balestra John o Carl Come si chiama Il protagonista Di San Andreas? John H o F Quale rappresenta Il lanciafiamme In Metal Slug? H Tekken o Soul Calibur In quale gioco Presente Brian? Digimon o Pokémon Quale di due In versione PS1? Pokémon Ripper Roo Quale è Kong Quale di due Viene prima in Crash Bandicoot? Kong Prima o ultima Come si chiamano Le Weapon Di Final Fantasy? Prima Uccidere o risparmiare Cosa non devi fare Nella Genocide Uccidere Bombe o chiavi Cosa distruggi Le Tinted Rock? Con le chiavi Dante o Nero Quale personaggio Interpreta Cydonia? Nero Hello o Welcome Cosa dice il mercante Di Resident Evil 4? Hello Sparks o Stark Come si chiama La Libellula di Spyro? Sparks Sbagliato Arco o Balestra Quale è la romana principale Di Aloy? Balestra John o Carl Come si chiama Il protagonista Di San Andreas? John H.O.F. Quale era presente Lanciafiammi Metal Slug? Tecno Soul Calibur In quale gioco è presente Su Brian? Digimon o Pokémon Quale di due Una versione PS1? Pokémon Reaper Roo Quale è Kong? Quale di due Viene prima in Crash Bandicoot? Prima o ultima Come si chiamano Le Weapon di Final Fantasy? Uccidere o risparmiare Cosa non devi fare Nella Genocide di Undertale? Bombe o chiavi Nero Hello or Welcome Cosa dice il mercante Resident Evil 4? Sparks o Stark Come si chiama La libellula di Spyro? Stark Martello o Spada Cosa si usa In Getting Over It? Pada Marcus o Augustus Chi è il protagonista Di Gears of War? Augustus 2015 o 2016 In quale anno E goti Overwatch? 2015 Dici Giusto ma purtroppo Un secondo Non dirò nient'altro Pop! Non male Non male Scusami Ne hai fatte 15 Simo È stato bravissimo È un botto Ma poi Perché ripeto Il problema è Averle al contrario Cioè perché La risposta giusta È abbastanza Facilotta Bravo Ma veramente Clap perché Non era Non è affadito Io faccio un respirone Ogni volta Bravo bravo Bravi Allora Saido Hai capito Come funziona Sì sì assolutamente Più 300 per Per Viking Viking se ne avessi fatti Altre tre Beccavi la zip completa Infatti sto rosicando A sto punto Perché era fattibile Farle tutte Ti dico Mancava Caped o Magman Qual è la tazza blu Su Caped Arcane Studios o Bethesda Chi ha prodotto Più prodotto Deathloop E Grimorio Lesci Chi affronti per primo Su inscription Ah madonna Era fatta Era fatta Era fatta Era fatta Anche abbastanza velocemente Tra l'altro Le sapevi Ci sta E io vado al meglio Purtroppo mi impapino Anch'io Non sono No 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 Va bene No no Meglio di Bonolis No no Poli Sempre Bonolis Mini Bonolis Bevi anzi Tra un round e l'altro Saido Hai capito tutto 2 minuti e 45 18 domande Hai capito come funziona Quando sei pronto Sono pronto 3 2 1 G o F Quale si preme per portare rispetto G Trash o Bash Come si chiama il party game di Crash Trash Sacra o Maledetta La granata di Worms è Sacra Sbagliato G o F Quale si preme per portare rispetto G Trash o Bash Come si chiama il party game di Crash Sacra o Maledetta La granata di Worms è Maledetta Toriel o Flawley Chi incontri per primo su Undertale Sbagliato G o F Quale si preme per portare rispetto Cazzo è vero G Trash o Bash Come si chiama il party game di Crash Sacra o Maledetta La granata di Worms è Maledetta Toriel o Flawley Chi incontri per primo su Undertale Magico Arston Dove si usano le terre Arston 6 o 4 Quante volte è stato rinviato Cyberpunk 4 Sbagliato G o F Quale si preme per portare rispetto Trash o Bash Come si chiama il party game di Crash Trash Sacra o Maledetta La granata di Worms è Maledetta Toriel o Flawley Chi incontri per primo su Undertale Magico Arston Dove si usano le terre Arston 6 o 4 Quante volte è stato rinviato Cyberpunk 6 Spagnolo o tedesco Con quale accento parla Il libro di Takes Two Che cazzo ne so Spagnolo Sbagliato G o F Quale si preme per portare rispetto G Trash o Bash Come si chiama il party game di Crash Trash Sacra o Maledetta La granata di Worms è Maledetta Toriel o Flawley Chi incontri per primo Magico Arston dove Ah è vero Sbagliato Scusami G o F Quale si preme per portare rispetto Trash o Bash Come si chiama il party game di Crash Sacra o Maledetta La granata di Worms è Maledetta Toriel o Flawley Chi incontri per primo su Undertale Toriel Magico Arston dove si usano le terre Arston 6 o 4 Quante volte è stato rinviato Cyberpunk 6 Spagnolo o tedesco Con quale accento parla il libro di Takes Two Tedesco Nefarius o Drek Come si chiama il primo villain di Ratchet Nefarius Druido o Sciamano Quale non c'è su Diablo 3 Sciamano Konami o Capcom Chi ha prodotto Resident Evil Konami Shadowlands o Dragonblight Come si chiama la prossima espansione di WoW Shadowlands Bello o Brutto Come si chiama il Jack di Borderlands Bello Sbagliato G o F Quale si preme per portare rispetto G Trash o Bash Come si chiama il party game di Crash Sacra o Maledetta La granata di Worms è Maledetta Toriel o Flawley Chi incontri per primo su Undertale Magico Arston dove si usano le terre Arston 6 o 4 Quante volte è stato rinviato Cyberpunk 6 Spagnolo o tedesco Con quale accento parla il libro di Takes Two Nefarius o Drek Come si chiama il primo villain di Ratchet Nefarius Druido o Sciamano Quale non c'è su Diablo 3 Sciamano Konami o Capcom Che ha prodotto Resident Evil Konami Shadowlands o Dragonblight Come si chiama la prossima espansione di Warcraft Shadowlands Bello o Brutto Come si chiama il Jack di Borderlands Brutto Nathan o Alan Come si chiama il protagonista di Uncharted Alan Cloud o Squall Chi è il protagonista di Final Fantasy 7 Squall Rathalos o Rathian Chi dei due è femmina Rathalos Argo o Rutilia Come si chiama il cavallo di Geralt Geralt Non ne ho la più pallida idea Rutilia Sbagliato Ma tutti cazzo Ma Cristo Trash o Bash Come si chiama il party game di Crash Sacra maledetta La Granati Worm Se E maledetta Toriel of Laulic Incontri il mio primo su Undertale E Cristo Magic Mannaggia Cristo non penso Ma tutti quelli che non sapevo li ho cannati Mannaggia Mannaggia Bravissimo Non è male 15 come Simo Eh 15 Veramente tanta roba Bravo Ora quello che fa meno di 15 sono io Merda Ok va bene Allora Se mi beccavi Argo Rutilia Era il sedicesimo Poi era secondo o terzo Dove affronti l'Hydra su Hades Quindi il secondo piano Quindi il terzo piano Secondo Ah ok Dark Souls o Bloodborne Quale gioco non possiamo spoilerare Dark Souls Esatto Beh dobbiamo inserirci Lo Bloodborne Perché sennò la gente poi Ci distrugge Certo certo Beh Michele Sei nel bene o nel male Comunque quello con più punti Eh lo so ma Questo è Puoi fare anche peggio Ok C'è tra virgolette Non devi fare peggio per forza Però puoi fare anche peggio Eh Le difficoltà ci tengo a precisare Sono tutte identiche Per tutti voi tre Ok Quindi Hai visto loro Sai come funziona Quando mi dici che sei pronto Va bene Sì Ok Speravo ci Lo dicesse dopo Un secondo Tre Due Uno Bomba o missile Quale di due è telecomandato Su Crash Team Racing Missile Sbagliato Bomba o missile Quale di due è telecomandato Su CTR Bomba Zeus o Ares Chi è il padre di Kratos Ares QR code o codice barre Cosa ha sulla testa Hitman QR code Blanca o Dalsim Quale di due si allunga su Street Fighter Blanca 16 o 20 Quanti sono i colossi di Shadow of the Colossus 20 Forchetto o cucchiaio Che arma è presente in Metal Gear 3 Cucchiaio Viti o tappi Qual è la valuta di Fallout Viti Terza o seconda Di che generazione Pokémon è Zig Zagon Terza Sbagliato Bomba o missile Quale di due Pokémon Quale è telecomandato su CTR Bomba Zeus o Ares Chi è il padre di Kratos Ares QR code o codice barre Cosa ha sulla testa Hitman Blanca o Dalsim Quale di due si allunga su Street Fighter Blanca 16 o 20 Quanti sono i colossi di Shadow of the Colossus Forchetto o cucchiaio Che arma è presente in Metal Gear 3 Cucchiaio Viti o tappi Quale è la valuta di Fallout Viti Terza o seconda Di che generazione Pokémon Ok Sora o Roxas Quale di due non è un nessuno Roxxas Chief o Boss Come si chiama il Master di Halo Boss Arancione o Viola Quale colore non c'è su Guitar Hero Arancione Naughty Dogs o CD Projekt Chi ha prodotto The Last of Us CD Projekt Clicker o Creeper Quale di due è di The Last of Us Creeper R1 o L1 Con quale tasto si blocca su Sekiro R1 Cannon o Cutter Come si chiama l'arma al plasma di Dead Space Clutter Sbagliato Bomba o Missile Quale di due è telecomandato su CTR Bomba Zeus o Ares Che è il padre di Kratos Quercodo Codice a barre Cosa sulla testa Hitman Blanca o Dalsim Quale di due è lunga su Street Fighter Blanca 16 o 20 Quanti sono i colossi di Shadow of the Colossus 20 Forchetto o Cucchiaio Quale è l'arma presente su Metal Gear 3 Viti o Tappi Quale è la valuta di Fallout Viti Terza o seconda Di che generazione Pokémon Zygzak Sora o Roxas Quale di due non è un nessuno Shifo Boss Come si chiama il Master di Halo Boss Arancione o Viola Quale colore non c'è su Guitar Hero Arancione Naughty Dogs o CD Projekt Chi ha prodotto dell'astovas CD Projekt Clicker o Creeper No Creeper Ok R1 o L1 Con quale tasto si blocca Su Sekiro Cannon o Cutter Come si chiama l'arma al plasma di Dead Space Regina o Dylan Come si chiama la protagonista di Dino Crisis 1 Dylan Big Mama o Big Daddy Quale di due è presente su Bioshock Big Mama Ragnoros o Entropy Chi state affrontando ora Ah Ragnoros GG Porca troia Ciao Mike Cazzate come le pigne Madonna Tu pensavi che quella di Dead Space L'avrei saputa solo per Enter the Gungeon E' bellissima Bravo cazzo Tutti quelli che abbiamo testato Nessuno le ha chiusi Le zip GG GG Mike Che Sono 660 È difficilissimo Al contrario È veramente difficilissimo Ragazzi Se volete provarlo Provatelo Quelli che avranno il copio 6 e 60 Quella Guitar Hero Guitar Hero Vabbè sì Ci sono i 5 colori Ovviamente Il coloro non c'è Io ho tirato a indovinare La prima volta Infatti era una delle cose Più difficili per me Quando sbagliavo Dicevo Io non so quella di Guitar Hero Devo ricordarmi Quando ho tirato a indovinare Qual è la risposta E' bravo E' bravo E' bravo Esatto Andiamo però Andiamo dal round Dell'oscurità Della regione Dell'ombra Ovvero Giovanni Ok Sistemiamo le cose E io vi anticipo solo Che questo è stato il round Dove E' stata fatta giusta Una domanda Dai beta test Mamma mia Come? Una sola domanda giusta Nei test Allora innanzitutto Vi spiego Come funziona questo round Perché Giovanni E' un po' un pezzo di merda Giovanni non mette Zizzane E' un criminale Vi mette sempre in difficoltà Come funziona? Allora La sua specialità E' quella di mettere in difficoltà Le persone Sarete proprio voi A mettere in difficoltà Voi stessi o gli altri Segnirete voi Vedrete Di fianco alla televisione Nella sezione diciamo Dei programmi Dove ci sono le viti Vedrete tre argomenti Argomenti si intende Può essere un gioco Un protagonista Uno sviluppatore Una casa di produzione Una saga Quello che volete Farò partire un'asta Che potete Quest'asta la potete rialzare Solo di 50 punti alla volta Quindi potete scommettere Su quest'asta 50 punti alla volta Per chi Si aggiudica L'argomento Tra cui tre Quindi per esempio Viking beta Fa un'asta a 300 Sceglie per sé Uno dei tre argomenti Non solo Non solo ha questo vantaggio Chi beta E chi vince Darà Gli altri due argomenti A suo piacimento Agli altri due Quindi se Viking vince Sceglierà di dare Pokemon A Michele E Dark Souls A Cydonia Per esempio Questi punti Li perdo e basta Bravissimo Allora Ci sono quindi due outcome Chi vince l'asta E chi la perde Chi vince l'asta Spende quei 300 punti Ipotetici 300 punti Qualora Tu mi sbagli la domanda Quei punti vanno persi Per sempre Qualora Chi fa l'asta Chi la vince Vince appunto L'asta E fa giusta la domanda Che si è auto assegnato Prende un extra Di 250 Più I punti dell'asta Tornano Quindi C'è un bel po' di guadagno Nel caso in cui appunto Uno vinca l'asta Chi invece Non vince l'asta Non si deve troppo preoccupare Perché la vincita è 100 punti La perdita è Zero Quindi se perdete l'asta Lo step iniziale Qual è Lo step iniziale Sarà Scommettere Fare l'asta Sui punteggi Ok Quindi Vi farò vedere Tre argomenti Farete partire un'asta A voi Io conto fino al tre Il primo che ha Il punteggio più alto Nella bid È sua Ok Ma parole Sì sì Alzate la mano Mi dite Io ho 200 Io ho 250 Sottolineo I multipli Multipli di Di 50 Di 50 Esatto Ad aggiunte di 50 Non multipli Sì sì Scusami Esatto Vediamo il primo gruppo Primo gruppo È Dark Souls Ok Blizzard Entertainment Ovviamente io riguardo Qualcosa Di quell'argomento Cioè Blizzard può essere Una domanda specifica Su un gioco per esempio E poi Shinji Mikami Sviluppatore Ok Non preoccupatevi qua Sembra tutto A vantaggio di qualcuno Ma sono bilanciati Da questo round in poi Io direi Io ricordo solo Perché poi potete Bettare a quanto cazzo volete Ma io vi dico solo che Se sbagliate la domanda Che è Difficile Ok Sono tutte difficili Sono difficili domande Sono singole Avrete un minutino per ragionare Anche meno E Se sbagliate perdete i punti Cioè non bettate 3000 convinti Che siamo stati bastardi Direi di dare via l'asta 3,2,1 Chi vuole Cosa Ah ok Si può parlare liberamente Sì 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 Soprapposito È un'asta ragazzi E io punto 1000 su Dark Souls Porca puttana Eccolo Oh se non hai messo Pokémon Poli Mi incazzo Stai tranquillo Sai 1001 per Michele 1002 per Michele Mi sembra stupido Mi sembra stupido Porca Io lo sapevo che succede Da sta cosa Allora Michele Intanto scegli Che argomenti associare A chi Quindi a te Per te immagino Dark Souls Allora Se mi è sembrato di sentire Una certa competenza nascosta Quindi Metterò Mikami A Cydonia E Blizzard A Poli Va bene A Poli A Simone Non a me A Simone Scusa King Perché sto giocando a Resident Evil In questo periodo Sarai il primo a rispondere Ovviamente Michele Perché hai vinto l'asta E la sbaglierò E tutti i punti che ho fatto Fino ad ora Saranno per sempre Onta del mio fallimento Su Dark Souls Allora Speriamo di no Prego vediamo la domanda Oppure mi scoppio Però non ne credo Quali sono gli step necessari Per avere E portare Lo spadone di Artorias Al più 5 Questa è una domanda difficile Eh sì Magari questa Simone È difficile Vabbè scusa Allora Io lo so che voi bettate Dipende Caro Poli Dipende Se parli Dello spadone maledetto Dello spadone benedetto L'uno e l'altro Sono diverse versioni Della stessa spada Per esempio Quello benedetto Lo tieni soltanto Con la spada spezzata Più 10 Quell'altro invece Basta uno spadone comune Quello benedetto Del buon sage Oppure di Artorias Che si distinguono In queste due categorie Di LC o non di LC Detto ciò Ovviamente devi portarla Dal gigante Portarla quindi Alla trasformazione Tramite il potere Del suo attenzione speciale Della sua capacità Antica di Anor Londo La città degli dèi Detto ciò Vai a trovare Determinate Titaniti del demone Ce ne sono diverse Le più facili E immediatamente raggiungibili Sono quella che puoi trovare Davanti ad Ander Quelle dentro Science Fortress E volendo Anche quelle dentro Alcuni screen Che puoi trovare Ad Anor Londo Hai già raggiunto Praticamente il più 5 Ma in realtà Se puoi proprio farmarle Andare top tier Senza alcun problema C'è il demone Della Titaniti Che spawna infinitamente He's already dead Peraltro è quello Che abbiamo fatto Effettivamente Nella vetra Con lo spadone Di Artoria Quindi non è vero Che era difficile Dovevo puntare tutto Io non penso Che Io non penso Che servisse Però se volevi Credo che sia corretto Dici Poli Giusto Penso che sia corretto È corretto Sono 250 Per Michele Potrebbero dargliene Di più Perché se ne metterebbe Di più Ma no 250 per Michele Che non lo so Il regista farà I conti di quanti punti sono È corretto Comunque Leggermente overkill Comunque Michele Non serviva Ma scusa Cioè tanto farò Figura di merda dopo Quindi devo fare questo Ricordami A chi avevi associato La domanda di Shinji Mikami A Saidonia Mikami E a me Blizzard Saidonia Sei il prossimo Con la domanda Su Shinji Mikami La perdita sarà 0 La vittoria Saranno 100 punti Elenca tre giochi Di tre saghe differenti Diretti Da Shinji Mikami Ok The Evil Within Resident Evil Non gli ultimi Però purtroppo Sì sì Due saga Basta la saga Non serve il numero Basta la saga Me ne manca un'ultima E non voglio dire Minchiate Un'ultima Di 6 a 2 su 3 Peraltro ne ha fatto Uno di recentissimo Se non mi ricordo male Però non voglio dire Minchiate Hai detto una cosa giusta L'ultimo che è uscito Non mi sfugge Bethesda Ma mi sfugge il nome Ghost White Tokyo Eccolo qua Vai E' una saga Sì In realtà In realtà In realtà va bene Inizialmente potrebbe diventare una saga Da qui in futuro Quindi Lo so perché non l'ho finito Rega Elenca tre giochi differenti Di tre saghe Paradossalmente può andare avanti In eterno Possono essere tre giochi 100 punti per Miche Per Giovanni Sì Giovanni Chi cazzo è Giovanni Per Francesco E andiamo da Simone Che si becca la domanda Blizzard Io ci avrei speso 500 Su questa di Mikami E l'avrei saputa In questo caso Questa non era difficile Vediamo la domanda Quante sono ad oggi Le espansioni di World of Warcraft No Non ho idea Conta Cioè poi Prenditi tempo E come chi vuole essere milionario Puoi ragionare A piacimento Ci sono dei pezzi in mezzo Allora Vai vai Anche ad alta voce Simone Facci Facci sognare No 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 Ci sono Ad oggi È escluso Dragonblight Ad oggi Ok 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 Ce ne sono in mezzo Due che non so se Dico 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 Mist of Pandaria Ce ne sono Ce ne è una bastarda Che purtroppo Non si ricorda mai nessuno Io ho fatto Non dico fatica Ma ci ho messo un attimo Ad arrivarsi Non è una risposta immediata Merda Si sente Riesco a pensare Riesco a pensare A dodici E non so se mi sono perso Dei pezzi in mezzo Mi sembrano poche però Vediamole Sono The Burning Crusade Burning Crusade Frat of the Lich King Cataclysm Mist of Pandaria Warlords of Draenor Legion Battle for Ezio Lei non gliele contare Così dicendo anche il nome Deve dire lui il nome Semmai Scusa Eh ma non lo sa Lui ha detto dodici E è sbagliato No 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 I nomi non me li ricorderai Mi ricordo i temi Mi ricordo chi ha aggiunto Le barricate Sono otto Ah ma che ha già risposto Sono otto Sì sì La risposta è dodici Quindi gli ho detto Che è sbagliato Quindi sono Nessun problema Perdi i punti Scusi Quello in mezzo Tipo Non contano allora I pezzi In mezzo Dove immaginare Espansione Perché tipo Legion C'è Eh no no Quella è la patch Cioè patch note Tipo 8.1 8.2 È un'espansione Espansione è quella Che viene lasciata Ogni due anni Indicativamente Di grossa Ah io credo Se conti quelle Stiamo arrivati Al 25 Anche Cioè ci siamo Molte di più No no Ma vabbè Vabbè Nessun problema Primo giro andato Avete capito come funziona Avete un piccolo vantaggio Tutti Perché ci sarà un argomento Che preferirete ogni volta E vediamo Questo secondo gruppo Che è Pokémon Mercato videoludico Vabbè Esports Vi chiedo solo Di non farmi questo Prego Metto 500 In Pokémon Ma sono disposto A aumentare Puoi scegliere dopo L'argomento No io non tolgo Pokémon a Francesco Mi sembra I fini della trasmissione Ok Magari faccio una figura Di merda anch'io Non so che domanda Rispetto Per i fini della trasmissione Esatto Esatto Lasciamo ok 500 in action Da Francesco Non cambia nulla Vero Non guadagno più punti Perdi di più Se vuoi mettere mille Per mille Ti farei un falso rilancio Ma non Non c'ho No ma no Dai 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 Tranquillo Poi ci sarà Allora Prima di andare avanti Dico una cosa Perché in chat Mi chiedevano Che le soundtrack Dello show Sono esclusive Sono state fatte Di Gabriele Edoardo Che salutiamo Saranno disponibili Ovviamente gratuitamente Con il comando Soundtrack da domani In Soundcloud Disponibili a chiunque Potete ascoltarle Non c'è copyright Di anche il tipo Sono fatte apposta Per i round Saido Sarai il primo Ad aprire le danze Con 500 punti In scommessa Più 250 In caso di vittoria Domanda Tema Pokemon Scegliendo come starter Squirtle Su Pokemon Blue Qual è la squadra Del rivale Alla fine Della Lega Pokemon Sai che in realtà Non la so Allora Se scelgo Squirtle C'è Venusaur Allora E siamo d'accordo Fin qui Ok Stai in culo Non l'avrei mai saputo Questa è da pezzi di merda Ma ci posso arrivare Esatto Questa è ragionabile Raticate muore Vabbè Raticate Raticate muore Quindi Sottolineo Squirtle Su Pokemon Blue Sì sì Vabbè E quindi Venusaur ce l'ha Easy Il primo pick È facile Poi Prendiamo l'Ace Che se non dico minchiate Dovrebbe essere Pidgeot Perché c'è anche in Let's Go Allora Io ti dirò alla fine Io Tengo la squadra Vado a 6 Cioè non ti confermo Né se è giusto Né sbagliato Sono 6 tanto Se non 6 è ovvio Che voglio arrivare a prendere i 6 Esatto Pidgeot c'è Perché è l'Ace Quindi non può non esserci È anche la carta iconica Di Gary Ci devo arrivare a senso ragazzi Probabilmente ci arrivo Ma ci metto un po' Non è a tempo vero? No preoccupate Finché ragioni Vai tranquillo Prenditi il tuo tempo È giusto che tu prenda Allora Quindi Pidgeot E Venusaur Due Ce li hai Che siano giusti o no Io ovviamente te lo confermo dopo Sì sì è certo Io ti devo dire prima Tutta quanta la squadra Sì E poi mi il dici confermo E io ti dico sì o no Ricordiamo che quindi è prima generazione No ovviamente Pokémon Blue Quindi C'è una Evolution Però Quella della carta forse Non ricordo Quale delle Sono indeciso fra due Lasciamo perdere l'Evolution Però Molto celeste Questa colonna sonora Stupenda La metterò per ultima La metterò per ultima È molto bella Da proprio il senso Di stronzaggi E siete lasciati Voi stessi Allora Ce ne sono due Sui quali sono Ti ho detto per ora Pidgeot e Venusaur Mettiamoci anche Dentro altri due Dei quali sono abbastanza Tranquillo Che sono Kazam Alla Kazam Alla Kazam E Dell'anime non mi trae in inganno Ho tanta paura Arcanine Arcanine? Sì Perché è un altro Te ne mancherebbero due Me ne mancano due Quindi avresti Giusto per fare un riassunto Allora Di un altro Ho paura di confondermi con Giallo Perché Per la citazione sul fatto Che è il Pokémon Primo Pokémon Creato della storia Ai tempi Di Capumon Ho capito Quindi il Pokémon Index number Praticamente 0-0 C'è Raidon Però Non mi ricordo C'è un Pokémon Che cambia Dalla terza versione All'ultima Dimmi te Se confermi o no Raidon Io lo aggiungo In caso alla squadra Sì 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 Metticelo Metticelo Allora Te ne mancherebbe uno Se questa è la formazione Che mi vai a dire Allora Li ricapitolo un attimo Perdonatemi ancora Me li sono scritti Venusaur Pigeot Arcanine Mi ne hai detti Raidon Bravo E Che cosa ti ho detto Alla Kazam Vero? Esatto Mi hai detto Arcanine Raidon Venusaur Pigeot Alla Kazam Alla Kazam Te manca uno Se questa è la tua È la risposta poi alla fine Sì no certo Di questi Non dico che sono sicuro Però Ha senso Però la memoria Ti porta lì Ok ci sta Eh sull'ultimo Sono Sono indeciso Io non avrei La più palida idea Non so neanche come aiutarti Sono indeciso Che siete lasciati A voi stessi Sono indeciso Tra due Perché Forse La Evolution Non c'è Secondo te non c'è E sullo slot Della Evolution C'è Arcanine Perché poi è stato cambiato Ok Poi andrò a googlare Dice quindi al posto tipo di Flareon C'è Arcanine Ok Cioè secondo te è così Allora Ragazzi mi butto Ma il modo in cui ci ragionerò È stupido E è un ragionamento fallace Perché non ho questo ricordo di Pokémon Blue Ok Vada Ti dico Per via di Let's Go Pikachu e Eevee Che aveva un sistema unico Di telecamere Che riprendeva Contro i Pokémon molto grandi I Pokémon dal basso Purtroppo una feature Che non ha mai Più replicato Game Freak Anzi poi perdendo le proporzioni Ti dico Geridos Perché ricordo Di aver avuto il mio Pokémon che usavo Ai tempi di Let's Go Contro Questa prospettiva Ok Stupida Di Geridos Ma Ho paura che sia sbagliato Ok Allora Ho paura che sia sbagliato perché Forse c'è Jolteon Mi sto sbagliando Allora Ti dico Quindi ti ripeto Io mi sono scritto questi Tu mi hai detto Venosaur Pidgeot Alakazam Raidon Arcanine Geridos Me lo confermi? Dici La mente questo ti ricorda Quindi Io sarei d'accordo a un 5 su 6 Dimmi Allora pure secondo me Guarda se ne ho sbagliato Ne ho sbagliato uno Ok Allora Anche perché Ripeto ti sto dicendo Geridos Partendo dalla feature Unica di Let's Go Ma non ci sono arrivato a memoria Ci sono arrivato a deduzione Anime Ok allora Mettiamo lo stampo Quindi chiudiamo la risposta Ovviamente Venosaur Domanda stronza Era corretto Pidgeot L'hai beccato Alakazam Easy Per forza perché era il pokemon più forte di pokemon blue Bravissimo Atacco speciale folle E tipo psico Pazzo in culo Perché prendeva da spettro Ma c'era l'unico spettro Gengar Che era veleno Esatto Esatto Poi hai Bella la lettura su Raiden Come primo pokemon Sì quella me la ricordo È la nozioncina Quella che impari Se fai video sui pokemon Esatto Esatto Arcanine Difficile Ma Arcanine E infine Geridos 6 su 6 Davvero Gigi Grande 250 Gigi Gigi Zia Non so come tu abbia fatto Non c'era l'Evolution Venosaur Pidgeot Alakazam Raiden Geridos Joltio non c'è in un gioco Secondo me No vabbè non lo so se c'è Ma in blu Partendo con Squirtle Non c'è Bravo perché la lettura di Arcanine Non so come tu l'abbia fatta Io le ho dette Ne ho dette 5 su 6 Skippando Arcanine In quanto Obblastoise Arcanine E invece Bravo questa non era per niente facile Allora non so dove mi sono sognato Joltio Non è un problema A più 250 Versaido che non perde La bet A chi avevi dato il mercato Non ha segnato Non ha segnato Non farmi questo No ragazzi Io la sto prendendo come un momento fra amici Quindi non farò strategie pazze Darò a ognuno quello che si merita Sperando che i ragazzi facciano altrettanto Come per esempio Ah quindi è una strategia Ma mi ha dato i cami Mike e quindi io ricambio il favore Doi sport a Viking E mercato videoludico Ok sì ci sta Ci sta Ci sta Ci sta Ci sta Mercato videoludico Simone Corretto? No Mike Mike è il mercato videoludico Prima di vedere la domanda Mi dicono Seidone che è in giallo Che c'è Jolteon Ah ecco Allora non me l'ero sognato Non me l'ero sognato Ok Domanda per Michele Allora sul mercato videoludico Vediamo Ok dai Quante milioni di copie Ha venduto PlayStation 2 Con una tolleranza Sulla risposta Di 10 Milioni Non è assolutamente Una domanda troppo stronza Il problema è che io sono in una tolleranza di 30 E quindi sono nella merda Perché Ti dico che in realtà La tolleranza è di 12 Perché Ci sono delle leggeri informazioni diverse Però Noi terremo 10 barra 12 Sappi Allora Ad oggi Io Mi confondo con Wii Mi confondo persino con Switch Per certi versi Perché sono numeri che leggi più spesso Recentemente Ma storicamente Non sto a fare ragionamenti È semplicemente cultura Regressa Ti direi 150 Porca puttana 156 Ah minchia Che Merda Insana 100 punti Eh vabbè dai L'avrei sbagliato L'avrei sbagliato anch'io L'avrei sbagliato 130 io Io avrei detto Secondo Wikipedia Io avrei detto 130 Anch'io come sei donna Perché se ne parla sempre Quando ti fa il paragone con Wii Eh guarda Sono intorno a quel numero lì Infatti è la stessa cosa Andiamo da Simone È per quello Che ho detto Toleranza di 30 Però ho voluto Seguire i ricordi Piuttosto Sì sì ci sta Bravi Cioè questo round Sappiate che le domande sono L'avete visto L'ha visto Francesco Sono stronze Tranne con Michele Che abbiamo aperto Così Ok Andiamo da Simo E Simo mi dovrei dire Dell'eSport Vediamo la domanda A quanto ammonta Il prize pool Più alto Del torneo eSport Ad oggi Anche qui C'è una tolleranza Di circa Sette milioni Ah Ok Quindi hai una cosa Solamente perché Internet è stronzo Scusami bro Non avevo idea Che sarebbe stata questa La domanda Sì 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 Anche per me Io non avrei idea Di che cazzo dire Allora io parto Parto dall'invitational Di Dota Però il problema è che Non sono sicuro Che sia quello più pagato Perché ultimamente E alcuni li ho presentati Io tra l'altro Ci sono dei tornei eSport Ma Per il mercato mobile Che pagano Delle cifre Che non hanno Il minimo senso E ho paura Che ci sia qualcosa Di questo Di questo latino Ok Ci sta Diciamo che Sapendo che la tolleranza È quella Sai che non è un milione Quindi Non sarà un milione No 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 L'invitational Era enorme L'invitational Aveva tutti i soldi Di Dota Nel corso Nel corso dell'anno Una percentuale Finisce nel Nel prize pool totale Vabbè Facciamo Cazzo C'ho in testa Un numero Che è tra 45 e 50 Ok Vero Vai Ma che veramente Fai 47 e mezzo Avrei detto la metà Io neanche Io avrei detto tipo Sette milioni Sì esatto Ma come Ma io avevo sentito Avevo sentito Sopra Cioè Sopra la decina Di parecchio Però Vediamo 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 Cosa mi dici Simone Sto cercando di ricordarmi Un attimo Man Sì sì Fedand Dico solo mentre Pensi Aspettiamo a dare i punti Che spieghiamo sempre le risposte Lasciamo la suspense Se la domanda è giusta o no Fino all'ultimo secondo Allora Price pool Inteso proprio come assegnazione Direttamente il giorno Dell'esecuzione Per esempio Della finale Globale Niente Cose successive Esatto Perché C'è quello sgamello Dei premi in bitcoin No 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 Price pool Quindi dollari Papabili In quel momento Allora ti dico 33 Credo che sia legato All'invitation Tu mi dici 33 Diciamo che hai beccato Tantissimo Il fatto di dota L'invitational di dota 2020 Aveva un price pool Di 2 milioni Messi da loro E di Una cifra devastante Presa dal 25% Per ogni vendita Di battle pass Durante dota Ok La cifra è Ovviamente Levitata in modo Assurdo E simone ci sei dentro Per zero Perché è 40 E tu dicendomi 300 In realtà E qui Apro una piccolina Parentesi In realtà 33 Era intelligente Da quel punto di vista Lì Sulla tolleranza Ci sono tutti i siti Che dicono 40 Tutti Ce n'è uno Se voi googolate Che vi dice 47 Uno Regà uno Io ho dovuto mettere La tolleranza di 7 Solo perché c'è uno Che ci dà contro Ve lo dico Però tutti Wikipedia Tutti i 40 Barra 40 Infatti il primo numero Che avevo in testa Ve l'ho detto Qual era Era intorno ai 40 Bravi Sì Per me la risposta giusta Era intorno ai 40 Esatto 40 milioni di dollari In prize pool Al team Che si vincono circa Quindi 2 milioni e mezzo A testa Ha vinto quindi ognuno di noi Abbiamo risposto tutti bene Tutti avete fatto giusto Quindi ognuno I non vincitori della beta 100 E invece Francesco Tu 250 Tu si come hai scommesso 250 Esatto Perché tu hai scommesso Noi era gratis Per noi era Se sbagliavamo Per noi era gratis Mentre invece tu avresti perso Quello che hai scommesso Esatto Ho capito Ho capito Terzo trittico di argomenti E sono Crash Bandicoat Roguelike E console Quindi qui Minchia difficile Roguelike E console Direi Possiamo aprire l'asta Vabbè Devo farlo per forza Questo è di Simone Devo farlo per forza Ci metto 800 No vabbè Metto 700 Su roguelike Dai 700 su roguelike Per Ah no no È suo È suo È allora ok Provo Ci provo Ne ho giocati 400 Vediamo se mi ricordo Ecco Ok La costa Lo so che è una delle più difficili L'avevo capito No non mi aspettavo Scegliessi roguelike Mi aspettavo E che dovevo scegliere Crash Beh Vi sembra che tu Non sono un grande esperto di Crash Il fatto che abbia fatto Top 20 in Europa Non è che vuol dire Che poi Sei necessariamente Super knowledge A bollo sul gioco Sei forte a giocare Io sono forte A fare speedrun Prima di fare la domanda Simone Quali argomenti Vuoi assegnare a chi? E Oddio E Io non Non ho mai visto Sabaku su Crash Ma neanche Saido Oddio ragazzi Non voglio fare torto A nessuno Effettivamente Non ci ho pensato Quando ho scelto roguelike Eh niente Faccio Crash su Saido E console su Sabaku Ok Perché mi ricordo Ho dei ricordi di Crash In casa tua Saido Quindi tutto Quindi vediamo Su quanto è difficile Ma ci ho giocato Vediamo Va bene Dipende da una domanda Esatto Eh capito Dai 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 Sui roguelike Per Simone Qual è il modo Di avere il secondo upgrade garantito Dai Ad ogni focolare dei cannibali Nooo Nella Casey mod di inscription Che non ci credo Aspetta Anche non giocando la Casey mod Puoi farlo anche durante il gameplay regolare C'è un modo Come leggi Ci sono tutti gli elementi a schermo Eh Il modo per avere il secondo upgrade garantito a ogni focolare dei cannibali Giusto per far capire il contesto Tanto non ho già risposto Madonna che pallotto la che ho scopata Nel focolare Tu metti una tua carta Eh sì sì No la meccanica me la ricordo molto bene Esatto La pompi di più uno Sì me la ricordo La garanzia del secondo Puoi farlo di nuovo Ma c'è il rischio Tipo del 60% Che la carta muoia lì per lì Quindi è grigli C'è un modo per Eh Avere la garanzia al 100% Di questo buff Ehm Mike la sa Mi Leggi bene ciò che le E ciò che vedi a schermo Perché È d'aiuto Il secondo upgrade garantito A ogni focolare dei cannibali Della Casey's Mod A ogni focolare dei cannibali Sì 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 Che cosa succede nella Casey? Qualcosa di diverso dal gioco normale? No 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 Ok È lo stesso Lo stesso Per tutta la banca Nel corso della Casey's Mod Invece Nella modellità campagna Solo per quel tratto Finché affronti Onestamente io ho giocato No Non Non ho giocato alla Casey's Mod Purtroppo è una delle cose che ho In cantiere Che farò sicuramente Ho giocato in Scription Parecchio È veramente un colpo di sfortuna Ma vi posso rispondere io No Come risposta è l'Uroboros Magari si inventa Se ci butti dentro l'Uroboros Ma non credo proprio È intelligente Però purtroppo Non è la risposta È la galligetta Gravata Non penso di poterla sapere Vai vai Mi sembra che la sappia La risposta È uccidere i cannibali Per uccidere i cannibali Devi avvelenarli Per avvelenarli Devi far sì di potenziare Facendo perdere quindi la carta Che sia una vipera Oppure un serpente E che se la mangiano Esatto Se la mangiano Muoiono E poi non ci sono più i cannibali E hai gli after credit gratuito Purtroppo sì Non mi è mai capitata questa situazione Ma di trama è impossibile No era difficile Infatti io solo di trama Ho giocato Di trama A me è capitato per sbaglio Però perché volevo Proprio il velenoso Ma Sì Se lui mangia il veleno I cannibali Muoiono Cavolo Mi dispiace Simone Che stiga Che stiga No problem No problem Posso dire che in realtà C'è una possibilità di recupero Per Simone Adesso non voglio esagerare Ma c'è Ammazza Diciamo che qualcosa c'è Toccava Crash per Sido mi sembra Sì E mi dici Qual è il gioco Crash Esclusa la trilogia Remastered Esclusa? Esclusa cioè Non considerare la trilogia Remastered Perché ha venduto Ok quindi C'è un gioco di Crash Aspetta I primi tre originali valgono? Sì sì Tutti Tranne la trilogia Remastered Ok 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 Allora bella C'è un gioco Crash Che ha venduto ovviamente di più Degli altri Degli altri Qual è Questo Gioco Di Crash È tosta Perché il mercato è cresciuto Negli anni Ma non lo scrivono anche E infatti Io Non lo so Allora Non considerarmela ancora Come risposta Ma distinto Ti direi Warped È istintivo Perché è Il climax Ok Dell'era Crash Bandicoot Naughty Dog PS1 Dopo la quale Secondo me Il titolo Non ha avuto Lo stesso successo La stessa fortuna È passato di mano È anche scemato È arrivato anche Con certe iterazioni Su Game Boy Advance Se ve lo ricorderete Con quel crash grosso Che non ricordo manco Come cazzo Si Si E Sono successe Mille cose brutte Quindi io ti direi Warped Diciamo L'istinto Ti direbbe Warped Quindi il tuo ragionamento Punta in quella direzione Ok Non ho idea però di quanto abbia venduto il 4 Non ho idea di quanto abbia venduto il 4 Ma anche c'è molto recente Oh C'è un gioco di crash Crash bash È un gioco di crash Bash CTR 2 l'1 Contano anche quelli Gioco di crash Tutti crash Può essere Tu mi seniti per dire Quanto ha venduto CTR CTR mi CTR non sommerebbe però l'Aremaster No 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 Ovviamente Separate Ho escluso la teleologia Perché ovviamente da sola Obliterà tutti gli altri Va beh grazie È in un mercato diverso Sì sì esatto E poi E poi sono tre giochi E poi costo di uno Praticamente 40 euro per tre giochi Ovviamente Canonici Eh però allora Perdonami ma qui Mario Kart 8 Deluxe in cima alla Chart Switch Mi fa paura per la controparte CTR Ok CTR No è uno scherzo Era molto più facile da vendere Crash Team Racing Rispetto a un platform Ok Porca la puttana Tranquillo Su fatto che l'abbiamo giocato in tantissimi Non c'è dubbio Quanti avevano la versione piratata E quanti invece l'avamo comprato Quelle Quelle Bello perché anche in chat Allora Secondo me O è Warped O è CTR Eh infatti Perché l'uno No No Cioè se è l'uno Sono sorpreso Il due Ha avuto la Turbo Platinum Ovviamente Però non Non Credo che abbia venduto Quanto il tre Cioè se devo mettere a paragone Il due Eh no Sì 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 Ci sta Ci sta Come ragionamento Ha senso E non so Quanto abbia venduto Il quarto Il quarto è molto più recente Per quanto abbia fatto i suoi È molto più recente Ti dico solamente Che essendo molto più Recente Però fa parte di numeriche E di un mondo Il quattro conta Perdonami Sì È gioco di Crash Assolutamente Gioco di Crash E allora perdonatemi Ma so tre Vai Anche il quattro Ti smettiamo Anche il PC è uscito È un mercato È un mercato Digitale È un mercato Nel quale io posso Collegarmi Sul PSN E comprare Crash 4 Mentre il WordPad Me lo dovevo comprare Negozzino Ci sta Come ragionamento Sì Quindi la tua risposta Francesco Hai ragione Ti chiedo un po' Di chiudere Perché sennò Veramente non Finiamo più Lanci Oh nel peggiore Perdi zero Non perdi niente Se sbaglio Non sei come Simo Per fortuna O per troppo Per Simo Purtroppo Dico CTR Ma potrebbe essere Anche 4 Quindi Allora Ovviamente Scludendo la teleologia Che ha fatto qualcosa Come 12 milioni Di vendite Ovviamente Vedo tanta Anche confusione Con la chat Ok Perché Giustamente Crash È un Conosciuto Sappiamo anche CTR Remastered Anche lì Ha fatto Buone vendite Ma con uno scarto Di 300 mila copie Cazzo niente Quindi Molto poco Al secondo posto C'è Warped E al primo posto C'è Crash Bandicoot 1 Nooo Con 6 milioni Di copie No Crash 1 No avrei sbagliato 100% Warmind Il primo che è scuso No Ma che L'ho d'accordo con te L'ho d'accordo con te Addirittura Una valanga C'è CTR Remastered Ha venduto Zero Rispetto a Questa cosa C'è un grafico Che mostra le vendite CTR dove stava Per curiosità Guarda C'ho proprio Un grafico Guarda Lo recupero Perché lo stavo riguardando Adesso Perché ero curioso Di i tuoi ragionamenti Guarda Abbiamo Bandico 1 Warped 2 Bash Quindi era fanculo CTR Vrat of Cards Era giù Era giù Sì 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 Alla fine Io pensavo che Warped E CTR Eh guarda Perché noi abbiamo amato Così tanto CTR Sì E poi ho pensato I Mario Kart Hanno sempre I Mario Kart di Sony Visto che non voglio Correre Non voglio fare Fax checking Domani No 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 parlo per la chat Perché so che voi Domani le vediamo bene Vi mostriamo tutte le informazioni Da dove abbiamo Cioè ci siamo documentati bene Fichissimo Ecco Che poi tra l'altro Mi fa impazzire questa cosa Perché l'epoca di Crash Era il pieno piratamento Sì esatto Esatto Sì 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 Eppure Allora è l'evento Infatti per quello che ti faccio Vediamo Piratati CTR Esatto Sì 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 Vediamo per Michele L'ultima domanda Della categoria Console Qual è il nome Della prima console Game Mai rilasciata Sul mercato Questa è una domanda Per il Doctor Game Ok Però ti è andata bene Dai un po' È fino ad ora Perché qui Potrei cascare Nel senso Dipende Cioè Allora io qua sono anche Rilasciata sul mercato Sottolineo Quindi che era acquistabile Lo so Lo so Però io Cado un po' Di Ignoranza Specifica Nella distinzione In così tanto Passato Quando non ero ancora nato Tra Una sorta di Ibrido PC E vera e propria console Ok E' quello che sto pensando Anch'io infatti Ecco Appunto Nel senso che ci sono Diverse console C'è L'ascita di Atari L'Odyssey Commodore Ma il Commodore è avanzato Rispetto a Ok E poi c'è Pong Che però Pong è il gioco Non è una console in cui girava Pong Era proprio Pong E qui è un casino Quindi Dove andiamo a parare Dove chiudiamo i ragionamenti Mi chiede In questo caso Mi dispiace Il ragionamento Non è di cultura Memoria È di memoria Su quello che è Semplicemente I video in cui vedevo Il passato più remoto Ok E ammetto di non sapere Se c'è qualcosa prima Quindi Mi pare che fosse diviso Anche in due parti Il nome E mea colpa Non mi ricordo Qual è l'altra Ma so Quasi per certo Che Atari e Commodore Sono i successori Di un inizio di mercato Non coloro i quali Hanno introdotto Sperimentalmente l'idea Ok Sì E dietro L'Odyssey Non vado Non riesco ad andare Non ho niente A parte Pog Odyssey O vai O No No Solo Odyssey Non riesco ad andare dietro Ok Allora Mi fermo lì Era il 1972 Quando venne messa Venne messa sul mercato La prima console Ok Che è proprio La Odyssey Magnavox E' proprio lei Magnavox Magnavox Odyssey Magnavox Non lo ricorderei mai Magnavox Non lo sapevo Va benissimo Va benissimo Questo è solo culo ragazzi Cioè E' il video di un documentario Visto E' però era lì Nella tua testa E' comunque Non l'avrei saputa Non è proprio Non è proprio Non la saprebbero Un minimo di valenza C'è Insomma c'è Allora Ci sono altre Altre due manche In questo round Per poi chiuderlo E andiamo a vedere Ah figo Altri due ce ne sono Sì sì Altri tre Ne stavamo solo tre Totali cinque giri Totali cinque Totali cinque Sì questo è un giro della morte In realtà è ansiosissimo Andiamo a vedere Il quarto gruppo Bethesda Oddio no Sono spacciato Forse Ma quindi si può votare Tutti chi vuole Qualunque cosa ti voglia Voi potete bettare Per non avvenire Per non farvi assegnare Un qualcosa Vabbè allora io provo Per me la fine Provo 400 su Bethesda Abbiamo un 400 e uno Su Michele 400 e due Non posso combattere 500 di Francesco 500 su Picchiaduro 500 Francesco e uno 500 Francesco e due 500 Francesco e tre E se la volta a casa Francescone Allora Mancè Sono Per te 500 punti in bet Nel caso Le cose vadano male Secondo me andranno male Ma comunque meglio Di Bethesda e Cabinati Ok E dopo Seguirei a chi associare cosa Intanto ti faccio la tua domanda Quindi Vediamo la domanda Per il Picchiaduro Picchiaduro Come si fa? Il Burn of the Beast Dai proprio quello L'unica mossa che facevo L'unica mossa L'unica mossa che ha imparato Savako al Pog Incredibile E' l'unica cosa che ho fatto A Hogan giocavo io Attenzione Avrei voluto E' l'unico spam che facevo Secondo solo E' quello di Tekken 3 E' uguale a Tekken 3 Calmi calmi Secondo solo Vabbè ma che ti frega Usa quello di Tekken 3 Triangolo qua sotto indietro Pian 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 Come si fa il Burn of the Beast Megapugno di Paul Su Tekken 7 Non è un punto di domanda Tekken 7 Oddio C'è una combinazione E attenzione Sono spacciato C'è una combinazione di pulsanti Per fare il classico pugno Che fa l'80-90% di HP Questo sembra suggerire Che potrebbe essere diverso Da Tekken 3 No io non ho sentito cosa hai detto Ti sto solo dicendo Focus Attili Fantastico Perché se ti ricordi Ok ora mi capo addosso a dirtelo Ok fantastico Esatto anch'io Ma avrei detto la stessa cosa di Fraio Ricordiamo è il pugno caricato No allora in Tekken 3 Mike In Tekken 3 è quello È quello Non è che lo dico No no è quello Lo so che è quello E lo facevo solo quello io Allora me lo hanno insegnato Ti ricordi Viking Me l'hanno insegnato sicuro Devo solo cercare di ricordare Io so che a livello di PvP È piuttosto rischiosa come mossa Proprio perché È molto facile da counterare E però è mortale Cioè se per errore Un personaggio corre verso il pugno Di Paul Caricato Prende un ulteriore percentuale di danno Che è quasi il one shot Addirittura su Tekken 3 e 2 Mi sembra era one shot Sui primi era one shot Anche non correndogli addosso Sul set fa parecchio parecchio male Allora Io ho ricevuto un tutorial Forse l'avevo anche raccontato Di Tekken 7 con Paul Da dei giocatori fortissimi di Tekken Perché non avevo avuto tempo di giocarlo E quindi tipo un'ora prima del Poggen Mi hanno fatto vedere tutte le mosse Ok Tra le quali c'è sicuramente Anche il Burning Fist Sì Ma se non è Triangolo quadrato indietro È qualcosa di simile Puoi dirmelo Ti vorrei suggerire Ma non No 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 E io Ce l'ho in mente un input simile Su Tekken 7 non lo so Ok No su Tekken 7 non lo so neanch'io Però tendenzialmente Penso a quello che è successo a Scorpion Cioè che E tu mi dirai Che cazzo c'entra Beh vabbè Sono tutti figli Dello stesso Della stessa idea Ai picchiaduri Lo spear no Che prima era back back Poi back forward Quindi qui potrebbe Aver aggiunto un input Oppure mi sto flashando In realtà non è così Ed è uguale e identico A Tekken 3 Io te lo ho detto Non è per metterti confusione Te l'ho detto perché C'è scritto E nelle prove Ci sono resi conto Che la gente ha detto Sembravano due punti di domanda No è Tekken 7 Non voglio metterti confusione Ti dico solo che però È dovevo leggerti la domanda Così come sta scritta Ovviamente Allora Triangolo quadrato ci sono sicuro Ragazzi Però non ve li so dire Con i numeri Va bene uguale no? Sì sì no Dimelo sul pad della play Dell'itbox Triangolo quadrato Ok Se non è indietro Faccio il banale Indietro indietro Triangolo quadrato Mettiamola dentro E scopriamo che è uguale a Tekken 3 Vai Ok Allora il pugno lo ricordiamo Proprio l'azione Era un'azione di carica Into un pugno Ok Quindi Il ragionamento E diventa tutto di fuoco Sì 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 E lui proprio Quindi Proprio tecnicamente Lui va indietro Prima di tirare il pugno Con quadrato e triangolo Come sostiene Francesco Sì Secondo me Entrambi i pugni Sono abbastanza sicuro Ok In Tekken 3 Era solo indietro Ok E Mi piace che tu abbia Invertito il ragionamento Perché è proprio Indietro indietro Quadrato triangolo Che culo Dai Il caricamento viene prima Allora non la merito L'ho presa perché Tu Eh no Io ti ho detto Quello che c'è scritto Mi hai detto Tekken 7 Non Tekken 3 Allora io aspetta Io ho È coerenza Io vi devo leggere la domanda Non ho un aiuto a nessuno C'è scritto così E così Ci sta E ho avuto culo Che fosse proprio Il personaggio Che ho usato al Poggen E quello di quale Mi hanno sculato Ma va bene Quello sì Quello sì Tanta roba Allora mi piace ragazzi Voglio avere una possibilità Di vittoria Quindi do i cabinati A Mike A Mike A Mike Ok Ok Allora Io odio Bethesda Però va bene È che alcune domande Sono difficili Adesso Va bene Va bene Dai ci sta Tanto non perde niente Mike Se sbaglia Io non perdo niente Se sbaglio Va bene così La cosa bella È 1210 punti avanti Il maestro Come faccio È che alcune sono facili Alcune sono difficili Ma alcune sono più di memoria Che ti fotte Come quella di cabinati Che chiede No Quanti cuscinetti da colpire ha Il cabinato di Kenshiro Oh mio dio Oh mio dio Forse lo so Credo di saperla questa Sono indeciso tra 6 e 8 Sono indeciso tra 6 e 8 Perché io l'ho visto dal vivo Ed era spento E non ci ho mai potuto giocare Allora Allora Io riesco a vederlo Io riesco a vederlo Sono laterali allo schermo Sono laterali allo schermo Rossi 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 Vanno avanti Ma soprattutto Voi avete giocato Gigi il guerriero Cianzo Avete giocato Gigi il guerriero Scaricatevi E Gigi il guerriero È bellissimo Di Maio al posto di Kenshiro E menate della gente Bellissima È meraviglioso Sarà da verificare Gigi il guerriero Gigi il guerriero Sì e come dicono giustamente in chat Molto spesso Sono quel numero E sono anche rotti Perché Sì Il mio E quello che ricordo nei miei ricordi Era spento perché era rotto Ovviamente Sì Tutti rotti La gente si Però A fare rage Su quel cabinato Non voglio esagerare Dico 6 Tu risposta è 6 Quindi Michele La cosa bella di questa domanda È che mentre si pensava Sul come farla Mi è venuto in mente Un video di Di Farenz Dove Si chiama tipo Voglia di arcade Che in una fiera Dove sta lui A Modena Mi sembra Appunto c'è questo cabinato E che lui si diverte Proprio nel momento Del A fare un montaggio Con la musica E il montaggio è di 2 4 2 E 6 Ma lo stronzo Il più Non mi viene in realtà Ho capito chi è Todd Ma Non mi ricordo Todd Io lo chiamo solo come Evil Todd E quindi È comunque una risposta Sì sì Todd Howard forse Todd Howard viene in mente Clean Todd Howard Era anche ora nella presentazione Stavio Pulito Pulito Bene Allora Andiamo sul Quello successivo Fedan Non questo Quello dopo Quello lì Ok esatto E vediamo l'ultimo trittico Di argomenti Di questa manche Vai Final Fantasy 8 Oh mio dio Mille su Final Fantasy 8 Chiaro Calmi Un secondo solo E poi Sparia Videoludica E Sparatutto Adesso Vai e dammi gli sparatutto Cioè cos'è Storia Videoludica Allora Storia Videoludica Intendiamo Qualcosa Nella storia Del mercato Videoludico Potrebbe essere Un acquisto di un'azienda Potrebbe essere La prima X Potrebbe essere La prima idea La prima base Insomma Possono essere varie Versioni Ok 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 In realtà In realtà Mi intrigano tutte e tre Storia Videoludica Mi ispira un sacco Perché mi diverte Però facciamo 600 Su Final Fantasy 8 Ufficiale Così magari Vado giù Ok vediamo Non posso fallire Cioè Chiudo il canale La bet va avanti Perché allora abbiamo Un 601 Su Michele 602 Eh fammi ragionare Un attimo Cazzo Eh ma le aste Le aste bisogna essere veloci 601 Sull'uomo Expert 602 700 su sparatutto Cos'è che ha detto No no 100 fa la fantasy 8 Allora niente Ok ok allora te la lascio Mike Non ti voglio far spendere più delle No 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 ma Fammi spendere quanto vuoi Allora Assumelo già adesso Chi vuoi a chi vuoi dare cosa In termini di argomenti Esaudisco i loro desideri Sparatutto Assaido E No Non voleva Sicurario Però è uguale A me va bene Se non perdo punti Mi va bene Qualsiasi cosa Guarda io devo rispettare L'ordine degli eventi Allora Saidonia Francesco mi ha chiesto prima Il suo desiderio Ok E io rispetto L'ordine del desiderio Va bene Insomma L'incalzare E no mi devi dare sparatutto Perché io ti avevo dato cabinati Per metterti in difficoltà Quindi io devo Prendere sparatutto Ah no Io questo punto farò La mia sin Di dolore E farò il buono Per farti soffrire Della tua crudeltà Quindi Ti darò quello che vuoi Ti darò Storia videoludica No E sparatutto Brother Ok Sei Joseph che si ferisce Mentre l'uomo Che bello Possiamo fare una cosa Per la prima volta Solo perché c'è una cosa Un secondo Solo perché c'è una cosa particolare per Michele La possiamo tenere all'ultimo Michele La tua Prima facciamo loro Sono veramente veloci Ah è certo Partiamo da Simone Simone tu hai lì sparatutto Va bene Ok Partiamo da quella di Simone Sparatutto Quali sono E a quante kill consecutive Si attivano Le ricompense di uccisioni Di COD 4 Palesemente 9 Quindi COD 4 Ci sono Non per fare spoiler Però per ricordare Ci sono tre Ricompense di uccisioni Che hanno Un rispettivo Quantitativo Di kill consecutivi Da fare Terminato il quale Vi viene data Una ricompensa Ma radossalmente Se fosse Modern Warfare 2 Lo saprei Esattamente Quello è il punto Io ho giocato Moltissimo Letteralmente Credo di avere Quasi un migliaio di ore Su Modern Warfare 2 Regale Sì Sono vicine Lo so Lo so E dovrebbero essere A parte che Tra l'altro io ho questo ricordo misto Dove si sceglievano Comunque Si Si sceglievano Su COD M1 Non si scelgono Però ci sono Non è per dare un indizio Però dico Ci sono anche in tutti gli altri COD Queste ricompense decisioni Almeno all'inizio Poi le puoi scegliere Come dite voi Allora Porca puttana Allora se non sbaglio Sono tipo Io ho in testa 3 e 11 Ok E ce n'è forse Una in mezzo Ricordati Ricordati Proprio Kill Sai Proprio C'è Pare anche a me Pare anche a me Ragazzi Vabbè No cazzo La Modern Warfare 1 Non l'ho praticamente mai giocato Cazzo Che mi stavi dicendo Poi non ho capito No no Che appunto Tutto quello che c'è Poi su Mv2 E' stato un po' ereditato Da Mv1 Quindi dico solamente questo Ed erano fisse E ovviamente Ecco Le killstreak Soprattutto su questo COD Valgono per le kill Cioè se tu Uccidi qualcosa O qualcuno Con una killstreak Vale per sbloccare quella successiva In alcuni COD Intanto non ti saprei dire Quali sono in realtà Perché mi ricordo L'elicottero a 11 Ok Mi ricordo Che c'è qualcosa a 25 Che però è nel 2 La nuke Ma che non credo Che ci sia nell'1 Ok Quindi non ti saprei dire Comunque cos'è E verso 5 C'è il missilone Ok Tipo 5-11-25 Killstreak C'è proprio la base Era così alta 5-11-25 O c'ho in testo O 3-7-11 O 5-11-25 Dimmi dove ti fermi E io Ti dirò chi sei Secondo me Simo Il 25 non c'è Nel numero del primo No Infatti Allora Aspetta quella dopo Secondo me quella dopo Cazzo duro un pochino Ok Ok Allora Su Quella live di Outer Wilds Di Cydonia comunque Siete un po' per le lunghe Proprio sto cercando È andata così È andata così Allora Io oggi ho fatto live Per dire che non facevo live Allora Mi hai detto 3-7-11 3-7-11 c'è in testo Allora Sì però Modern Warfare 1 Non ho praticamente mai giocato A3 C'è l'UAV UAV Sì Necessario Nerfato poi nei code successivi Per visualizzare Dove sono i nemici nella mappa Tranne quelli sprovvisti di ninja Poi ti direi Missile e elicottero Gli altri due circa Qualcosa Ok Ci sei molto vicino Perché io so a cosa fai riferimento Purtroppo la risposta è sbagliata Su Mv2 C'è un elicottero a 11 C'è un raid aereo a 7 Che sono le rispettive ricompense Ma sono 3-UAV 5 Raid aereo E 7 Elicottero Merda Però questa era semplice Poli Ma è Frenci Non credi Non perdi niente Però Erano così Va bene Ci poteva arrivare perché Su Mv2 è la prima cosa che ti danno È proprio 3-5-7 Con 3 missile E un elicottero Quindi anche missile andava bene come risposta Però purtroppo Così ovviamente Va bene va bene va bene Don't worry Andiamo da Cydonia Che deve dirmi Qual è stato il primo videogioco Rilasciato in convercio E qua Io vinculerò Io vinculerò Dio Dio Questa è tremenda Premetto che non conosco la risposta Io vinculerò Posso provare a buttarne Alcune sensate Ma Escludere Pong Visto quello che sta dicendo lui Assolutamente Assolutamente Non è Pong Pong è il false friend Di questa domanda Ok Quindi che cos'è No questa è cattiva Questa è veramente cattiva Tanto Rilasciato in commercio Sì È molto Rilasciato in commercio Che è invenuta Allora Non è un cabinato Io sarò onesto Non è un cabinato È un videogioco Che può girare su qualcosa Io sarò onesto È in commercio Perché effettivamente Si poteva tipo comprare Ma era Un pochino impossibile E a livello proprio di vendite Quindi È un cabinato? No non posso dire che cos'è Però io dico solo Allora aspetta Aspetta Fermo In commercio Si poteva comprare Esatto Esattamente Si poteva Esatto Anche per il mercato home Esatto Sì 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 Credo di aver capito Proprio a livello Stiamo parlando di cosa È molto 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 sconosciuta Io lo dico Questa secondo me È la domanda peggiore Di tutti questi cinque argomenti Proprio perché in realtà Anche a livello di Come è scritta È corretta ma è sbagliata Cioè è corretta ma è sbagliata No questa in effetti è È tanto giusta quanto sbagliata purtroppo Chissà Questa è veramente tosta Questa è veramente tosta Questa è bastarda In teoria Difficile Per quello che abbiamo detto prima È un gioco di Magnavox Odyssey No? Cioè Però potrebbe anche essere Uno di quei giochi Che in realtà Veniva insieme alla console Mi spiego Secondo me Secondo me è la prima È la seconda È la seconda Cioè è questa che hai detto Non so se Vabbè Magari qualcuno non lo sa Ma c'erano proprio delle macchine Che riproducevano un solo gioco Esatto Non credo sia Quindi non erano neanche propriamente dei giochi E non credo sia di Odyssey Esatto Con dentro un gioco solo Era un gigante Che ti portavi a casa È bravo È quindi Questo è un casino Questa è veramente molto difficile Qua è proprio Abbiamo scelto qualcosa anche per dare una chicca di cultura Ma intanto non perdi niente È sempre quello Esatto Ti è andata bene La risposta è Non lo so Non so che cosa Allora la risposta è che nel Nel 1952 Prototipo di asteroidi Dopo la guerra Nell'università di Cambridge Sì quello Un certo AS Douglas E creò una versione Videoludica Cioè agganciata a un monitor Che poi Era disponibile Ma che praticamente non vendette Per la sua impossibilità di prezzo Che era inaccessibile a chiunque Di Tris E questo gioco si chiama Tris Oxo Non l'avrei indovinato mai nella vita Allora mi ricordo Ma ho capito qual è il cabinato Non lo ricordo Che era Cambridge Non lo ricordo Ma pensavo fosse Asteroid Giusto per dare un piccolo Info aggiuntiva Non è veramente questo Giusto per farvi capire Il vero videogioco Primo Perché il primo vero videogioco Era una versione Legata a un tavolo Con delle lampadine Dove letteralmente giocavi a Tris Però non è videoludico Non è videogioco Perché non c'è un video Quindi non c'era uno schermo Non c'era uno schermo Qua c'è lo schermo Nessun problema Ma francese Non perdi niente Easy No 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 Minchia però difficilissima Eh beh ci sta Quello che dicevo io di Asteroid Era il primo torneo Probabilmente Sabacco aveva 800 bettati Su Final Fantasy No? Sì Ora Prima di mostrare la domanda Io devo dire una cosa Io e il Poli Quiz Show È scritto insieme a un'altra persona Che si chiama Filippo Che salutiamo Che starà guardando il tutto Lavoriamo per due mesi E ha espressamente richiesto Durante la scrittura di questo episodio No no Aspetta Una domanda Io gli ho sfidato A fare una domanda Su Final Fantasy 8 Che potesse Mettere in difficoltà Michele No Io gli ho proprio detto Facciamo così Visto che tu Ti reputi bravo Non te Michele Lui Facciamo una domanda Veramente Bastarda Visto che Vediamo no? Ragazzi non gli fate chiudere il canale Devo finire il The Ring Porca di una puttana Portatemi qua Filippo adesso Vediamo Vediamo la domanda No Quanti colpi infligge Cuore di pietra? Sei un bastardo Filippo Ovvero Lionheart Escluso Questo va detto Il Renzo Kuchen Chiaramente Solo la parte finale Dell'ulti Aspetta un secondo Completo Io ho un numero in mente Aspetta C'è una tolleranza Di due Quindi Ok Allora Aspetta Stiamo parlando Stiamo parlando Della quantità Di colpi Che effettivamente Vengono Sferrati E che quindi si contano Prego Mi aspettavo qualunque domanda Ma non questa Anche perché c'è un grosso problema La Lionheart Cuore di pietra L'abilità della Lionheart È una Mossa piuttosto ripetuta In Final Fantasy Sì E io Mi confonderò tantissimo Con Omni Slash È un casino Perché Omni Slash E Cuore di pietra Non si equivalgono Al numero di colpi E vi dico Io sono indeciso Tra un numero Tra il 20 E il 27 Sì Ok Io sottolineo Escluso il Renzo Kuchen Sì No Altrimenti si superano i 30 Sicuro Dico solo Anche perché Ma poi ragazzo mio Il Renzo Kuchen è casuale Ok No no Quindi È RNG Perché io su questo Io mi sono affidato a lui Cioè io sto facendo una domanda Per la quale non ho le info Guarda Perché la voglio proprio proporre lui No 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 Il fatto è questo Che poi il Renzo Kuchen Deve anche essere affiancato Dalle range giusto Per farti dal fuori Ok Di pietra E magari certi Renzo Kuchen Non hanno più attacchi Rispetto a quello che va dopo Però il fatto è questo Omni Slash Penso che mi stia per scopare Nei ricordi Proprio male Tuttavia Io c'è un numero più basso Eh ma non me la Allora sì Potrebbe anche essere Anch'io ce l'ho Potrebbe essere tipo 14 Cosa del genere Io dico una cosa Che non Non fermarti Alla memoria Di contare le hit Perché Cioè perché quello è Ci sono altri fattori Io sottolineo Purtroppo non lo so Cioè so perché L'abbiamo scritta Ma io sono un portatore In questo momento Non uno scrittore Di Di come raggiungere Questa risposta Basta Non dico nient'altro No beh allora Il Renzo Kuchen Ha delle animazioni uniche Al G-Aktus A Bahamut Blablabla Corri di Pietra È sempre quello Corri di Pietra È sempre quello E non si può fare Un calcolo Su quale boss Muore in tot Corri di Pietra Perché ci sono troppe variabili Puoi anche utilizzare Zero per abbassare la difesa Blablabla Non si può fare Non si può fare Quello che posso fare È buttarmi Perché potrebbero essere Sicuramente Non sono meno Di 14 Potrebbero essere Più di 20 Ok La tolleranza Purtroppo è grave Perché se mi dessi La tolleranza di 4 Ti direi 20 Con sicurezza È 2 la tolleranza La tolleranza di 2 Mi cago E Perché questa è proprio Bastarda come domani Questa era per Michele Qua ti aspettavo Che vincesse Michele Era proprio un test Un po' fanboy Forse addirittura Mi hai messo in difficoltà Ti ha Ti ha Io Ti ha Baraculo Stavolta Cazzi sua Poi Do il numero E lo insulti Pokémon e Final Fantasy Erano stronzissime Eh raga Però posso dire Cioè siete esperti in questo No 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 Noi vi mettiamo alla prova No è giusto Non è che uno Non è che uno Non sa questa Non è che uno che non sa questa Non lo sa No a logica no L'unico modo Con cui potrei arrivarci È andare in trance Tornare a quelle partite E vedere Cuore di pietra davanti ai miei occhi Però Posso anche provarci Perché è uno Due Tre Quattro Poi Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Undeci Dodici Ce l'ho in mente Cuore di pietra È lì che rimbalzo Poi fa Vroom Poi c'è il colpo finale Che fa La morte nera A questo punto La mia risposta Scusate Posso Posso vedere La vostra Nella mia testa Allora Puoi fare quello che vuole Adesso Azzecca Posso dire Esatto Non voglio Non disturbo Michele mentre pensa Parlerò un attimo Con calma Io mi scuso solo Perché doveva durare Tre ore e mezza Manca un ultimo round Ve lo dico E che porca Noi chiacchieriamo Parcomenziamo E tosta E tosta E nei test Sapete che Immaginandomela Appunto A differenza di Omni Slash Mi sembrano meno Porca puttana Eh vabbè Facciamo così Devo usare Guarda Devo fare come ha fatto Simone prima Con Dota Ok Sì Devo Purtroppo però Usare il range Sì sì Vai il range Però fa schifo Quindi dirò 19 Devo andare Nelle due direzioni 19 Allora Io avrei detto 16 Per correttezza Eh lo so Lo so Però Io te l'ho detto Omni Slash Che mi sta scopando Allora Calma Perché può essere 17-21 così Solo che magari Possono essere 16 O 25 Ma lì diventa Ok No È sotto Io ti chiedo una cosa Michele Tu per caso Ti ricordi Quanti danni Quindi fa Lionheart Non posso Non esiste Lionheart Non ha un danno fisso Ragazzo mio Vabbè Quello che succede dopo Cioè alla fine Dell'hit Sai più o meno Quanto è successo Cioè sai dove Sei arrivato a parare In termini di danno Quello Non è così So che So che sembra So che qui sto Barcando i confini Dell'host Ma ti spiego Io purtroppo Io parlo anche a Filippo In questo momento Ok Allora L'unico modo Tu non puoi vedere I danni totali Di una mossa Salvo esempi particolari Come tagliare L'animazione Di anima In Final Fantasy X Ok Chaos D Mi pare che stiano 26 colpi Ok Mannaggia Ho informazioni inutili Nel cervello Se tu guardi l'animazione Ti dà 26 pugni Ok Se tu la guardi Ti dà 26 pugni Se tu Salti Con l'opzione Skip Vedi 2 milioni 560 mila Blablabla Ok Lionheart Sono colpi fisici Che non hanno Bypass della difesa Quindi a seconda del nemico A seconda del fatto Che lo debaffi A seconda della caratteristica Forza A seconda Cioè Non si fa Io ti dico Perché mi era stata Data un'info Che pensavo Si potesse reversare Ma evidentemente Filippo puzza Filo Filo Vabbè puzza Puzza è giusto E Foli che puzza Probabilmente In questo momento Mi dispiace Filippo Allora La tolleranza Era necessaria In questa domanda E Proprio perché Il quantitativo Di danni Che diciamo Noi abbiamo visto Io purtroppo Da babbano Visionato È di 170 mila Per un totale Di 17 colpi Che in tolleranza Risulta Oh mio dio Più 250 È andata ragazzi 250 Ti avrei detto 16 Vedi S'arri stato dentro anch'io Cazzo ma grande Grande Mike Cazzo che pena Bravissima Hai fatto benissimo Usare la tolleranza Meno male che non hai detto 20 Quindi Fillo Vaffanculo Fillo Renzo Kuchen Dopo aver Con il culo Che esca fuori di pietra Dopo che hai castato La magia a zero Eccoci qua Pronti Michele Oblitarà Fillo Questo scusa Mi serviva a me Perché è importante Allora ragazzi Finalmente Possiamo raggiungere la fine Perché Io mi sto divertendo Spero anche voi Ovviamente non possiamo Allungarci troppo Ultimo round Allora Succede che Abbattete tutti Tra gli stronzi Recuperiamo la lore Abbattete i tre Che proteggevano qualcuno O qualcosa E mentre state vedendo Cosa viene protetto Uccidendo Battendo Giovanni Inizia un terremoto Le tre regioni Ombra Tempo e Fuoco Si dividono Dal centro esce Una cupolona Con dentro Appunto Un quarto Una quarta figura Una quinta figura In realtà Perché Pegasus Dell'episodio 1 Questi tre E lui E col terremoto Voi non riuscite A intravedere chi è Si ferma tutto La cupola Per via della mancanza Dei suoi tre protettori Ovvero Giovanni Entropi E Ragnaros Si spegne E da lontano Avvicinandovi poi Riuscite a riconoscere Che è questo quinto Ed ultimo Membro del concilio Il final boss Ed è proprio lui Il timing era giusto Sephiroth Ok Bello Il signor Sephiroth Ok Allora Sephiroth Allora Qui round Intanto modifichiamo subito Il timer Che andrà settato A 50 secondi Qui il gioco Vi serve Carta e penna Ve lo dico subito È diviso in 5 In 5 momenti Ed è una delle due fasi Di Sephiroth Quindi sono due mini giochi Per sconfiggere Sephiroth Ok Ok Bizzardo Allora Giusto per recuperare la lore Sephiroth era colui Che si stava proteggendo In questa cupola Per terminare Questa evocazione Evocazione che non si sa A che cazzo porta Questo round Funziona in questo modo Voi vedrete Nella parte sinistra Di questa tabella 5 indizi O 5 parole Ok Con 50 secondi di tempo Dovrete Collegare quegli indizi Per trovare Quello che è Il soggetto Ovvero Il nome Del videogioco O del personaggio Ok Il nome del videogioco O del personaggio O del personaggio Ok Proprio per essere ancora più espliciti È un po' La ghigliottina dell'eredità Ovvero Voi con 5 indizi Tutti questi 5 indizi Puntano A un risultato Voi in 50 secondi A meno che non abbiate finito Poi mi alzate la mano Così Ma uno a testa? No 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 È uno complessivo Adesso spiego anche il punteggio Ok Voi tutti e tre Penserete allo stesso gioco Per un totale Gioco o personaggio Per un totale di 5 volte Grazie a degli indizi Che vedrete qui Poi La seconda parte di tabella Serve per spiegare Dopo Data la risposta Come funziona Cioè perché Quell'indizio Punta quel personaggio Ok Aspetta Gli indizi ce li dai tu Sì 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 Vi li mostrerò qui Fra molto poco E puntano a un personaggio specifico Esatto O un personaggio O un titolo di un videogioco Ok E noi pensi Ma tu hai detto E voi penserete A quel personaggio A quel videogioco Lo dici Perché noi potremmo pensare A tre cose diverse O è talmente facile Che è scontato Che perché No Se avete del tempo Per raggiungerlo Semplicemente Ok Si dovete pensare Diciamo che ci saranno Delle risposte Che magari potrebbero essere Giuste per voi Perché Sto parlando di carte penna Solamente perché La risposta me la dovete mostrare Perché non è che uno mi dice La risposta è dopo Sido un'altra E Michele un'altra Ah ok Perché come funziona La risposta Qui c'è un prize pool Cioè voi non Avete un punteggio singolo Cioè in base a Quanti di voi Fanno corretto Qua ci sono due di prima Ok In base a quanti di voi Fanno giusto Sostanzialmente Prendete un totale di punteggio Se fa giusto solo uno Si becca novecento punti Ma cosa Minchia Se fate giusti in due Sono quattro e cinquanta Se fate giusti in tre Sono trecento Quindi Va bene Ok Devo sperare che gli altri sbaglino Essere finici a fare bene Per questi cinquanta secondi Non potete parlare Io lascio andare il timer Che vedete qui sotto In modo da capire Direi di Visionare gli indizi Fedan appena li vediamo Poi fai partire il timer Due secondi dopo Perché anche la lettura Degli indizi Se no aiuta Sì Prego E andiamo a quel timer Ma è solo un pc questo? PG O videogioco Mi conto solo uno Sì Non ditelo ad alta voce Scrivetelo E dopo lo mostrate Alla fine Abbiamo Cappello Abbiamo Fabio 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 mi confonde Abbiamo confondito il disco C'è anche me Speranza La torcia O una torcia Torcia Ed infine Spalla C'è È molto più difficile Di quello che pensassi Me l'aspettavo più easy C'è Qualcosa Fabio Mi lascio pensare Alzo leggermente Chi è Fabio? Ragazzi io non ho mai giocato Nessun gioco Con Fabio dentro Non so voi Non è necessario Che ci sia Fabio dentro Eh allora È un indizio riguardo Vi lascio altri dieci secondi Perché era spaisato Il primo lo allunghiamo un po' Fed under reset Il timer Diamo gli altri 20 secondi Di tempo Via Vai 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 Restarta via Vediamo Ma qui non si tratta Io sono a zero ragazzi No anche io ragazzi Ho mai 15 altri 900 punti No 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 Qui 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 Io mi sento In balia Di Dio scherzo del destino Nel senso Mi sento un cane Adesso Questo primo giro Vi sto lasciando altri 25 secondi Cioè conoscendo Poli Fabio potrebbe essere Fable Capito? Ci sta Ma non è un secondo Quale logica Cioè vabbè Fabio Ricordati che però Poli Poli una cosa Una cosa che non c'entra Con questo in particolare Tendenzialmente Stiamo parlando di personaggi O giochi Tendenzialmente molto famosi O potrei andare a pescare Qualcosa estremamente di micchia Sì 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 Allora va bene Non so come Questo primo giro Purtroppo Non vi è andato a buon Nessuno ha preso un punto Non c'è problema Nessuno prende niente Vediamo gli indizi prima Vediamo il primo La spiegazione del primo L'icona dei fratelli bros Il secondo è Un certo Fabio De Luigi Il terzo è Il verde Speranza Il quarto è Il verde Speranza Torcia Torcia È un item A conico Di Luigi's Mansion La torcia È un item Tu di Luigi's Mansion Non mi dici il fatto Di aspirapolvere La torcia È troppo semplice E poi spalla Non fratello Come spalla E la spalla E cultura generale Io ne capisco La sega Della cultura televisiva Non guardala solo lì Raiotto totale Rivolta Rivolta Scusa E ti vogliamo bene No Cazzi vostri Avete capito come funziona Dovete collegarli In un determinato modo Che non è prettamente Del videogioco Perché sennò sarebbe Troppo semplice Quindi Guarda Mike Facci bene a ragionare Fabio Fable È quello Fabio Fable Fabio Fable Pronti Pronti Andiamo col prossimo Togliamo gli indizi Io ho riscritto Torchlight Figura Vediamoli Li leggo E dopo facciamo partire il timer Prima li leggo Collegamento Cinghiale Williams Va che cazzo Equilatero E semi Facciamo partire il timer Non disegnare un pisello però No 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 Ho capito Ho capito perché sono nella mente di Poli Questa è una minchiata Colossale Non è vero Questa è bella Invece sì Questa è una cazzata Aspetta Collegamento Cinghiale Aspetta sì Sì Cinghiale Calmo Aspetta 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 Io vi invidio Io sono a zero idea Lo scrivo Lo scrivo Sottolineo sempre Che può essere Un personaggio Un videogioco E lo dico Anche adesso No ma questa Questa è fatta bene Dai questa è fatta bene No però Quella prima era fatta bene Che non l'hai capita Fra C Scusi No no Quella di prima era bullshit Il fatto è questo È che Mi manca qui là Ah no no Semi No semi Perché semi Vabbè io so cos'è Chiusura In sette Semi Sei Poi ho scritto una roba Ma non credo Quattro Preparate i fogli E mostratemi li a schermo Ok 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 Adesso Ok ce l'ho Abbiamo Uno Zelda Non si vede niente Uno Zelda E uno Sì Io ho scritto Io ho scritto Zelda E anche io ho scritto Zelda Io ho scritto Link Link per Zelda Io ho scritto Zelda Vediamo gli indizi Che erano Collegamento E come si traduce Link In inglese Attenzione Aspettate la fine Esatto La figlia di Robbie Williams La figlia di Robbie Williams E Zelda Equilatero La Triforza E i semi Collezionabili Diretto E mi cos'è Scusami Era l'ultimo Io l'ultimo non l'avevo assolutamente capito Quindi 300 a testa Perché tutti e tre Perché in questo caso La risposta andava bene Sia Link che Zelda Quindi più 300 Aspettiamo un attimo L'assegnazione dei punti E via La Zelda Williams Però gli indizi sono lì Ce l'avete No no Infatti quello mi ha aiutato molto Ti devo dire Zelda Williams Mi ha aiutato moltissimo Cioè è stata Vabbè se non è quello Sbaglio con dell'onore Andiamo con la terza Togliamo gli indizi Di adesso E vediamo I prossimi 3, 2, 1 Let's È difficile da far vedere Però rimbalza un sacco lo schermo Territorio Menu Menù Bandana Spray E terremoto Territorio Menu O menu Bandana Spray Lo spray mi puzza un po' E poi Terremoto ancora di più Terremoto Una di queste Va In una direzione specifica Bandana Spray Non può essere Quello che sembra C'è C'è un punto che ci frega Però se non mi viene in mente Nient'altro Lo scriverò quello Vedo un side Perché si pensano La stessa cosa Eh ma dai ma è una vergogna Scrivere quello È sbagliato 7 Però non mi viene in mente 5 Quindi Sì ma No preferisco non scriverlo Mi sento troppo scemo Ok E allora Vediamo Niente Allora Vediamo Le cose Mostratemi I vostri fogli Sabacumi Sembra di aver capito Che non ha niente Abbiamo per Michele No lui c'ha Pokémon Ce l'ha dietro Io invece ho scritto Metal Gear Solid Oppure Solid Snake Allora No non è Metal Gear Non può essere Metal Gear No non mi viene in mente Niente di più intelligente Calmi Perché Sì perché Pokémon per Cydonia Eh perché ci sono I menu in Pokémon La bandana è uno strumento Lo spray gola Anche il terremoto È un attacco Territorio in realtà Ci sono tanti effetti campo Quindi a mio avviso Si riferisce a quello Eh Menu è un po' forzata però no Eh ci sono i menu Tanti giochi c'hanno i menu no Eh se vuoi anche il ristorante Ci sono i menu per lottare E se io ti dicessi A number nine A number nine large E ti dico big smoke San Andreas E se ti dico che il territorio È quello che conquisti Dopo le gang Nooo Ma no Ma no La bandana è per sparare all'infinito Tipo cos'era Il terremoto è la faglia di San Andreas No No fuori Fuori proprio fuori Va bene va bene va bene Vabbè ci stava anche questa interpretazione Ci stava anche questo Dai ci stava Diciamo che Pokémon è un po' forzato su menu Io avevo detto sicuramente Pokémon Perché ci stava tutto Il menu è il pulcro del cuore di gioco Il territorio ci sono gli effetti campo Spray goal è un strumento È l'arma Però al contempo è anche un collezionabile di San Andreas Cioè proprio punta tanto di San Andreas Ci sta ci sta Va bene Nessun problema Mi sembra di aver capito che nessuno L'ha preso No Nessun problema Andiamo Con il quarto Go Zombie Prigionieri Andiamo col tempo intanto Independence Day Moneta La moneta Il moneta Potrebbero essere varie cose E Lettere Independence Day E moneta È roba di cultura Pop Perché moneta Allora io ne ho una Ispirata da Un indizio Dovete pensare da soli Ma il quarto non mi torna Io purtroppo vado Solo sulle prime due Mi dispiace Zombie Prigionieri Independence Day Moneta Ma forse anche Independence Day for sale Oh mio Forse l'ho preso Forse l'ho preso Perché le lettere I prigionieri Gli zombie ci sono Independence Day potrebbe essere Una Arriva alla fine Michele Poi dimostrami ciò che hai detto No dico solo perché qua Non dovete proprio consigliarvi Perché il punteggio è imparato Moneta no Moneta Non posso Moneta Moneta mi fregherà Ok moneta Anche per me il quattro Abbiamo un Metal Slug Per Michele Per Sidonia Un Metal Slug Anche per Sidonia E per Simone Pacco Stavo pensando a tutt'altro Perché Perché Chiedo a Michele stavolta Perché Metal Slug Perché ci sono Gli zombie Cioè tu puoi diventare uno zombie Se vieni debuffato I prigionieri Liberi Independence Day ci sono delle navi alieni Come boss C'è il 31 dei finali Moneta C'è un'uscitazione E le lettere sono Heavy Machine Gun Se questa Poli Non è Metal Slug È incredibile E se moneta Fosse appunto Il fatto che Su Metal Slug Si inseriscono le monete Per giocare Ah certo Per l'arcade Ah Mr.Foin Ok Zombie L'avete indicato Le lettere sono le armi In Metal Slug Independence Day È nel film Nei Metal Slug X Lui che fa l'uscitazione Che entra nella nave Ed esplode Sacrificandosi per uccidere gli alieni E zombie Si può diventare zombie E i prigionieri Cioè i barboni Che vi aiutano Eh sì Ma quindi Quella di Mario Doveva intimorirci C'era tipo messa psicologicamente Le altre hanno senso La prima no Perché così noi Siamo tutti 4,50 testa Sì è vero Eh no In realtà è che Bisogna capire il trick Forse quella di Mario Andava messa dopo Perché aiutava Sono 450 per Saido 450 per Michele E andiamo Ah no scusate Ce ne sono altre due Scusatemi Sono altre due Altre due Ok Sì 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 Poi ultimo La seconda parte Poi è finito Aspetta che sta facendo La somma dei ponti Che è complicata Perché c'è Michele che ha quei 60 punti Che rompo i coglioni Ogni volta per fare il conteggio Quindi Michele ha già vinto La prossima puntata Calmi Stiamo calmi Andiamo a vedere I prossimi indizi Andiamo un attimo A togliere i Questi Scusate Giustamente c'è un sacco di roba Ogni volta Da attivare Disattivare Chiedo perdono Anche questa soundtrack Che sentite Realizzata dai Dorado Gabriele Sarà ovviamente Downloadabile Ascoltabile gratuitamente Pronti Alfred Lapide Inghilterra Enigmi Paradossalmente Reliquia Non mi sembra Tanto difficile Eppure non riesco a capire Alfred 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 è Io vabbè Io mi butto Questa Io Perché ho letto Io ho già scritto ragazzi L'ho scritto Lapide No senti Non capisco Lapide Ma Inghilterra Potrebbe essere Ah no Mi sa che Vabbè Ok Gli enigmi Ok 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 La o le Reliquie Ci sto Ci sto Questa dovrebbe essere buona Alfred è peraltro Mi devi condotto solo una cosa Alfred purtroppo Non si sa perché Questo è un altro indizio Vabbè Per enigmi e reliquie ragazzi Ma non sono sicuro Vabbè ma dai La sto sparando un po' a cazzo Vediamo le vostre risposte Riusciamo a farlo vedere Vedo un Tombrider Speriamo che tu abbia ragione Vedo un altro Tombrider Ed infine Un ultimo Tombrider Vabbè Questa volta L'abbiamo detto tutti Sicuro Andiamo da Simone Spiegami perché Tombrider Si mi spiegate perché Alfred Lapide Inghilterra Grazie Alfred Vabbè Alfred Perché c'è il maggiordomo Che lo puoi chiudere nel frigo Che è meraviglioso Sì ma sfedand Fermo Faglielo dire a lui Vabbè ormai È andata Eccole qua Vabbè le ho fatti vedere Dai Siamo iniziamo in ritardo Ci stanno Quello non ci avrei mai pensato Mai Non ci avevo pensato Ho pensato alla morte del padre Alla trama Ho pensato a cose Piccola cosa Ieri questo è stato Cambiato all'ultimo Perché ieri Al posto di Lapide Mentre diamo i 300 punti a testa C'era Fenrir Però avevamo paura Che fosse troppo semplice Perché uno dice Che cazzo ci entra in questo Tutto Perché Lara Quindi Va bene È stato cambiato per fortuna Perché se no Era veramente way too easy Ultimo Della Manche Togliamo tutto quanto E andiamo a vedere Gli ultimi Indizi Olio Carte What Argento Droghe E Superman A me viene in mente Una cosa Ma è sbagliata Eh pure a me Viene per l'ultimo Indizio Ma Olio Cosa di oliato Sesso Per esempio Carte Oppure un guenti Vabbè Vediamo Argento Droghe Droghe è un po' particolare Sto rivedendo Breaking Bad Peraltro sta da Dio Ah ho capito Perché Ho capito Superman Ho capito Ho capito Abbiamo avuto ancora 15 secondi Francesce live No No Non ce l'ho ragazzi Io non ce l'hai Ci sono due giochi C'è Superman E ho pensato a Injustice Ma non c'entra nulla Quelle prime quattro Io ho pensato a Saints Row Figurati Abbiamo un time Mostratemi Giocavetemi Sembra di capire niente Abbiamo un The Witcher E un The Witcher Allora Non ci ho giocato Torniamo da Michele Perché secondo te The Witcher Allora Olio perché equivale Agli unguenti Spero che non sia Una sorta di roba Sul sesso Perché mamma mia Già lo strigo È abbastanza Banalotto Sì sì Cardi perché c'è il guenta Argento c'è la spada D'argento Droghe perché loro si drogano Come cavalli E Superman perché Sovrumano No perché lui È l'attore di Superman Ah certo Enrico Ville Ma dai Ma per favore Ha fatto Superman In Man of Steel Lettura perfetta di Michele Che tranne appunto Che in realtà è giusto Anche sovrumani Però è più Per Enrico Ville Sì 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 Quello è un po' generico 4,50 testa 4,50 per Michele 4,50 per Simone Ormai il maestro Irraggiungibile Cioè a 2.000 punti Calma calma La fase 2 di Seyfirot La fase 2 di Seyfirot Mi consentirà di passare Al male E di combattervi Sono contento E poi abbandoniamo Tutto Madonna Siamo veramente in overtime Madonna Mi piace perché abbiamo perso tempo Vi spiego cosa succede Allora Seyfirot Ha provato Vado diretti in aeroporto Tranquillo Ha provato per numerosi Minuti In questo tempo A mettervi bastoni fra le ruote Cioè per Lui voleva ammazzarvi Non ce l'ha fatta E quindi ha detto Sai cosa faccio? Io mi levo dal cazzo Io me ne vado E mentre me ne vado Io termino la mia evocazione Visto che manco solo io E quindi Si va a rifugiare In alcuni posti Si va a rifugiare In alcuni Giochi Anzi In alcuni mondi E qui c'è L'ultimo gioco Allora Qui sotto di me Non li potete vedere Ovviamente C'è Un logo Nascosto Da UBS Dovrete A turno E qui vi servirà di nuovo Carta e pena Solo per segnarvi le cose Farmi delle domande Alla quale Io potrò rispondere Soltanto Sì e no Sostanzialmente In base alle domande Che mi andrete a fare Una a ciascuno E non hanno prezzo Le domande Sarà gratis ogni volta La prima domanda C'è l'unica domanda Che mi fate Dovete chiudere il cerchio Fino a raggiungere Un singolo videogioco Ok? Ok Buona Ehm Vi dico che Allora Aspetta Sintetizzando Noi possiamo Sephiroth Si rifugia In un luogo Che rappresenta Un videogioco Esatto Per completare L'evocazione Mentre voi lo cercate Tramite indizi E noi Da zero Ti facciamo delle domande? Sì Per capire Qual è il videogioco Zero Da zero Non avete nulla Zero Ok Va bene va bene E indovina chi ragazzi A turno E indovina chi Esatto esatto Però Ehm Viking Cioè Viking Saidoni e Michele Avete a disposizione Una domanda Dopo la domanda Quindi dopo che io vi ho detto Sì o no Sottolineo il sì o no Non fatemi Come si chiama il mio protagonista Boh Ok Come si chiama il protagonista Io Avrete il tentativo Se volete Di provare a dare la risposta Qualora mi diate la risposta Corretta Guadagnate 500 punti Qualora la risposta sia sbagliata Ne perdete 200 però Madonna Quindi Merda Se volete puntare a qualcosa Sicuratevi Non spariamo a caso Di non sparare a caso Ricordo che Le domande aiuteranno anche gli altri Quindi Viking fa una domanda Che aiuta Michele E che aiuta Francesco E Francesco aiuta Michele E è una catena E a turno Diciamo Ognuno fa una domanda Può dare una risposta Si passa al prossimo Esattamente Partiremo da Simone Non lo dico per la risposta Un gioco uscito negli ultimi 5 anni Ok Ah scusami No È un picchiaduro No È single player Sì Vi lascio qualche secondo Per scrivervi ogni volta L'info Relativa È da intendere come È solo single player O è anche single player Perdonatela A parte che questa sarebbe una domanda Però onde evitare No 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 Guarda Facciamo così Onde evitare anche il futuro Adesso ti dico È solo single player Ok In futuro E cos'hai risposto Rispetto ai 5 anni No È più vecchio di 5 anni Negli ultimi 5 anni Cioè è più vecchio di 5 anni Tocca di nuovo a Simone Sì Insieme alla domanda Perdonami se ti faccio domande Certamente Tutte quelle vuoi Posso fare domanda E poi dare una risposta O facendo una domanda Mi brucio la risposta No no Puoi farlo Ovviamente dopo la domanda Perché ti aiuti Sì certo Ricordati sempre Sbagliando Meno 2 100 Chiaro Quindi punta quando Avete qualcosa di più o meno chiaro E poi ovviamente Non fatevi però fregare Né dalla avarizia Di volerlo fare prima Ne gridi di andare in lungo E poi qualcun altro Ve la fotte No È un gioco dove A un certo punto Anche per poco tempo Si cambia personaggio Giochi nei panni Di un altro personaggio No 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 Stai facendo una fatica enorme Sì sto facendo fatica Perché è molto specifica Mi sembra proprio di no Quindi Prendilo come un bel 95% No Ah Ok Non si cambia personaggio Nel corso del gameplay Prendi un bel 99 E però Sai Purtroppo Io ho wikipedia qui In questo momento davanti Non sto scherzando Ho le pagine di wikipedia stampate Non si cambia mai personaggio In questo gioco Si rispetto a quanto ho detto A Simone Il personaggio è sempre uno Però ci hai pensato Ci ho pensato solo perché Qualsiasi gioco Magari può capitare Che anche solo per Una sessione Cambi personaggio Quindi È giusto che mi faccia Un gioco nintendo No Ok Ti fa Giusto per capire Se il gioco fosse anche su nintendo E quindi Inteso come multi piattaformi No io ho inteso IP nintendo Ok Quindi Fate proprio la domanda specifica Perché se tu mi domandi Esiste su nintendo Cioè è di nintendo Sì Se c'è anche su nintendo Siete proprio specifici Perché Se no vi fergate da soli Picardo D'accordo Ok Mike Sì Dobbiamo andare Ne dobbiamo fare tante di domande Siamo ancora lontani Sì sì Chiudeteci Siamo ancora lontani D'accordo È un gioco di ruolo No Ok Ovviamente vi lascio fare il circolo Da soli Sapete sempre l'ordine qual è Quindi tocca a Simone Sto pensando Perché il gioco di ruolo Ero anch'io Avrei fatto una domanda Molto simile a Mike Eh Quindi adesso sto pensando A un'altra domanda È un gioco È un gioco Con una trama Molto forte Diciamo se tu dovessi Identificare Come elemento Ti dico Il gioco di per sé O la trama Tendenzialmente è un gioco Che si fa per la trama Ovviamente è un po' soggettivo Diciamo che Probabilmente È story driven Globalmente È story driven No Cioè è riconosciuto per altro Ok Quindi Però È un po' soggettivo Ricordo sempre Perché magari Per me No va bene Io lo gioco Io lo gioco Perché il gameplay Non è story driven Esatto Esattamente Esattamente Diciamo che allora Per come lo intendo Io non è story driven No È in pixel art? No Ottimo Ne abbiamo tolti parecchi Sì Fate domande Che tagliano Cioè È quella della console Questa è stata giusta Sì sì è giusto È giusto che tagliate Ok È uscito su console? Sì Ok Simone Un attimo Sì sì Quindi sì console Ehm 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 È un po' alla volta Si stringe il campo È un triple A Sì 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 Non ne ho la certezza Ma mi sembra Proprio di sì Comunque Ok Ok Allora magari Questa verifica La Sì Sto leggendo Perché è importantissima Allora Ti dico sì Ti dico sì Comunque sì È un triple A Sì Porca troia Sì insomma Ok È una domanda rischiosa Però bisogna tagliare Da qualche parte Quindi Io google Si costruisce In questo gioco? No È un'esclusiva? No Accidenti ragazzi Siamo ancora a fanculo Comunque sì Confermo la risposta di prima Del La non è un'esclusiva Faccio un recapino veloce Più vecchio di 5 anni Non è un picchiaduro Single player Non si cambia personaggio All'interno del playthrough Non è di Nintendo Non è un GDR Non è story driven Non è fortemente story driven Non è in pixel art È su console È un triple A Non è un'esclusiva Che bordello Morca puttana Comunque abbiamo tagliato Tanto Ci sono tantissime Ci sono solo due manche Quindi questa è un'altra Sì sì Va bene No ve lo dico così Dobbiamo prendere tutto il nostro tempo Sì sì Allora Tanto ormai Siamo mezzanotte Quindi Siamo fuori di un'ora Cinque minuti in più Cinque in meno Non è un problema Prendetevi quello che mi serve Mi dispiace per voi Più che altro Perché è andata Un po' leggermente più Ormai oltre Cinque e mezza Non vado a dormire Fammi pensare Bellissimo comunque La chat Perché Giustamente sparano Anche loro E si aiutano Nella chat Ed è molto bella Allora È molto coppia È molto più Su una Diciamo Architettura Tecnologia Eccetera Reale Che non fantasy Quindi fantasy È ambientato nel mondo reale È ambientato in una cosa Verosimilmente Reale Non ultra fantasy E non ultra fantasy Allora I fantasy Anche lì è un po' Così diciamo che di base sì Perché Ovviamente Facciamo un esempio Se c'è un drago Non è fantasy No Diciamo che Verosimilmente È un sì È il perché Però ovviamente È Capisci che è una domanda Un po' Va bene Va bene Cioè Ad esempio Un gioco dove ci sono gli alieni È verosimile Per dire Certo Perché Perché Non ci sono Però potrebbero esserci I draghi sappiamo che invece Al momento ci sono È un action? Ehm Verifico solo perché Voglio dirvi esattamente Cosa che c'è scritto No Fuck Ma che cazzo di gioco è Non è niente No È FIFA Si è chiuso in uno stadio Sto coglione Cosa hai chiesto tu Francesco? Sei un action Gli ha detto no Ok Allora io Chiedo Si combatte con armi bianche? Quindi Mili No La risposta è no Ok 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 Io Adesso qui la risposta è no E ok Il sottolineo solo che si sta dando per scontato Che si combatte però Eh no certo Ok Bambò Cioè Capite che quindi La risposta è Potrebbe essere Sì 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 Io ho fatto una domanda Che ha dato due risposte Top Va benissimo Michele Vi dico solo in più Perché mi rendo conto che qui Le vostre domande vi portano automaticamente fuori Per come le ponete È un gioco Dove C'è una qualcosa di riconducibile A delle loot box Diciamo dove c'è un effetto di Apro una cassa E escono Mille puttanate No 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 Ok No Proprio no È un horror? Sì Oh Cristo Oh Cristo Oh mio Dio Oh mio Dio Adesso Sai do Ti ho detto un sì Il sì diventa Potente Tu volendo adesso puoi fare la domanda Mi sembra di non Di non vederti Pronto No la risposta Aspetta aspetta Stammi ci pensare Siamo ancora in alto mare Siamo ancora in alto mare E gli horror Sono tantissimi Sì 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 Vi sto solo dicendo Ripeto E gli horror dove non cambia il personaggio però Eh sì Cambio una cosa io Ne esclude tanti No ed è un tripla Io forse posso provare a rispondere Se faccio la domanda Prima Michele fai sempre la domanda E poi rispondi Faccio la domanda Il titolo del videogioco È una cronica di quattro lettere? A parte che non so che gioco tu stia pensando Ok non credo ma sarebbe incredibile se fosse quello Eeeh Senti No Tutte Ok no Ah no no Ho capito cosa pensi e no E comunque no Senti È dentro tutte le cose che mi hai detto Ok 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 No no Però ora l'abbiamo escluso Ci devo pensare un attimo perché Eeeh Poi capite Non c'è problema Perfetto Dai Simone Esatto Sì 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 Stavo pensando anch'io Esatto esatto Però non è story driven Non è story Non è fortunatamente story driven Un horror non fortunatamente story driven Nel mio cervello è difficile Questo detona Cioè voi capite che Silent Hill è rozzo Esatto Esatto Ma Silent Hill è pieno di armi bianche Però Anche esatto Sì 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 Story driven sì Diciamo che è un po' lì Ah una storia ma non è importante Esatto Cioè è importante come in ogni gioco Diciamo che Quando pensi a questo titolo Non dici Cazzo la storia Ti ricordi secondo me altre cose Prima della storia Il titolo è composto da due nomi? Sì Provo con Dead Space Merda Merda che culo bro Dead Space Mostriamo il logo Mostriamo il logo Era la mia seconda scelta È proprio Dead Space Perché rispetto a tutto Let's go Era la mia seconda scelta Cazzo Brava La mia domanda sarebbe 500 È nello spazio? Avrei fatto io Esatto 500 punti per Simone Nice Questa Mi aspettavo ancora un giro E invece La domanda di Saido è stata mortale In realtà ti dico che Dead Space è super story driven Eh però C'è io Non lo definirei Super story driven Non c'è un villain di riconoscimento Non c'è Ma sì Devi seguire un percorso Devi seguire un percorso Un corridoio È considerato Quando poi lo recupererò È considerato Anche lì c'è un po' di soggettività È un FPS horror È uno sparatutto Più che un action Io purtroppo mi baso Su ciò che sono state Tante recensioni E Wikipedia Non è un action Da Dead Space Tranquillo Ha senso Come definizione Che non sia action Ci sono degli elementi action Inevitabili Quasi in tutti i giochi Quasi in tutti i giochi Del 2000 in poi C'è un po' di action Però Se io penso Esatto L'uno È più ad atmosfera È più Sì dai Il survival È al limite del survival horror Un Devil May Cry Un Bayonetta Capito Non questo Sì sì assolutamente Va bene Primo peccato È più survival horror Che non altro Vi manca il secondo E l'ultimo Vabbè Non lo devo far vedere Adesso ci penso Perché sarebbe stato Un massacro Saidonia Partiremo da te Vai con la prima domanda Si ricomincia da zero Gira il foglio Riprendete appunti È l'ultima risposta Che mi dovrete dare È un gioco Nintendo IP È un IP Nintendo No 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 Ok E chiudiamo in bellezza Anche secondo me Però Secondo me Ok Single player Sì Ok Ok Non posso farla Questa domanda Io ti posso rispondere Sì o no 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 Perché Se poi Dove rispondere Dove devo aiutare Dopo do aiuto troppo Eh sì Bisogna essere calibrati Allora Perché stai bello Fa parte di una saga Allora No 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 Diciamo no Ah Sì sì Ti butto un no Che mi son documentato No Non fa parte di una saga Preciso Beccato È un titolo unico Che non ha avuto sequel Prequel niente Eh non è detto Perché Ah ok Grazie come no No ho detto Però sai Sai che franchise Sono due cose diverse No no vabbè ok Però Per come ha dato la risposta Ah infatti sei stato bravissimo A specificarlo È giusto Io purtroppo Devo essere dubbioso La mia espressione Da un indizio Perché talvolta Fate una domanda Che è lì Sul bianco E sul nero Sì sì Chiaro No ci giochiamo un pochino È in pixel art No Ok No 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 Io ripenso sempre a tutto Perché No non è forte Niente ragazzi No Vedo in chat Che dicono forti Non mi sembra Single player Quindi È la modalità Che tocca Spervivenza Di Saremmo un po' brutto Non sono perso l'ordine Scusate Tocca mi che Si combatte con armi bianche Ehm Eh sì La risposta È qui È sì Che non è un solo Armi bianche Ma è anche Armi bianche Non si sa Cioè Va bene Da come hai risposto Sembrerebbe un anche Però vediamo Eh facciamo fare anche solo Se vogliamo Però così Le domande sono infinite Prendi un po' di Inte aggiuntivo Perché io magari Dubbio Quindi Ci sta come Non intendo Single player Non è una saga Non è in pixel art Armi bianche Anche armi bianche Ehm Non è forte Niente ragazzi Non Non dire che ci sta bene Non mi sembra La stessa di prima Ok vai Nel corso del playthrough Si cambia personaggio No Stavo per dare una risposta Che non è quella No 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 Stando ho fatto un attimo Un pensiero Ma no 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 Temete per ripercorrere Ogni vostra domanda Prendete tutto il gioco Per ricordarvi ogni cosa Quindi va Va bene Mi serve un attimo Protagonista è una katana No E' un'esclusiva Sicuramente Ehm Si Ok That's nice Si Ok Katana Esclusiva Va bene Di cosa Esclusiva che non fa parte Di una saga Tra l'altro Quindi taglia Taglia di tanto No Dipende da come interpreti saga Cominci ad avere qualche idea Molto vaga Ma vediamo Esatto E io per esempio Tirerei via Capito God of War Non lo metterai Lei in mezzo No God of War è una saga franchise Incredibile È una tecnologia Capito che sono deficiente Però lo so Che insomma God of War Si si Sto pensando a una domanda Ci sono proprio le ultime domande Allora Avete chiuso bene questo giro Però una domanda Che mi mette molto a rischio Ma tanto mi sto divertendo Ehm C'è un forte legame Tra il protagonista E un altro personaggio Nel gioco Ehm Se non è interessante Ehm Sì È quello che ve lo direi io Come facciamo a mettere la stessa cosa Perché lo facciamo Mike Menti geniali Sì Finca vai Sì E allora io ce l'ho Io ce l'ho cazzo C'è un forte legame Ma ce l'ha anche Viking Viking prima di passare No no In realtà Hai risposto di sì? Hai risposto di sì? C'è sì Mi ha risposto di sì Corretto dire di sì Se Viking non vuole fare una domanda Si va da Francesco Che prima mi fa la domanda E poi vede No no Non possiamo averlo Perché ci sono ancora tre scelte Ok Ehm No io non posso rischiare adesso Sono troppi punti Fammi la tua domanda Faccio il ricapitolo un attimo Ricapitolci No IP Nintendo No pixel art Non si cambia personaggio Durante il gioco Ehm C'è un forte legame Tra il protagonista Che non cambia mai E un altro personaggio del gioco È solo single player Si combatte anche Con degli oggetti contundenti Barra armi bianche Precisione totale Sì Possono essere tre videogiochi ragazzi È un problema Perché sono tre Cazzato nero Io devo buttarmi Beh fai la domanda E poi buttati No fai la domanda prima Sai tu No 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 Certo con la domanda Però la domanda in realtà È solo per capire Se posso dare la risposta Ok Vai Vai da La domanda è cruciale qua La domanda poi sarà No Qua è bello Perché adesso Mi devo buttare ragazzi Mi devo buttare Mi butto anch'io Se non lo fai tu Cioè C'è una malattia molto grave Nel mondo di gioco No Mi è andata di sfiga Quindi a questo punto Io ho due videogiochi in mente A me me ne è partito uno grosso Sì certo Anche a me Grazie a te È giusto Il bello di questo gioco è anche questo A questo punto Ne abbiamo soltanto due rimanenti E l'unica domanda che posso fare Io posso accettare di perdere i punti Pur di vincerne altri È Poli Dimmi tutto È Per caso Uscito In Sesta Generazione E ricordami sesta qual è Perché La playstation 2 Playstation 2 Sì E allora l'ho capito Ico Eh ovvio Non è Ico Cazzo Meno 200 What Non è Ico Sono nei guai Sono nei guai Oh cazzo Sono nei guai Sono nei guai Avrei dato la stessa risposta di Mike Sono nei guai Io Stavo pensando al Disease della cronopioggia E a Ico No Io vi devo dire che Io ho voluto separare The Last Guardian da Ico Con la generazione Eh La risposta è mia e corretta Io ce lo Ci tengo a pregiare Che io l'ho risposto correttamente Ok Ok Sì 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 Certo Non so neanche che cazzo di domande a fare Adesso sono totalmente WP da terra Io Sì sì Conosco Ico ragazzi Io posso ancora provare Vediamo So che cos'è Ico Non preoccupatevi Non Lo so Non so Non è quell'Ico Ciao Ico No Partico non è quell'Ico No no So che gioco è Ico Anche sbossi Simone 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 Vorrebbe chiedere È un'esclusiva Mi avevi detto Sì 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 Avevo già risposto prima Sì Eh ma infatti Ho un'altra opportunità Con una domanda specificissima Stavolta È identificabile Anche come platform? No Vuoi dare una risposta? Sto pensando No non voglio Non vuoi darmi una risposta Si va No sono un po' a terra Francesco Francesco cosa mi dici? Cosa mi narri? C'è un'esclusiva PS2 grossissima Che mi viene in mente Ovviamente ti hai in mente Eh ovviamente Però mi sfuggono Sto riguardando Quello che abbiamo scritto E mi sfuggono Rosica Mi sfuggono un po' Se l'avete chiuso eh Sì sì No non è il gioco Di camera caffè Allora Il protagonista Deve salvare una ragazza Sì Dai è fatto Esatto Esatto O era Ico Mi devo buttare Mi devo buttare È proprio lui Sono 500 per Saido È il gioco preferito Giusto per capire Dove andiamo a buttare Se non era lui Era l'altro Perché è vero Che in realtà È una saga Slegata dal nome Ufficialmente Perché io qui mi ero preparato Non è considerato un sequel Un sequel su carta È un sequel spirituale No certo che non è un sequel No 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 In realtà è Prequel e sequel Perché chi ha giocato Sa delle meccaniche No no ma O era zuppa O era pan bagnato Cioè Esattamente Infatti la mia domanda Sul platform Era più Anche per quello Perché comunque Ci sono no Quando devi salire Sui giant Diciamo delle sessioni Quasi platformiche Allora Borderline Borderline Sì sì Ci sta dai E questo era l'ultimo Non ci sono Sotrefugi Io andrei nella schermata Il vincitore Mentre viene preparato Chi ha vinto È solo io No Ed è proprio Michele Ora io Prima di farvi parlare E di dire qualsiasi cosa Vi devo dire Una cosa alla chat Vi prego Veramente Possiamo aprire la chat Sì sì Aspettate Un minuto E guardatevi la fine della live Perché è molto importante Ciò che vedrete Gli ultimi dieci secondi Certo Simone Proprio la parte finale È essenziale Per il 4.000 persone Ma è impazziti Mettiamo pure i nomi Che sono Sono da qualche parte I nomi Non so come siano 4.500 persone Siete impazziti Ragazzi Se l'avessi saputo Avrei sbagliato tutte le risposte Allora Prima di cominciare Prima di chiudere in realtà Di cominciare la fine Dico solo Grazie a tutti Cioè grazie a chi C'è stato qui In primis Vanno ringraziati Vabbè Chi ha supportato Per la creazione dell'episodio Bisogna dirlo Quindi kickstarter Vanno ringraziati Tutte le persone qui in chat E io in realtà Il mio ringraziamento Più che chi lo guarda Siete voi Perché voi Il vostro tempo vale E sapere Di rubare il vostro tempo Sperando di offrirvi Una serata divertente È un rischio Merda E sono contento Che siate qui Ci sei riuscito Ampiamente Prima di lasciarvi Una parola a voi Ricordo solamente Che Appunto Ricordiamo Rimostriamolo anzi Il board game Dove peraltro Voi stessi Se volete Potrete Rinterpretare voi stessi Questa volta Da settembre Ti dico già di sì Guarda Con le vostre skill Con le vostre Abbiamo già programmato Che giorno Perché settembre È una merda Per me però È un episodio anche Tutto questo peraltro È ben studiato C'è un regolamento Degli livelli Ribadiamo ancora La cosa del level up Le skill Le build Di vostri personaggi Ringrazio ancora Ricordo sempre Il quiz di settembre Che sarà invece Completamente slegato Perché sarà una cosa settimanale Alla Jerry Scotti Che è Polybeatdown Che ne parleremo meglio domani E ricordo appunto Domani il fatto Che ci sarà una live Alle 18 di Background Di ogni spiegazione Di ogni domanda Del perché abbiamo fatto questo Di cosa è successo E qualcuni sanno Che questo quiz Sette giorni fa Era il 50% diverso E capirete meglio Il perché domani Adesso posso ufficialmente Dire che ovviamente Ho perso di proposito Perché volevo vedere la finale Merrino Moccia Sapare E questo Eccoci E' chiaro E' chiaro Che ho sbagliato Di proposito Un paio di mine In quel Quella cosa di merda Sicuramente Il che saido Ok Ora I ringraziamenti Saranno fra poco Perché chi ha supportato Quel Kickstarter C'è un video di ringraziamento Per ognuno di voi Che è collegato A una cosa Devastantemente importante Per la finale Proprio gli ultimi secondi Ci sarà un'anticipazione Di ciò che vedrete Nella finale In modo piuttosto epico Io ringrazio tutti Chi ha lavorato Dagli scrittori Alla parte grafica Alla musica Che state sentendo A chi mi ha dato una mano Filo, Enrico, Smuki Fedan del Registra Chi ha realizzato questo Smuki sei un figo Ti scoppo No 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 Nel senso Ti rispetto molto Io dovrò purtroppo Per fortuna Avere l'indirizzo di Michele Un attimo Perché io ti spiegherò Questo piccolo Questo piccolo pad È tuo Cioè sarà tuo È brandizzato Su Poliquizio Grazie Ovviamente con loro Fatto da un collega E ragazzi Io spero che voi vi siate divertiti Cioè veramente Per me è la cosa più importante Da morire Lavorosa Tantissimo Tantissimo Grande hype per la finalissima Oltre che per gli altri progettivi Grande hype per la finalissima L'hype salirà fra poco Simone Va bene Va bene Io va bene Non voglio prendervi tempo Per feedback in diretta Io spero che vi siate divertiti Voi che non lo conosce Cioè che non sapevate Che cazzo fosse Prego prego È semplicemente bello Vedere che su Twitch Esiste una cosa con questo Vero Fa piacere Sono d'accordo Sono d'accordissimo Bellissimo Bellissimo Tutto Bellissime anche La maggior parte Delle domande Hai capito Mario e da galera Dovresti andare in carcere Ma per il resto Quella su Luigi's Mansion Non andava bene per niente Sempre lì a puntualizzare Sto scherzando Era tutto veramente Veramente figo Poli Ok Un enorme ringraziamento Per avermi invitato A questa cosa meravigliosa Pur sapendo già Come sarebbe andato a finire Vabbè Simone E te ogni volta Facevi lo sborone Le so sempre Stavolta T'ho messo con gli bravi E t'hanno ingolato Giustamente Ci sta Ragazzi Outerwise Come fa a fallo Che è mezza notte e venti Devo andare a dormire Allora Ringrazio ancora voi Che devo fare la valigia Ringrazio tutti Io vi chiedo anche a voi Solo veramente Due minuti di una clip finale Che spoiler Le cose che sono più utili Per Michele Ma anche per la community Di Simone E di Francesco Perché la finale sarà Dario Mazzio Merrino e Sabaku Io non lo so Morirò domani E E Mi sa che ci sarà qualcun altro La finale Buona serata No Che senso La clip finale No no Che c'ha C'ha un ospite Ha chiamato qualcuno Stomato Godetevi Il finale Muto Sentiamo la musica Della clip E ci sentiamo fra Due minuti A voi Perché poi la live Stacca Guarda quanta gente Quanto Quante persone Grazie a tutti ragazzi Per aver supportato Qui Arriveranno anche le altre Ricompenso ovviamente Grazie a tutti questi Sono tutti coloro Che hanno supportato Questi episodi Hanno creato questo E anche quello Che state per vedere E anche il board game E anche il Polybeatdown Che vedrete a settembre Tutto quanto Che è già tutto pronto E che c'è di mezzo agosto Porca troia Che non si fa niente ad agosto E adesso Preparatevi Perché qua Cazzo Durissimo Anche in chiusura Buona visione Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Sarebbe proprio Un peccato Se non fossero Soltanto in tre Alla fine Buona serata Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti